Gli auguri di buon compleanno all'assessore Luciano Messa che oggi spegne una candelina in più dell'anno scorso. Nominano gli scrutatori, Bergesio, Ambrogio, Marengo. Allora iniziamo come di consueto con le comunicazioni da parte del sindaco e poi da parte mia. Prego sindaco. Buonasera a tutti. Le comunicazioni questa volta sono purtroppo comunicazioni che danno una sequenza di notizie luttuose che hanno caratterizzato parenti di nostri dipendenti. Il signor Apa Angelo, papà dell'ispettore di polizia Giuseppe Apa. Il signor Curti Giovenale, papà del dipendente Fabio Curti, responsabile del turismo. Il primo febbraio il signor Albanese Sebastiano, papà del dipendente Enrica Albanese dell'ufficio economato. Ieri è mancata la signora Lanza Pierina, mamma della dipendente Chiara Griseri dell'ufficio Anagrafe. E poi ci sono delle persone che vogliamo ricordare. In particolare è mancato improvvisamente il cavaliere Biagio Raballo, già presidente della banda cittadina Giuseppe Verdi. E permettetemi un ricordo particolare di Don Ferrero, il cui funerale si è svolto lunedì della seconda settimana, che ha rappresentato per la mia generazione negli anni più importanti della formazione è stato ricordato con una presenza molto significativa di braidesi che sono stati presenti al suo funerale. Credo che si unirà, ma lascio al presidente il ricordo di Don Casetta per tanti anni, insegnante alle magistrali. e credo che questo sia un elenco piuttosto cospicuo di lutti che hanno colpito la nostra città. Insieme a questo mettiamo una notizia positiva. la partecipazione della consigliera Marina Isu alla assemblea delle città della fraternità e la premiazione del comune di Iglesias quest'anno tra i comuni premiati per i progetti di fraternità posti in essere. Sì, mi ricollego alle parole del sindaco per le condoglianze nei confronti dei familiari dei defunti che parenti, comunque amici o conoscenti della nostra città e unisco a questo anche un ricordo di Don Giuseppe Casetta. Don Giuseppe Casetta non era braidese perché era nato a Montadalba ed era residente a Cherasco dove era parroco, dove fu parroco per oltre 50 anni delle parrocchie della frazione dei Picchi e di San Giovanni. Ma moltissimi braidesi lo ricordano perché fu per 40 anni docente di filosofia, pedagogia e scienze dell'educazione nell'allora istituto magistrale San Giuseppe, legalmente riconosciuto, poi diventato liceo socio-psicopedagogico e linguistico. Chi vi parla l'ho avuto come collega per molti anni. Ci dividevamo sostanzialmente nella cattedra di filosofia e di scienze dell'educazione e di pedagogia. Persona molto colta, molto affabile. Un personaggio, possiamo dire, che per Cherasco ha rappresentato un punto di riferimento per moltissime famiglie, non solo i suoi parrocchiani, ma in generale per l'intera comunità cheraschese. Si è spento nella casa di riposo di Narzole, tre settimane fa, all'incirca, all'età di 96 anni compiuti. Era nato il primo gennaio del 1922 e ha insegnato a generazioni di attuali insegnanti, a loro volta, in particolare della scuola materna e della scuola elementare di Bra, ma non solo, della zona anche dell'Albese, del Sommarimese, del Cheraschese, di Dogliani, eccetera, eccetera. Quindi mi sembrava opportuno che in questa sede si ricordasse il suo insegnamento e il suo ruolo. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, la mia è una comunicazione meramente tecnica. I consiglieri comunali loro arrivano, ho trovato il loro posto delle fotografie, non sono nient'altro che l'allegato all'interrogazione che è stata catalogata con il punto 2 barra 4, che per motivi tecnici non sono arrivati nell'email. Le ho già inoltrate precedentemente per poter dare un senso all'interrogazione. In questa sede le ho messi uno per copia ad ogni singolo consigliere. Grazie. Grazie consigliere, io stesso l'avevo ricevuta da parte sua, con un atto di cortesia, la ringrazio via email. Sono arrivate, di sicuro, però di qua sono sparite, però sono arrivate. Sono arrivate e adesso ritorneranno, penso. Ci sono ancora delle altre comunicazioni o proseguiamo? Non ci sono comunicazioni, quindi incominciamo il corposo capitolo delle interrogazioni. Prima di esaminare quelle arrivate in prossimità del Consiglio, della convocazione, bisogna procedere alla risposta per riassunto al diritto di replica di due interrogazioni presentate nei mesi scorsi. La prima, datata 20 novembre 2017, aveva per oggetto il pagamento elettronico dei ticket sanitari ed era stata inviata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere Claudio Allasia. Partendo dal fatto che dal primo gennaio di quest'anno era stata espressa intenzione dall'Asl Cuneo 2 di non accettare più i contanti per il pagamento dei ticket sanitari dovuti dagli utenti, il consigliere Allasia faceva alcune considerazioni, tra le quali parlava di una maggiorazione dei costi per coloro che non riusciranno o non potranno adeguarsi nei tempi di attuazione previsti al pagamento che sarà esclusivamente digitale. Il consigliere interrogava il sindaco e la giunta se non fosse utile richiedere all'Asl di prevedere invece di un passaggio veloce alla sola forma diretta di pagamento ammesso in forma digitale prevedere un periodo di transizione dove questo passaggio sarebbe stato più facile. E in secondo luogo se non ritenessero opportuno agire sempre presso l'Asl affinché il pagamento in contanti come quello digitale non andasse a incidere in maniera onerosa sugli utenti considerato che sono soprattutto gli utenti più deboli, tra virgolette, che hanno difficoltà nell'utilizzo dei pagamenti elettronici o addirittura che non ne hanno mai fatto uso chiedendo altresì anche una maggiore informazione a favore dell'intera popolazione. E a stretto giro di posta con protocollo dell'11 dicembre del 2017 aveva risposto il direttore generale dell'Asl Cuneo 2, dottor Danilo Bono. In questa risposta spiegava le motivazioni e sosteneva che in primo luogo l'azienda sanitaria aveva ritenuto di innovare la modalità di pagamento per le prestazioni organizzandola in questo modo. Dal primo gennaio i pagamenti allo sportelli di Via Goito e dell'ospedale Santo Spirito potranno essere eseguiti con ogni tipo di carta di credito, banco, matto o prepagata. Nel mese di febbraio i pagamenti saranno possibili anche attraverso le casse automatiche, sempre nelle due sedi che ho citato prima, con l'assistenza di un operatore. Questi nuovi strumenti, una volta regime, permetteranno anche la richiesta di copie di cartelle cliniche, la stampa dei referti, eccetera. E anche le casse automatiche accetteranno esclusivamente banco, matcarte di credito e prepagate, anche però nei giorni e negli orari in cui gli sportelli saranno chiusi. Inoltre, nel caso in cui il cittadino sia impossibilitato a provvedere al pagamento attraverso un qualsiasi strumento elettronico, l'ASA ha comunque studiato delle soluzioni. Si potrà ritirare a qualsiasi cassa dell'ASA un bollettino di conto corrente postale interamente preimpostato, presso qualsiasi ufficio postale potrà essere effettuato il pagamento in contanti, e in corso di attivazione anche il sistema di pagamento cosiddetto MAV, attraverso il quale si potranno pagare i ticket anche in contanti presso le sedi bancarie. Inoltre, la Regione Piemonte si sta attivando per far sì che tutte le aziende sanitarie possano, dal prossimo anno, offrire anche il metodo, quindi da quest'anno in corso, perché la risposta è ancora del dicembre del 17, offrire anche il metodo di pagamento definito pago PA, presso banche, punti eventi da SISAL, l'automatica, poste, eccetera. Queste innovazioni sarebbero rispondenti a necessità di, uno, di sicurezza, sia per i cittadini che per l'azienda, perché il contante in cassa ovviamente crea dei problemi, due, la riduzione dei costi a carico dell'ente. La gestione del contante è molto onerosa, si devono sopportare costi di ritiro, trasporto, oneri per la sicurezza, assicurazione ai portatori, fondi cassa per ciascun cassiere, complessivamente si stima un risparmio di circa 150.000 euro. all'anno. Rammenta il direttore che tale innovazione riguarderanno esclusivamente i cittadini non esentati dal pagamento delle prestazioni, come è ovvio, perché chi esente non paga, e in realtà nella nostra AS oltre il 60% dei 40.000 cittadini, ultra 65 anni, è titolare di esenzione per reddito, percentuale che sale oltre al 70% se consideriamo gli ultra 75 anni. e in ultimo segnalava che stava per essere avviata una campagna di informazione attraverso locandine, presso farmacie, studi medici, servizi sociosanitari, sedi municipali, spedizioni di mail ai medici di medicina generale, ai pediatri, comunicati agli organi di stampa, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la risposta per riassunto. Il consigliere Lasio va ovviamente al diritto di replica, e quindi gli lascio la parola. Grazie Presidente, buonasera a voi e buonasera a tutti. Ripilogo un attimino l'interruzione ancora che desideravo sottolineare, e le mie considerazioni erano sul fatto che una vasta proporzione di popolazione dei nostri territori, soprattutto le fasce più deboli riferite agli anziani, in fatica a intercarsi con questi nuovi mezzi di pagamento, seppur essi siano ormai di utilizzo comune e diffuso. Parlandone con il direttore amministrativo, il direttore generale dell'ASA, portavo l'esempio molto vicino a me e di mia madre, che non riesco a convincerla di utilizzare un metodo elettronico di pagamento, per il timore che ha nei confronti di questo sistema, timore ovviamente infondato. E inoltre esponevo la preoccupazione per il fatto che non ci fosse un'adeguata informazione, tanto è vero che su questo passaggio, tanto è vero che l'informazione e il motivo dell'interrogazione nasceva dalla constatazione che erano usciti un paio di articoletti sul giornale. Per cui le domande che ponevo alla giunta erano quindi se non si chiedeva utile di richiedere all'ASA di prevedere un periodo di transizione, in un periodo di transizione in cui si sollecitava, o meglio, si incoraggiava, si incentivava all'uso del pagamento digitale. Oggi a me, fino al 13 dicembre 2017, di fatto scoraggiato, perché davanti allo sportello bisognava dichiarare prima di partire con l'operazione e di voler pagare in forma digitale. Secondo, che non ci fosse onerosità, perché al momento in cui, per chi volesse pagare in contanti, perché al momento della redazione, della interrogazione, avevo già parlato, e questa è un'interrogazione che è frutto di un lavoro congiunto con il consigliere di Alba del medesimo gruppo, con cui entrambi abbiamo parlato col direttore amministrativo e col direttore generale, in cui ci veniva sottoposta la possibilità, solo dopo il primo gennaio, di utilizzare il MAV, che è possibile avviare come metodo di pagamento senza costi per l'utenza. Ma in prima battuta c'era solo a disposizione il bollettino postale. E il problema è che il bollettino postale, in prima battuta, era previsto con oneri di bollo, un euro e mezzo per ogni pagamento effettuato. Capite che su ticket di 10-11 euro non aveva molto senso. E che quindi non si ritenesse opportuno che ci fosse un'adeguata campagna informativa. Ora, detto questo, duole dire che la risposta che lei ha letto è la risposta del dirigente dell'ASL inviata al sindaco e al presidente del consiglio. Ma le opinioni del dirigente dell'ASL e della dirigenza dell'ASL io le conoscevo già perché ho conferito con loro prima di fare l'interrogazione. L'interrogazione come consigliere io la pongo alla giunta e al sindaco per cui mi aspetto una risposta da loro. La posizione dell'ASL già la conosco. Da questo punto di vista vorrei chiedere al presidente che fosse richiamato all'ordine la giunta di rispondere effettivamente alla richiesta, alla interrogazione. Perché non ho chiesto il parere di un ente. Ho chiesto il parere del sindaco e della giunta in base a questi provvedimenti. Perché a mio avviso effettivamente, e non è la prima volta, ribaltare la risposta di un ente, tra l'altro neanche indirizzata al sottoscritto, e non è rispettoso nei confronti del mio ruolo, del ruolo dei consiglieri e delle funzioni per cui siamo qui a riunirci. Quando è uscita, tra l'altro, questa lettera qua essenzialmente è uscita perché l'interrogazione, la medesima interrogazione è stata discusa nel Consiglio Comunale di Alba, prima di questa, e di conseguenza il direttore dell'ASL ha scritto una lettera che è poi l'estratto ai giornali, l'estratto della lettera che è stata inviata a voi. E in quella lettera, all'epoca, che è stata pubblicata a metà dicembre, si parlava di un'estesa campagna informativa. Ebbene, io il 20 di dicembre mi sono recato agli sportelli delle casse dell'ospedale di Brà e ancora non vi era nessun avviso, né dai medici di base, ad esempio un medico di base, attualmente ancora non ha nessun avviso riguardo al passaggio di pagamento in contanti. Quindi ritengo che il passaggio che sia stato fatto, io non demonizzo il passaggio a pagamento digitale, ma seppur è vero che il 60% degli utenti che pagano il ticket è esente, ne rimane un 40% che lo paga. E fino al 31 dicembre 2017, i tre quarti dei ticket pagati all'ASL sono pagati in contanti, erano pagati in contanti. Quindi, a mio avviso, correva un passaggio, una transizione più oculata, più rispettosa nei confronti dei cittadini, perché se è vero che c'è un risparmio per lente, questo risparmio non si deve ribaltare poi sulla singola utenza, per di più la singola utenza più debole. Si deve dare la possibilità a chi non ha mai avuto mezzi di pagamento digitali di fornirsene, di familiarizzare e di poterli utilizzare. E siccome quest'utenza che non è dotata di mezzi di pagamento digitale è per lo più anziana, bisogna rispettare dei tempi adeguati. Io chiedevo dei pareri rispetto a queste considerazioni nella mia interrogazione, ma non al dirigente dell'ASL a cui le avevo già chieste, ma bensì ovviamente al mio riferimento istituzionale. Grazie. Grazie a lei. Mi faccio tramite adesso della richiesta che lei ha espresso e quindi sono sicuro che nei prossimi giorni avrà anche una risposta da parte della Giunta, a meno che, questo lo aggiungo io, tra parentesi, che la Giunta non si sia ritenuta del tutto e completamente soddisfatta e quindi abbia omologato il suo parere a quella del Direttore Generale dell'ASL. Però questa è una valutazione che faccio io, ma non so quale sia quella della Giunta. Insomma, non faccio un'interpretazione autentica. Benissimo, no, no, ma il concetto è chiaro, quindi il Sindaco e la Giunta sanno che io do seguito alla richiesta del Consigliere all'ASL. Passiamo sempre alla seconda interrogazione data con risposta scritta e qui riassunta. Sempre il Consigliere all'ASL il 6 dicembre chiedeva informazioni sul piano neve per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, partendo dal fatto che nella giornata di sabato 2 dicembre Braia era stata interessata da una normale nevicata, seguita poi nei giorni successivi, almeno fino al punto al 6 dicembre, da abbassamento delle temperature tali da provocare fenomeni gelivi. Considerava il Consigliere che in moltissime zone della città, sia centro che periferia, erano stati quasi del tutto assenti le azioni di spazzamento e di prevenzione della formazione di ghiaccio per gli spazi pedonali e che al termine del tratto di competenza privata di fronte alle residenze commerciali o private si riscontrava ancora in quel giorno che al termine appunto del tratto di competenza la pavimentazione non era stata né sgombarata dalla neve in origine né vi erano state operazioni di prevenzione del gelo. E quasi tutte le aree di competenza pubblica non erano state oggetto di alcun intervento. Il Consigliere citava via Montegrappa, gli attraversamenti pedonali di via Fratelli Carando, sì, qui è un rifuso dell'app, insomma, dell'Android, gli attraversamenti, o comunque del... gli attraversamenti pedonali di via Cavour su via Principi, via Verdi, via Trento e Trieste, via Dordobrizio, via Rosselli, via Piumati, passaggio a livello della stazione e via Montegrappa all'altezza dei giardini Falcone e Borsellino. Chiedeva infine, interrogava il Sindaco della Giunta per sapere la ragione di tale disservizio e quale fosse lo stato di allora e attuale dell'organizzazione del piano neve e su quali azioni correttive erano state impostate per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei pedoni. La risposta era venuta il 29 dicembre da parte dell'assessore Luciano Messa, il quale riscriveva che in merito alla nevicata del 2 dicembre, come previsto dal piano neve, l'amministrazione si era adoperata facendo intervenire le lame per rimuovere la neve sulle strade, il servizio dei cantonieri per lo spargimento di sabbia e sale sulle strade periferiche e sulle salite, l'impresa appaltatrice per lo spargimento di sabbia e sale sulle strade del concentrico, e che a seguito di tale intervento non si erano riscontrate problematiche sulla gestione della viabilità. L'impresa energetica ambiente, come da contratto, nei giorni delle nevicate, aveva provveduto alla rimozione della neve sui marciapiedi pubblici, rispetto ad un elenco che vedeva negli edifici strategici pubblici e nelle scuole gli interventi prioritari. Nei giorni successivi si era ricorso al supporto dei volontari civici di Bandito, Pollenzo, Protezione Civile, che hanno ulteriormente provveduto allo spargimento di sabbia e sale sui marciapiedi pubblici della città. E infine si riteneva che il servizio fosse stato svolto anche in funzione dello stato di fatto che si è venuto a creare a livello climatico, nel rispetto delle condizioni di sicurezza viaria e pedonale, sia nel rispetto dei vincoli di spesa. e in previsione di nuovi intensi eventi gelivi si sarebbe attivato lo schema citato facendo intervenire, se necessario, oltre alle normali squadre di intervento, anche i volontari civici. Questa era la risposta, ripeto, dell'assessore messa, il consigliere a diritto di replica. Prego. Grazie, Presidente. Sì, allora, riguardo a questo tema, gran parte della risposta dell'assessore si incentra sul piano di sgombero neve e sui mezzi per mettere in sicurezza i tratti viabili, quindi i tratti viabili da veicoli, a motore o meno, nel centro urbano e nelle zone periferiche per evitare i pericoli legati al deposito della neve da un lato e alla successiva formazione di ghiaccio. E per quanto riguarda la parte relativa alla mobilità pedonale, si fa riferimento semplicemente all'attività di energetica ambiente, o meglio, dell'appaltatore della raccolta servizi rifiuti in genere urbana, che ha nell'appalto il compito di spazzare di fronte agli edifici pubblici. Ecco, il problema è che quello che io ho sottolineato nell'interrogazione e che quindi ha avuto, direi, risposta praticamente diretta, è che per quanto riguarda la mobilità pedonale, quindi marciapiedi, anche in zone centrali della città, non è previsto nulla, a meno che non si affaccino sull'ingresso di un edificio pubblico. Si fa anche riferimento al fatto che ci sono dei vincoli di spesa, ma per quanto riguarda la stagione 2017-2018, noi abbiamo almeno stanziato 25.000 euro più 48.200 euro, di cui 25.000 euro per la sola vigilanza, ad esempio quasi il doppio di quello che spende la città di Alba nello stesso periodo, che stanze a due tranche per una somma totale di 13,9 mila euro, però in tutto questo stanziamento non è previsto evidentemente niente per la mobilità pedonale, perché tratti anche centrali, come via Verdi, o addirittura il passaggio pedonale di via Principi, tra via Alcavur e via Principi, il passaggio pedonale trafficatissimo vicino alla stazione, non sono stati interessati da alcun intervento, se non alcuni giorni dopo la gelata. Ora, a mio avviso, questo tipo di problema va affrontato, visto che nevica ormai avrà uno o due volte l'anno, non penso che sia né particolarmente oneroso né irrazionale pensare di prevedere degli interventi di sgombero di neve per tutte le parti pubbliche rilevanti e critiche e di spargimento del sale per evitare, da un lato, che i pedoni si mettono sulla strada, perché così si osserva, succede questo. Come ad esempio i pedoni che volevano recarsi alla scuola ex tempo pieno, passando di fianco ai giardini Falcone e Borsellino, non potevano recarsi perché per esempio almeno per tutto lunedì mattina un pezzo di albero che era accaduto il sabato mattina era ancora lì e non si poteva e impediva il passaggio dal marciapiede o l'accesso alle medie di via Brizio dove a parte la cancellata e l'ingresso frontale tutta la parte di marciapiedi verso la rotonda, verso viale della Costituzione era intonsa così dopo così come era si trovava dopo la nevicata del 2 dicembre con la formazione di ghiaccio. Quindi è evidente che ci sono dei problemi di gestione dell'evento neve e gelo siccome gli eventi non sono straordinari e sono mai rari penso che la pulizia dei marciapiedi e la messa in sicurezza anche per invitare incidenti sia per la caduta ovviamente dei soggetti e sono sempre i soggetti più deboli quelli che ne possono fare le spese quindi possono essere bambini e anziani per permettere la mobilità anche delle persone temporaneamente o meno inabilitate per evitare che i pedoni si mettano nella strada e soprattutto se si parla molto di mobilità sostenibile visto che è anche importante nei periodi di nevicata evitare che ci sia traffico urbano da veicoli da motoveicoli o da autoveicoli perché c'è un problema c'è un maggiore problema di parcheggio c'è maggiore insicurezza per la strada il garantire dei passaggi pedonali puliti e sicuri favorisce la mobilità pedonale facendo più facilmente rinunciare all'auto a tutti quegli utenti che altrimenti non ci rinuncerebbero quindi sollecito nuovamente la giunta a ripensare per il prossimo anno il piano di intervento il piano di intervento per la neve rimodulandolo su punti critici pedonali in modo da metterli in sicurezza almeno per i punti principali e più importanti di transito grazie grazie a lei passiamo adesso alle interrogazioni diciamo così fresche di stampa la prima interrogazione e la decima interrogazione trattano del medesimo argomento quindi ai sensi dell'articolo 74,10 del regolamento del funzionamento del consiglio comunale debbono essere trattate insieme ecco come già noto prego e la interrogazione su rifiuti? sì ok ma la mia interrogazione e l'interrogazione degli altri colleghi della minoranza non trattano il medesimo argomento l'articolo 74,10 parla di argomento simile o connesso beh la mia interrogazione rileva sull'appalto in corso l'interrogazione degli altri colleghi di minoranza sul bando di gara sull'appalto che è in essere sono due cose diverse però è sempre l'appalto rifiuti ma sono due situazioni totalmente diverse io leggo le interrogazioni relative ad argomenti uguali simili o connessi tra loro debbono essere trattate contemporaneamente su decisione del presidente sinceramente io non riscontro alcuna similitudine c'è il tema rifiuti ma sono due temi totalmente distinti ma c'è una connessione comunque degli argomenti l'argomento è la questione dell'appalto rifiuti scusi presidente ma allora c'era una connessione anche con la interrogazione che abbiamo appena discusso in cui c'era una parte dell'appalto di raccolta rifiuti igiene urbana che si occupa dello sgombero neve avremmo dovuto assimilare tutto? no ma quella è già fornita la risposta è una risposta già fornita ma non è lo stesso tema è evidente io faccio delle richieste sull'appalto che è in essere che è in corso e che scadrà a maggio ed è su come si è svolto l'appalto e il controllo sull'appalto in questi anni negli ultimi otto anni l'interrogazione degli altri colleghi di minoranza invece è un'interrogazione su come si vorrà gestire il prossimo appalto semmai ma sono due cose temi totalmente distinti questa è la mia opinione sono temi io ribadisco che dal mio punto di vista sono temi connessi comunque lei può fare benissimo una mozione d'ordine e chiede che vengono trattate in modo separato e si vota non c'è proprio nessun problema prego sembra evidente presento la mozione d'ordine grazie presidente allora per me la questione è molto semplice e lineare l'interrogazione nasce la mia interrogazione nasce da alcune constatazioni e alcune questioni che ho sollevato in commissione ambienti e servizi appaltati negli ultimi mesi a partire dai mesi di ottobre fino ai mesi di novembre in cui si è trattato l'argomento sulla formazione sulle indicazioni da dare per la formazione del nuovo appalto in quell'ambito avevo sollevato delle domande su come erano gestiti i controlli e su quali erano i servizi effettivamente erogati dall'appalto in essere e capire quali erano state le eventuali compensazioni economiche tecniche per i servizi che non erano stati resi siamo adesso io ho redatto un documento scritto in cui ho riassunto queste cose il 14 novembre scorso faccio l'interrogazione per avere delle risposte dettagliate precise su un tema specifico l'appalto dei rifiuti che si chiuderà a maggio e le modalità di controllo e di svolgimento l'interrogazione invece dei miei colleghi l'interrogazione dei miei colleghi invece ha come tema il bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti genuorma urbana chiedo scusa un bando di gara che ha come obiettivo quello di individuare il nuovo appaltatore a partire da maggio o giugno 2018 quindi la mia interrogazione pone delle questioni sull'appaltatore esistente mentre l'interrogazione dei miei colleghi pone una domanda specifica riguarda una risposta che è stata data e pubblicata dal coapser in riferimento a delle richieste di chiarimenti relativa a questo bando di gara chiede una specifica domanda sulle linee di azione dell'amministrazione riguarda questo tema posto per questo specifico bando di gara ora che le due interrogazioni si rivolgano a due situazioni completamente diverse a me sembra manifesto il fatto che le due situazioni differenti afferiscano a due appaltatori scusate allo stesso servizio è per me irrilevante perché se io pongo una questione su un passato o su una situazione attuale è ben diverso che porre una questione su una situazione futura il tempo in questo caso è fondamentale non è non è irrilevante perché io tengo chiedo conto di che cosa è successo fino ad oggi invece l'interrogazione degli altri gruppi di minoranza chiede che intenzioni si hanno per il futuro per la chiusura del bando di gara e per l'esecuzione e per l'aspetto che hanno voluto evidenziare se io oggi per assurdo mi trovassi a dover raffrontare due interrogazioni che trattano entrambe del tema di rifiuti ma una interroga ad esempio sui problemi della raccolta mercatale e l'altra invece interroga sui problemi dei disservizi alla frazione di Pollenzo faccio un esempio non penso che possa essere lecito accumunarle semplicemente perché tutte e due afferiscono al servizio di raccolta rifiuti perché individuano specificamente due problematiche due tematiche completamente distinte all'interno del grande insieme della raccolta rifiuti e igiene urbana per questo a mio avviso non vi è motivo di accorpare in un'unica interrogazione le due presenti grazie grazie a lei allora a norma dell'articolo 81 del regolamento in particolare il comma 3 nel caso in cui il presidente respinga l'ammissibilità della mozione e io di fatto l'ho già detto prima che vanno trattate insieme e il proponente insista ulteriormente come atteste fatto il consigliere all'asia sulla sua mozione d'ordine quindi sono ammessi a parlare per non oltre 5 minuti un consigliere a favore e uno contro dopodiché il consiglio decide sull'ammissibilità per alzata di mano questo è il regolamento quindi adesso c'è la possibilità da parte di un consigliere di parlare a favore della mozione d'ordine del consigliere all'asia e di un altro di parlare contro la sua mozione d'ordine e poi il consiglio decide per alzata di mano io quindi aspetto se qualcuno vuole intervenire può intervenire uno a favore e uno contro può intervenire c'è scritto sì per alzata di mano non vedo nessuno che si presenta consigliere Amajou prego grazie presidente io sono qui seduto e scopro proprio adesso che probabilmente tutti erano informati che non si sarebbe discusso di queste mozioni io no lo scopro adesso di queste interrogazioni e lo scopro adesso dai banchi della maggioranza sembra che la notizia fosse trapelata lo sapevate già che non si sarebbe discusso penso che anche parte della minoranza sapeva che forse c'era questa proposta di non discutere queste due interrogazioni io lo scopro adesso questo non c'entra nulla eh questo io lo scopro adesso qui stiamo votando sulla riunione o meno delle due interrogazioni sì siamo ancora nella fase di metodo non di merito arrivo al punto arrivo al punto ma proprio perché appunto sono completamente diversi perché poi qui abbiamo visto delle slide che sono arrivate delle fotocopie di interrogazioni di Panero dove vedo dei rifiuti e teoricamente anche questa potrebbe essere collegata io penso che i temi sono completamente diversi e se io non posso chiedere come consigliere sul lavoro svolto fino adesso tramite un'interrogazione non la posso fare perché viene accorpata a un'altra a mio avviso non va bene se una delle due interrogazioni decide magari di non presentarla può farlo ma le interrogazioni specifiche hanno bisogno di una risposta specifica quindi non accorpare tutte e due a favore della mozione all'ordine dell'Asia ha parlato il consigliere Amagiù qualcuno adesso se vuole può parlare contro la mozione di Allasia consigliere Ferrero prego timidamente non timidamente parliamo sulla ammissibilità o vera di parlare in modo diversa certo 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 io mi riferisco quindi a un intervento contro alla mozione d'ordine presentata nel senso che la connessione tra le due emozioni se ho capito bene perché così al volo l'ho presa se ho capito bene viene riconosciuta di fatto dallo stesso proponente della mozione d'ordine quando dice che la mozione d'ordine nasce dalla constatazione da alcune constatazioni dell'appalto in corso dalle cui risultanze modulare il nuovo appalto questo ho capito della cosa che ha detto quindi ha detto esplicitamente che le due cose sono logate e pertanto vi esprimo esattamente nella posizione che ha espresso il presidente se ho capito male lo sentiremo dalla dalla registrazione se ho capito male chiedo scusa però io l'ho capita così grazie consigliere Ferrero un inciso velocissimo consigliere maggiù qui nessuno sta discutendo di eliminare dalla discussione una o un'altra interrogazione qui stiamo per adesso qui stiamo parlando se è possibile o meno trattarle congiuntamente ai sensi dell'articolo 74 comma qualcosa fidatevi che l'ho visto comma 10 del regolamento questo è allora i consiglieri si sono espressi quindi adesso si va per alzata di mano chi è favorevole alla mozione d'ordine del consigliere all'Asia che chiede di discuterle separatamente alzi la mano scrutatori chiedo una mano si è tripodi è sempre il solito è sempre il solito opposto solo che ha un taglio di capelli più alla Gianni Morandi quindi i votanti a favore della mozione sono stati 1 2 3 4 5 6 adesso alzi la mano chi non appoggia la mozione d'ordine del consigliere all'Asia quindi 8 voti contrari prego prego verbalizziamo tutto Gemma Ferrero Ambrogio Bergesio Isu Astegiano chi si astiene consigliere Milazzo parlano solo uno favore e uno contro ma il regolamento non l'ho fatto io abbiate pazienza c'è un regolamento da applicare abbiate pazienza io sono consigliere tripodi non è contemplato ne parleremo un'altra volta quando faremo magari una seduta di commissione regolamento ci mancherebbe allora a proposito quindi delle due interrogazioni che a questo punto devono essere trattate riunite io avanzo una questione sospensiva tenendo conto che il bando di gara per l'affidamento del servizio è ancora in corso e scadrà alle ore 12 del giorno 23 febbraio quindi tra otto giorni non ritengo opportuno per motivi legati alla coincidenza temporale ed esclusivamente per questi motivi e non per altri motivi io non entro nel merito del contenuto delle tue interrogazioni perché se lo facessi verrei meno al mio ruolo ma siccome non ritengo opportuno ripeto per motivi legati alla coincidenza temporale con il bando ancora in corso che il consiglio comunale nel corso di interrogazioni con risposta e diritto di replica possa cioè nel corso del consiglio comunale nel corso di interrogazioni si possono esprimere valutazioni indicazioni proposte che potrebbero in qualche modo costituire un elemento di interferenza con l'iter del bando di gara e la mia proposta di sospensiva che ripeto sospensiva e non pregiudiziale è fatta esclusivamente per tutelare i consiglieri proponenti e l'intero organo consigliare da ogni eventuale situazione di interferenza e di inopportunità sul bando di gara e la sua conclusione non è ovviamente lo ripeto una dichiarazione di pregiudiziale ma di richiesta di sospensiva supportata dall'autorevole parere che il segretario generale mi ha rilasciato in queste ore e che io allego agli atti di questo mio intervento e che chiederò poi allo stesso segretario generale di come vuole di leggere di riassumere nella sua autonomia sono disponibile ovviamente nell'ambito delle mie competenze come presidente del consiglio comunale e inoltre anche della commissione ambiente a mettere all'ordine del giorno di una riunione che vorremmo stabilire quanto prima ma dopo la scadenza del bando di gara mettere all'ordine del giorno tali questioni legate al servizio di raccolta rifiuti immediatamente dopo lo scadere dei termini di presentazione delle offerte vale a dire dopo le ore 12 del giorno 23 febbraio questo era il mio intervento questo io volevo ribadire per una questione ripeto di inopportunità a tutela dell'intero organo consigliare chiedo adesso al segretario di esprimere anche egli e la sua valutazione in merito al quesito che io gli ho posto nei giorni passati allora il presidente mi ha chiesto se se sorgevano profili di opportunità rispetto alle interrogazioni indicate io ho ritenuto di formulare un parere nel quale riporto che sarebbe opportuno differire la discussione di tali interrogazioni almeno fino al termine di ripresentazione delle offerte cioè fino al 3 febbraio 23 febbraio chiedo scusa questo parere si sostanzia in due ragioni fondamentali secondo un principio generale in materia è dovere di tutti mantenere un alto livello di riservatezza in ordine a qualsiasi tipologia di informazioni durante lo svolgimento di una gara d'appalto questa riservatezza risulta funzionale sia al corretto e trasparente esercizio dell'azione amministrativa cioè in favore sostanzialmente di chi amministra e quindi del buon andamento dell'amministrazione sia a rispetto della segretezza delle offerte che vengono formulate quindi anche nella fase di predisposizione delle stesse rispetto al rispetto a qualsiasi gara d'appalto prescindendo io stesso come il presidente ovviamente doppiamente rispetto al presidente in quanto segretario generale non intervengono nel merito assolutamente e prescinde dal merito queste mie considerazioni e la formulazione di questo parere qualsiasi tipo di informazione non correttamente fornita nei modi e nei tempi indicati sia dal capitolato che dal bando di gara potrebbe ledere il principio di libera concorrenza questo è stato sancito anche da diverse sentenze del consiglio di stato c'è un ulteriore motivo per cui ho ritenuto opportuno esprimere questo parere facendo un ragionamento per analogia il potere più grande che hanno i singoli consiglieri comunali è il potere di avere accesso a tutte le informazioni dell'amministrazione all'interno di questo potere di accesso diciamo contenuto nel potere di accesso nel potere di controllo nel potere ispettivo evidentemente c'è anche la possibilità di formulare interrogazioni ebbene l'autorità anticorruzione nazionale con la delibera numero 317 del 29 marzo su di un caso specifico di un accesso di un consigliere rispetto a procedure di gara ha motivato espressamente che è opportuno e un caso praticamente di legge speciale perché normalmente l'accesso ai consiglieri comunali non viene negato anzi la giurisprudenza evidentemente è molto favorevole a questo potere ispettivo e controllo dei consiglieri è previsto il differimento dell'accesso fino al termine della procedura di gara pertanto per le considerazioni qui formulate evidentemente ho detto qualcosa in più rispetto a quello scritto nel parere ma nella sostanza il parere è questo ritengo che sarebbe opportuno differire la discussione delle interrogazioni fino al termine di presentazione delle stesse grazie 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 segretario adesso ai sensi dell'articolo 79 del regolamento del consiglio comunale e ai sensi in particolare del commi 2 e 3 ogni ogni un consigliere un consigliere per gruppo può parlare non oltre 5 minuti sulla questione sospensiva che ho posto io e il consiglio poi deciderà maggioranza dei presenti con voto palese questo è il regolamento che ci che ci indica la strada da seguire pertanto adesso si può aprire il dibattito sulla attenzione il dibattito sulla sospensiva ovviamente e non sul contenuto delle interrogazioni questo mi pare evidente consigliere Marengo prego grazie presidente un'unica precisazione nel senso che insieme ai colleghi Elena Somaglia Tripodi e Panero abbiamo presentato questa interrogazione che voleva essere non borderline cioè non voleva avere informazioni particolari chiedevamo chiarimenti su questioni che sono di dominio di dominio pubblico nel senso che chiunque può avere accesso a quello che era il alle domande che erano state poste al consorzio detto questo però prendiamo atto della della situazione ovviamente ci rimettiamo a quello che è la legge vedremo il da farsi si andrà alla votazione ovviamente per quanto mi riguarda noi non abbiamo intenzione di ritirare la nostra interrogazione che ovviamente però verrà posposta in tempi più più canonici da parte mia nel momento in cui ci sarà la votazione io diciamo uscirò dall'aula e non parteciperò alla votazione grazie grazie consigliere Marengo ha detto bene la discussione qualora il consiglio si esprime in una certa direzione non favorevole alla discussione la discussione stessa sarà trattata poi in un'altra occasione quindi qui non si tratta di cancellare il diritto di nessuno ad esprimere le proprie valutazioni è una questione di rinvio per opportunità un differimento per opportunità consigliere all'Asia prego scusi presidente però l'articolo 79 si riferisce alle discussioni delle emozioni non alle discussioni delle interrogazioni quindi non so delle emozioni sì perché le discussioni si hanno solo durante le emozioni non si hanno discussioni questioni pregiudiziali o sospensiva è riferita solo alle emozioni la questione pregiudiziale o sospensiva poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono questo è l'articolo comma 3 articolo 79 l'interrogazione nell'interrogazione non si ha discussioni infatti nella conseguenza degli articoli perché questa parte qua del regolamento è quella che tratta lo svolgimento delle sedute della disciplina delle adunanze capitolo 15 grazie si parla dell'ordine di discussioni e quindi si parla dello svolgimento delle interrogazioni della possibilità di trasformare le interrogazioni in mozioni in modo che sia discussa e quindi l'articolo 76 svolgimento della discussione sulle emozioni e poi ci sono l'articolo 78 che si occupa di regolamentare la discussione ma la discussione e l'articolo 79 anche si ha solo in presenza di emozioni nel caso delle interrogazioni non si hanno discussioni quindi a me pare evidente che questa parte del regolamento si riferisca alle emozioni e non alle interrogazioni fanno parte del capo come ha detto lei 15 giusto? discipline delle adunanze che parte dal comportamento dei consiglieri e finisce alla mozione d'ordine e al termine dell'adunanza onestamente consigliere non capisco proprio l'obiezione cioè è vero che sulle interrogazioni non c'è discussione se vogliamo prendere la parola discussione così come si discute in una proposta di delibera ma il comma 12 di che? comma 12 di che articolo? 79 74 allora il comma 12 dell'articolo 74 dice trascorso un'ora e mezzo dalle comunicazioni della trattazione delle interrogazioni il presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e allora come la mettiamo? cioè facciamo non lo so facciamo un quesito all'enciclopedia Treccani non lo so la Zanichelli articolo 74 comma 12 articolo 74 comma 12 trascorso un'ora e mezzo dall'inizio delle comunicazioni è diventato il 13 vabbè comunque dipende dal non so comunque è quello non era stato abolito nell'ultima revisione del regolamento cioè quel comma lì è diventato 13 probabilmente si è modificato il conteggio il numero però qui il regolamento parla chiaro parla di discussione sulle interrogazioni penso che sia abbastanza evidente che si riferisca il comma 1 dell'articolo 79 dice la questione pregiudiziale sia quando viene richiesto da uno più consiglieri che un argomento non sia discusso precisandone i motivi appunto ora che un consigliere possa possa proporre che l'interrogazione non sia discussa mi sembra quanto strano ma andiamo avanti la questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione della eh non delle della proponendone il ritiro quindi può essere posta prima può ma non il può il può è riferito al fatto che si che si può presentare la pregiudiziale ma può essere presa anche prima della votazione della deliberazione quindi a me pare evidente sia per la sequenza degli articoli che per quanto scritto che qua si parla di questione pregiudiziale esattamente come è stata usata per esempio una volta nei confronti di una mozione che abbiamo presentato io e il collega sulla deliberazione a me sembra lo stesso tema io penso che se in sostanza lei ritiene che non sia ammissibile l'interrogazione debba prendersi la responsabilità di decidere se sia ammissibile o meno e non chiedere al consiglio eh già e da quando eh beh grazie mi fa piacere io prendo atto prendo atto della sua come dire della sua così immediata e diretta abbraccio giurisprudenza io mi attengo al regolamento il regolamento all'articolo 79 parla di questione pregiudiziale o sospensiva io ho chiesto il rinvio della trattazione non ho chiesto che non sia discusso la questione pregiudiziale è un'altra mi scusi se lei mi facesse un'interrogazione relativa al fatto che che ne so nel comune di Alba o di che ne so nel comune di 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 vattela pesca i semafori hanno cambiato colore io posso riceverlo questo posso ben dire che è una questione che non mi riguarda cioè che non ci riguarda giustamente ma non penso che lo farà votare al consiglio lei dice come presidente del consiglio mi assumo responsabilità ma questa è una sospensiva e la stessa cosa mi assumo responsabilità di differire la discussione di questa interrogazione no 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 allora abbiate abbia pazienza io pongo una questione di sospensiva e quindi chiedo che il consiglio si esprima perché questo mi dice il comma 3 dell'articolo 79 se c'è un'interpretazione autentica da fare in diretta io onestamente non ho la capacità e non ho la preparazione giuridica che sfido chiunque ad averla però mi pare che qui ci stiamo un po' arrampicando attorno ai concetti perché discussione vuol dire parlare di discutere poi è vero che l'interrogazione non si discute ma se ne parla poi è anche vero che c'è una replica dell'assessore o del sindaco c'è una controreplica quindi questa a casa mia si chiama discussione punto primo punto secondo non vedo perché il consiglio non debba esprimersi in merito l'articolo 79 comma 3 poi chiedo il parere anche del segretario ovviamente su questo è chiaro che il regolamento non è un'emanazione della mia persona ecco allora eravamo fermi a uno per gruppo che può esprimere le problemi quindi ha parlato il consigliere Marengo il consigliere Lasi ha parlato però di una questione di non è entrato nel merito presumo ha soltanto fatto un richiamo al regolamento no eh sì però non ha espresso il motivo per cui è d'accordo o meno con la mia con la mia richiesta quindi ha chiesto la parola al consigliere Tripodi grazie presidente allora ci troviamo qui questa sera dopo appunto un'interrogazione a firma dei consiglieri diciamo Panero Marengo Somaglia Elena e Sottoscritto e abbiamo ascoltato le motivazioni chiedo scusa grazie abbiamo ascoltato con interesse le motivazioni appunto dateci dal presidente e dal segretario generale ponendo appunto la sospensiva su questa interrogazione e sulla possibilità di discutere appunto di questa interrogazione e quindi però vogliamo chiarire due semplici cose nel senso che noi assolutamente siamo coloro i quali siamo i primi a voler mantenere e garantire in tutte le maniere l'alto profilo appunto di riservatezza quando si parlano di di gare di gare d'appalto e quant'altro nessuno vuole ledere il corretto esercizio dell'attività amministrativa e appunto il rispetto della segretezza delle offerte anzi tutt'altro assolutamente non vogliamo minimamente ledere il principio di concorrenza ma volevamo semplicemente fare un piccolo appunto lei diceva segretario ma come il presidente che uno dei poteri più grandi è appunto quello per quanto riguarda quello dei consiglieri è il potere di avere accesso a tutte le informazioni appunto quello che diceva potere di controllo potere ispettivo ma tendo e voglio sottolineare che noi non abbiamo fatto alcuna richiesta di accesso agli atti noi abbiamo presentato una interrogazione nella quale gli atti erano presenti sul sito del stazione appaltante e quindi accessibili a tutti quindi pubblici e abbiamo semplicemente fatto una domanda chiedendo le intenzioni diciamo politiche dell'amministrazione quindi per quanto ci riguarda volevamo semplicemente sottolineare questa cosa e infine concludo dicendo che ci rimettiamo appunto al parere del presidente e del segretario e accettiamo anche se con qualche perplessità di differire la discussione fino al termine della procedura di gara grazie grazie al consigliere Tripodi consigliere Elena prego grazie presidente buonasera a tutti ma io mi associo a quanto hanno detto i miei colleghi Marengo e Tripodi sul sul fatto che appunto la nostra interrogazione assolutamente non voleva essere andare a ledere nessun ci mancherebbe ancora altro e prendiamo atto delle parole sia del presidente che del segretario e accettiamo che la discussione venga posticipata una volta scaduti i termini della parte grazie grazie a lei consigliere Ferrero prego sarò molto sintetico a nome della maggioranza ascoltate le considerazioni del presidente del consiglio e preso atto del parere del segretario generale per un principio di precauzione e valutandoli in opportunità di trattare tali argomenti in questa seduta esprimiamo un parere favorevole alla proposta di differimento della discussione di queste interrogazioni invitiamo altresì l'amministrazione appena superata la scadenza di presentazione delle offerte a rispondere a tutti i contenuti presenti nell'interrogazione grazie grazie consigliere Ferrero per quanto mi compete l'ho già detto prima raccolgo questo invito non appena sarà possibile ne discuteremo nelle sedi opportune consigliere Panero e no ma è uno per gruppo dice ah se si dissocia non lo so qui stasera è un po' il regolamento fai da te ma non lo so uno per gruppo c'è scritto e no abbiate pazienza uno per gruppo rimangono ancora alcuni gruppi che devono se vogliono devono posso esprimere qui si vota con l'elettronico non ci sono più consigliere Maggiù prego grazie presidente io mi scuso per averla anticipata prima sapevo che sarebbe andata così ma in realtà guardi io non condivido questa questa operazione da parte della maggioranza penso che tutta questa discussione si sarebbe risolta nel momento in cui si fosse risposto a una parte di interrogazione e sui punti che voi credete siano un principio di riservatezza e rischio insomma alla concorrenza vi assumavate la responsabilità per dire questi punti non vogliamo dare risposta al consiglio in questo momento ma aspettiamo dopo io penso che avrebbe avuto più senso dare il più possibile informazioni inerenti ai due bandi il più possibile andare incontro alle due interrogazioni voi dite Presidente voi avete detto che ci sono vari punti molto sensibili che non si vorrebbero toccare ebbene io a mio avviso penso che quei punti si potevano leggermente evitare e cercare insomma di rispondere concretamente alle interrogazioni che sono arrivate per cui penso che il massimo insomma della 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 democrazia e dei cittadini è quello di interrogare l'amministrazione su quello che sta succedendo e su quello che è successo ed è un elemento importantissimo al pari della riservatezza di questi bandi per cui penso che una risposta va data anche a breve grazie allora alcune precisazioni io non sono il presidente della maggioranza ma sono il presidente del consiglio comunale che comprende maggioranza e minoranza e la mia richiesta di sospensiva è una richiesta a tutela dell'intero organo consigliare sarei completamente fuori di testa se come dire svolgessi il mio ruolo tutelando e coprendo una parte insomma di questo consiglio comunale cioè quindi veramente non è non è proprio questo in secondo luogo nessuno nega il diritto di accesso da parte di qualunque consigliere comunale agli argomenti di così grande attenzione di interesse per i cittadini ma come è ovvio ci sono momenti adeguati e contesti adeguati in sede di gara d'appalto non è opportuno fare questo tipo di riferimenti ripeto per l'ennesima volta alla scadenza di queste benedette offerte che sarà a mezzogiorno del 23 febbraio io sono disponibile dal lunedì 26 25 non lo so dal 26 febbraio da quel giorno lì in poi io sono disponibile a fare tutte le riflessioni ripeto nei limiti delle mie competenze non posso certamente sostituirmi al sindaco alla giunta ma per quanto mi compete capigruppo commissione ambiente magari con d'accordo con il collega presidente della commissione servizi appaltati con cui questi mesi abbiamo convocato parecchie commissioni si può fare tutto quello che si deve e si può fare grazie scusate c'è ancora qualche intervento che c'era all'Asia prego grazie presidente eh allora ci sono parecchie cose innanzitutto mi verrebbe da dire una battuta che ci azzecca la mia interrogazione con tutto questo discorso che è stato fatto perché la mia interrogazione non tratta per nulla i temi del bando di gara né fa domande relative al bando di gara in atto e quindi l'accomunare le due interrogazioni a questo punto serve solo a rimandare la mia interrogazione ma non ce n'è un motivo eh di opportunità perché visto che c'è un bando che ne so sulle aree verdi piuttosto che su altri temi allora non discutiamo delle condizioni delle aree verdi piuttosto che di altri temi del genere a me sembra assolutamente speciosa la motivazione per quanto riguarda faccio una premessa prima di andare avanti eh ovviamente a scanso di equivoci eh il discorso è sempre di merito ma non è mai eh un giudizio sull'operato o sulle riflessioni che uno singolarmente e autonomamente prende no? però io ritengo che la scelta che si lei ha fatto sia profondamente sbagliata e questo sì potrebbe avere dei vizi di legalità a mio avviso perché da un lato è vero che bisogna mantenere la riservatezza sulle informazioni sugli atti di gara ma l'interroga a parte che la mia con gli atti di gara non c'entra nulla ma quella degli altri proponenti della minoranza non tocca gli atti di gara ma fa una domanda precisa sugli intendimenti amministrativi riferiti a un tema specifico del bando e il fatto che sia normalmente lecito affrontare temi su bandi in corso attivi ho fatto veramente una ricerca di 5 minuti perché oggi non avevo il tempo e poi sono intercorsi un po' di telefonate ma qua ho davanti a me una interrogazione del 24 novembre 2017 del consiglio regionale della Toscana su un bando che è stato pubblicato il 13 novembre scorso e che scadeva il 18 dicembre sui temi del bando e anche in modo piuttosto più ficcante sui temi del bando cioè chiedeva come era stato deliberato il bando di gara come si faceva l'affidamento no ma no l'interrogazione sta presentata il 24 novembre quindi durante lo svolgimento della gara ma perché è possibile fare questo perché basta innanzitutto nella risposta non dare informazioni sensibili e d'altronde come potrebbe l'amministrazione dare informazioni sensibili visto che il bando d'appalto non è curato dall'amministrazione ma dall'altra parte l'analogia riportata per quanto riguarda l'accesso agli atti fa riferimento a una delibera dell'ANAC che ringrazio tra l'altro Presidente di avermi anticipato come numerazione eccetera e leggendola si legge chiaramente che la ragione per cui non si dà l'accesso agli atti è e per l'esclusione prevista dall'articolo 53 del decletto registrativo 50 2016 il codice degli appalti e cosa dice questo articolo dice che l'accesso agli atti è differito nelle procedure aperte in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte non è questo il caso nelle procedure ristrette negoziali eccetera in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesto di invito che hanno manifestato il loro interesse non è questo il caso in relazione all'offerte non è questo il caso perché non c'è una domanda sull'offerte in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia sull'offerte non è neanche questo il caso ma dirò di più c'è una sentenza del tar anche questa recentissima del tar Lazio del tar non so quale sia comunque il tar Lazio non chiedetemi quale sia la camera allora in pratica si dice che per quanto riguarda il differimento dell'accesso in relazione all'offerta di giudicazione si fa riferimento all'articolo 53 appunto del decreto appalti concerne esclusivamente il contenuto delle offerte ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche ma non impedisce l'accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente eccetera 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 cioè qual è il senso del codice appalti è quello di impedire che una figura amministrativa politica acceda a delle informazioni riservate di un bando in atto per utilizzarle perché poi potrebbe utilizzarle in qualche modo ma qui c'è una semplice interrogazione ed è un'interrogazione sugli intendimenti amministrativi dell'amministrazione che cosa ben diversa e infine che ci azzeccherebbe la mia interrogazione che è riferita non a questo bando di gara non si sostiene la cosa grazie faccio notare che lei nella prima premessa ha scritto nei mesi scorsi si sono affrontati in adunanze congiunte della commissione ambiente e servizi appaltati i temi riguardanti l'organizzazione del prossimo appalto per la raccolta dei rifiuti lo mette lei in premessa quindi ci azzecca si continua a usare il suo verbo questa è la storia per cui sono andata a scrivere quelle richieste ma non lo so è la storia è la storia per cui abbiamo esaminato come sarà l'organizzazione e io faccio le domande sulla quale esiste a me sembra estremamente la questione estremamente va bene grazie lei ha espresso la sua valutazione per quanto riguarda un appunto se così posso dire non lo so su una presunta illegalità del mio comportamento io ho come dire la massima serenità del giudizio che ho espresso non mi sembra di essermi mosso in maniera illegale anche perché prima di aver fatto una mossa illegale mi sarei mi sarei controllato dieci cento mille volte se sono arrivato a dire e ad affermare e a chiedere questa questa sospensiva tra l'altro supportato in modo autorevole dal segretario generale penso che ci sarà un motivo quindi non è il mio mia consuetudine bloccare le discussioni su interrogazioni di nessun tipo dai 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 rifiuti a qualunque altro argomento di questo comune e di questa amministrazione quindi io ho veramente agito in totale serenità cercando e ripeto muovendomi sulla base del buonsenso il buonsenso ci dice che tra otto giorni il bando è chiuso qualora non ci fosse stato il consiglio oggi e l'avessimo convocato per il post chiusura del bando non ci sarebbe stato nessun problema quindi penso mi sia mi si dia atto in generale che il mio comportamento è un comportamento trasparente e del tutto e del tutto privo di qualunque secondo fine lei il 26 che è lunedì o martedì che sia il 25 non lo so riceverà la risposta scritta su questa interrogazione eventualmente anche alle ore 12.01 del 23 febbraio quindi chiedo veramente una sorta anche di concordia e di concordanza sulle modalità di buonsenso che possono anche interagire tra di noi ecco cioè questo è il buonsenso e l'accordo sulle procedure penso che sia la prima delle regole che un consigliere comunale e un presidente del consiglio comunale si diano qui nessuno vuole ingannare nessuno quindi per cortesia la questione dei profili di legalità onestamente io non è legittima la sua affermazione ma insomma forse legittimità magari sarebbe ancora un questione diverso legalità aprirebbe anche un ulteriore ambito io mi fermo qui non voglio andare avanti non voglio neanche pensare di essere poi chiamato in causa per una una richiesta che gronda buonsenso da tutte le parti ecco allora se nessuno più si esprime consigliere Tripodi lei ha già parlato e no abbia pazienza allora io accetto presidente che mi venga detto da lei che io non possa parlare ma non posso ascoltare da qui commenti da qui se ascoltano i commenti di altre di altre di altri soggetti che mi dicono che io non possa parlare se lei mi dice che non posso parlare è un conto ma se io ascolto da mi arrivano ho capito da tecnici questo non lo accetto è semplicemente una questione io come prima mi rimetto a tutto quello che ho già stato ripetuto perfetto grazie ma però non ho capito se voleva parlare o no veramente volevo sì parlare ma era veramente una piccola cosa perché si era dovevo parlare appunto il consigliere Panero per dire solitamente questo allora la nostra interrogazione aveva lo stesso sentimento appunto del buonsenso che comunque alla quale ha fatto riferimento lei ma prendiamo atto prendiamo atto e volevo appunto solo comunicare a tutto quanto il consiglio che anche noi durante la votazione usciremo fuori dall'aula tutto lì grazie benissimo grazie di questa precisazione la prendiamo come un aggiunto un appendice alla dichiarazione di voto se qualcuno ha delle altre appendici le dica subito però posso porre in votazione allora quindi ah beh escono ma è certo se escono grazie 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 signor Marengo Panero Marengo Elena e Tripodi allora si pone in votazione la mia richiesta di sospensiva quindi chi è favorevole alla mia richiesta vota sì chi non è favorevole vota no prego bisogna essere la presenza certo un voto quindi presenti siamo siamo 11 11 va bene si può votare votanti 11 presenti 11 va bene allora la sospensiva è approvata con 9 voti favorevoli e 2 voti contrari bene cosa faccio vado avanti sono le 8 meno un quarto noi potremmo fare una sorta di sconto sulla discussione se ritenete opportuno non voglio passare per il maestro con la bacchetta con il cronometro non lo so io avevo pensato che abbiamo cominciato alle 6 e mezza abbiamo cominciato alle 6 e mezza e non lo so possiamo andare avanti fino alle 8 e un quarto ci teniamo ancora mezz'ora di interrogazioni facendo molto tara tutto quello che abbiamo fatto anche perché ci siamo dilungati un po' sulla interpretazione sui passaggi del regolamento quindi su questioni d'ordine quindi facciamo la tara tutto abbiamo ancora mezz'ora di spazio per le interrogazioni quindi si passa all'inter si passa alla seconda interrogazione il 2.2 presentata dal consigliere all'Asia che ha per oggetto un fantomatico rapo così è uscito fuori nel testo però leggendo a piedi pagina si capisce che il piano di recupero di via Fratelli Carando e via Vettore Emanuele ma anche perché io sono andato a cercarmi anche nella giurisprudenza francese il rapporto è recours amministratif préalable obligatoire cioè nella giurisprudenza francese il rapo è una sorta di ricorso preventivo che il cittadino ha diritto quando si sente colpito diciamo così ingiustamente da una contravvenzione legale no stemperiamo un po' pensavo inizialmente fosse anche una sigla un codice vabbè comunque semplicemente è un refuso riguarda appunto il piano di recupero del via Fratelli Carando via Vettore Emanuele II prego il consigliere all'Asia di illustrare l'interrogazione grazie presidente e in effetti in quel periodo stavo leggendo le norme tecniche francesi quindi può darsi che sia uscito quella cronica allora premesso che nella seduta di giunta del 12 dicembre 2017 la giunta ha adottato il piano di recupero in oggetto che non è rapo ma è il piano di recupero che insiste nella confluenza tra via Fratelli Carando e via Vittore Emanuele e che decorsi i giorni necessari per l'esecutività di quel prevedimento il progetto doveva seguire un preciso iter di pubblicazione e quindi l'analisi di eventuali osservazioni prima di aggiungere l'approvazione definitiva sempre da parte della giunta considerando che dalla data di pubblicazione all'albopretorio del provvedimento di adozione da parte della giunta non è stato ancora pubblicato il progetto nei modi previsti dall'articolo 40 della legge regionale è considerato anche che già un paio di anni fa avevamo manifestato perplessità e critiche a questo progetto a come si configurava sostanzialmente immutato poi al momento dell'adozione e che al momento dell'adozione questo progetto è stato anche criticato dall'associazione locale di Italia Nostra per quanto riguarda i criteri volumetrici adottati e paesaggistici e che a seguito di questo parere a mezzo stampa il sindaco ha dichiarato che a sua volta non come dire non apprezzava l'estetica del progetto e che avrebbe chiesto ai proponenti di rivederne appunto l'estetica e considerato che fatte queste premesse risulta singolare un'affermazione del genere in quanto dichiarare di aver chiesto una modifica al progetto pochi giorni dopo averla adottata in giunta e appare singolare e considerando inoltre che le opposizioni a questo progetto le più importanti e rilevanti sono legate all'impatto paesaggistico per quanto riguarda il paesaggio urbano della volumetria concessa a questo piano di recupero specifico e quindi all'altezza complessivo dell'edificato e alla sua conseguente mancata armonizzazione con il paesaggio urbano soprattutto per quanto riguarda l'area di ingresso di via Vittorio Emanuele II e a questo punto interrogo il sindaco interroghiamo il sindaco e la giunta su quali siano le tipologie di richieste di modifica del progetto avanzato ai proponenti e se non fossero avanzate modifiche che adesso spiego non si ritenga di prevedere una specifica riduzione volumetrica o meglio dell'altezza complessiva dell'edificato a cui tra l'altro consegue un carico antropico significativo in quell'area che tra l'altro non vedrebbe la possibilità di realizzazione di una cospicua superficie di standard urbanistici grazie grazie a lei consigliere all'asi risponde il sindaco il comparto di intervento oggetto di interrogazione è relativo all'otto di terreno sito in via fratelli carando angolo via vittorio manuele ed è stato previsto con la revisione generale del piano regolatore approvata a seguito del complesso iter valutativo ed amministrativo dalla regione in Piemonte con la DGR 243 2014 numero 27 7194 tengo a precisare ed evidenziare che gli elaborati i contenuti della revisione generale di piano sono stati attentamente avvaliati dai settori regionali competenti infatti nel corso dell'istruttoria sono state formulate numerose richieste di modifica e di stralcio di aree il lotto in argomento non è stato oggetto di alcuna osservazione da parte dei settori regionali o provinciali e neppure da alcun privato si tratta di un'area interamente ricompresa all'interno della perimetrazione delle aree residenziali ad edificazione consolidata ed è classificata dal piano regolatore vigente come area T3 numero 2259 tessuto urbano con impianto di tipo seriale lungo il fronte strada per la quale devono essere rispettate le prescrizioni normative puntuali contenute nella specifica scheda d'area che riconosce espressamente la necessità di riqualificazione di quel pezzetto di città e consente la totale monetizzazione del standard urbanistico il piano di recupero a dicembre è stato adottato con la delibera del consiglio la delibera di giunta e dopo alcuni giorni la proprietà ha formalmente richiesto al comune che il comune non procedesse alla sua pubblicazione poiché è intenzione dei proponenti operare una revisione della soluzione progettuale che intervenga sull'impaginato architettonico integrandolo maggiormente con il contesto urbano di inserimento il comune ha richenuto di accogliere la richiesta in considerazione del principio dell'economicità del procedimento amministrativo in tal modo non pubblicando un progetto che dovrebbe essere nuovamente adottato e pubblicato a seguito delle nuove soluzioni progettuali che saranno presentate dai proponenti da ultimo preciso che tutta la documentazione del piano di recupero è liberamente consultabile sul sito del comune nella sezione amministrazione trasparente grazie al sindaco il consigliere può replicare prego grazie presidente allora prendo atto che la proprietà che ha formalmente richiesto di sospendere il progetto e quindi che quella dichiarazione sui mezzi di stampa non corrispondesse esattamente alla realtà anche perché come dicevo sarebbe stato abbastanza singolare che dopo aver approvato dopo aver adottato il piano di recupero si dicesse che esteticamente non lo si condividesse e non lo si apprezzasse e quindi si pensava di rielaborarlo anche perché giustamente tutti gli elaborati compresi di render in facevano parte della delibera di giunta e quindi la giunta avrebbe dovuto vedere tutto però non basta ovviamente rivedere l'aspetto architettonico perché il grosso problema di questo progetto è ahimè il carico urbanistico su quest'area è l'impatto volumetrico purtroppo sì la regione ha ha approvato la variante generale al nostro piano regolatore un piano regolatore che ha molti ha molti aspetti di criticità uno dei peggiori sicuramente per consumo di suolo che ci sono in provincia di Cuneo forse il numero 2 se non il numero 1 ma le perplessità rimangono perché che cosa che cosa prevede il nostro piano regolatore su questo piano di recupero prevede una premialità di costruzione per arrivare a un indice territoriale di 2 metri quadri al metro quadro quando i vincoli della legge regionale stessa sono posti a 1,7 metri quadri che si possono superare solamente dietro specifica motivazione sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione sia sotto il profilo e qui ci sarebbe da ridere della qualità del passaggio urbano risultante il problema è quindi che ci ritroviamo con un piano di recupero in cui è concesso specificatamente all'ingresso di via Vettori Emanuele dove ci sono edificati di due piani e al massimo tre piani di arrivare a costruire fino a 17 metri sull'ultimo piano abitabile considerando poi 2,30 metri di piano cosiddetto tecnico si arriva praticamente a 20 metri e questo aumento di volumetria e di insediamento e quindi di carico antropico porta a un aumento quindi di necessità di spazi a verde a parcheggio in un'area già intensamente trafficata e già intensamente con intenso bisogno di spazi perché dietro c'è una scuola perché poco distante c'è il cotolengo c'è un'area di commercio già adesso c'è fatica ad avere spazi e qui andremo a monetizzare specificamente eccezionalmente solo per questo lotto quasi 700 metri quadri di aree di standard urbanistici se ci fosse stata una vera pianificazione nella variante generale del piano regolatore ci sarebbe stata una priorità ad esempio per chi come chi insiste in via Vittorio Emanuele ha investito e speso soldi per non fare accadere a pezzi il proprio patrimonio immobiliare rendendo un servizio con manutenzioni e ristrutturazioni conformi e dal punto di vista paesaggistico allo stato consolidato a corollario del centro storico e invece si favorisce chi lascia andare in malora il patrimonio immobiliare a discapito del bene paesaggistico che è un bene comune dandogli poi il premio di costruire di più di quanto si potrebbe costruire normalmente e è vero che la regione ha dato il suo parere ma nella commissione di valutazione di ammissione alla procedura VAS o meno di assoggettabilità VAS ben due enti la provincia di Cuneo e l'ARPA hanno sollevato critiche e hanno chiesto di riconsiderare l'altezza degli edificati del progetto perché non consono al paesaggio urbano del centro storico e dell'ingresso di via Vittorio Emanuele II se si deve fare una rimodulazione di questo progetto questa rimodulazione l'unica che può soddisfare il bene comune deve essere in termini di volume e di altezza di quel fabbricato non basta che ci aprano chiudano un arco quelle sono solo pro forma magari il ritardo del progetto in questo momento può essere funzionale ai proponenti perché sta cercando acquistatori non c'è nessun interesse in realtà per il bene comune quasi da solo priorità alla speculazione privata a scapito del benessere comune grazie grazie consigliere all'Asia andiamo avanti con le interrogazioni quindi ci siamo detti fino alle otto e un quarto terza interrogazione devo dire un po' per scherzo che ho pensato un attimo prima di affrontare questa dare la possibilità di affrontare questa interrogazione ma siccome di sospensiva non voglio più sentirne parlare per almeno vent'anni ne ho lasciato sopra ho sopraseduto no nel senso che per battuta volevo farmi avere il parere autorevole dell'ambasciatore presso la Santa Sede e del nunzio apostolico perché qui si tratta di un argomento che attiene più ai rapporti tra chiesa e stato come noto il comune di Brannona ha la disponibilità dei locali della porca di San Giovanni però questa è l'interrogazione che hanno presentato i consiglieri Marengo Elena Somaglia Tripodi e Panero appunto sulle problematiche relative ai locali del centro interparrocchiale pensionati prego consiglio Marengo prego grazie presidente mi ero dimenticato ma io ho già chiesto un parere alla curia vaticana ce l'ho qui se vuole glielo aggiungo poi ma lo mettiamo agli atti no vabbè è giusto scherzare sdrammatizziamo anche un attimino la nostra interrogazione nasce da una richiesta che ci hanno rivolto molti dei nostri anziani che frequentano il centro interparrocchiale pensionati perché in qualche modo si sono si sono sentiti e lo metto tra virgolette un po' sfrattati un po' sfrattati da quelli che sono i locali che ormai da molti anni accolgono accolgono la loro la loro comunità il loro centro avevano già in passato nella parrocchia di San Giovanni chiesto dei locali gli erano stati accordati avevano con anche con forze loro sia dal punto di vista economico che materiale rimesso posto i locali anche con la partecipazione della fondazione della cassa di risparmio di Brac che aveva dato qualche soldino ecco che per ben due volte hanno dovuto cambiare i locali ricominciando sempre da capo a quanto sembra il la questione è arrivata un po' al capolinea nel senso che questi locali servono alla parrocchia per altre per altre strutture e c'è stato da parte loro un attimo di smarrimento è ovvio che il comune non è interessato nel senso che i locali non sono non sono di proprietà comunale però sicuramente c'è stato un interesse da parte del comune da parte del sindaco penso da parte degli assessori per addivenire a quella che potrebbe essere una soluzione per queste persone anche perché stiamo parlando di 215 iscritti quindi non stiamo parlando di numeri di numeri bassi so che era stato proposto loro di trasferirsi a bandito in locale di bandito ma hanno difficoltà di movimento ecco volevamo sapere con la nostra interrogazione come si è mossa l'amministrazione se ci sono stati contatti con chi di dovere con la parrocchia e nell'eventualità che non si possa trovare una soluzione presso i locali che oggi sono abitualmente usufruiti dall'associazione come possiamo come amministrazione venire incontro a quelle che è una legittima esigenza da parte dei nostri dei nostri pensionati grazie grazie al consigliere Marengo arriva arrivate proprio in tempo utile il sindaco per rispondere a questa questione sul chip prego chiedo scusa se mi sono assentato un attimo ho l'età per andare al chip ho l'età per andare al chip allora io credo che l'interrogazione che è stata posta sia posta all'indirizzo sbagliato nel senso che il comune ha una serie di centri per anziani nel quello storico più altri creati nelle varie frazioni e che funzionano che svolgono tutta una serie di attività varie di carattere ludico di carattere informativo eccetera il il chip che in realtà di primo acchito uno lo leggeva cpi e quindi poteva confonderlo con la il permesso che deve essere dato dai visi del fuoco ma abbiamo capito l'inversione della è un organismo confessionale che ha trovato sede per anni all'interno di una struttura confessionale e in quanto tale io mi auguro così come è avvenuto per altre situazioni che trovi una sistemazione e continui a svolgere la sua attività le sue iniziative ovviamente all'interno di un progetto confessionale che ciascuno di noi può condividere o non condividere ma siamo ancora nell'ambito di libera chiesa in libero stato e quindi possiamo prendere atto di questa notizia che ci dà ho incontrato nei giorni scorsi il presidente che è venuto a chiedere se disponevamo di locali adeguati per ospitare questo centro e ho elencato le poche disponibilità che abbiamo dal punto di vista dei locali messi a disposizione in ogni caso ho precisato che in nessuno dei nostri locali venivano ospitate associazioni di carattere convenzionale grazie sindaco ovviamente quando ho detto sarò andato al cip non a controllare lo stato dei lavori non a frequentare farei bene non mi permetterei mai di fare queste battute no no ma io sarò andato a controllare com'è la situazione non a frequentare consigliere Marengo prego grazie presidente ma era ovvio infatti lei sindaco era riuscita un attimo non ha sentito la prima parte del mio intervento è ovvio che la nostra interrogazione non si rivolgeva a voi per avere una come dire una giustificazione a quanto è successo ci mancherebbe altro però esattamente come e spero che faremo in tempo nell'interrogazione successiva quella sulle sulle ferrovie beh anche l'amministrazione non c'entra nulla con RFI però però insomma nel momento in cui abbiamo scritto l'interrogazione abbiamo letto anche sui giornali l'interesse da parte del sindaco presso RFI per valutare la questione soppressioni e ritardi quindi è ovvio quindi è ovvio che non si chiede all'amministrazione il perché è successo quello che è successo la nostra interrogazione verteva sulla possibile soluzione che l'amministrazione avrebbe potuto dare a queste a queste persone perché è vero che libera chiesa è in libero stato ma stiamo parlando di 215 cittadini braidesi che si sono rivolti grazie al loro presidente al sindaco per avere per trovare una una soluzione ecco devo dire che la risposta non mi ha soddisfatto assolutamente mi sarei aspettato ecco magari anche solo un passaggio così informale con i parruci magari dall'amministrazione però non è stato detto quindi magari trovare una soluzione con i parruci per evitare uso un termine brutto lo sfratto perché poi non è vero perché questi locali ovviamente sono della parrocchia però trovare una soluzione che potesse essere equa sia per la parrocchia sia per per i cittadini quindi non ho sentito nulla di tutto questo la risposta ovviamente non ci non ci soddisfa grazie grazie interrogazione 2 punto 4 a firma dei consiglieri Tripodi Panero Marengo Sommaglia Edelena sulla questione manutenzione piste ciclabili e aree limitrofe consigliere Panero prego grazie presidente oggetto manutenzione di piste ciclabili e aree limitrofe i sottoscritti consiglieri comunali Tripodi Davide Panero Sergio Sommaglia Massimo Elena Marco e Marengo Roberto e qualità di consiglieri comunali del Comune Libra rilevano quanto segue condizioni degrado delle piste ciclabili in particolare in strada a Cadel Bosco come da foto legate le foto sono quelle che i consiglieri hanno ricevuto per un problema tecnico legato alla PEC in questa sede quando sono arrivati questa sera l'ufficio invece è il presidente del consiglio comunale così immagino la giunta di conseguenza le ha avute il giorno subito successivo all'arrivo di questa interrogazione per questo motivo non se le sono trovate stasera anche loro nella loro postazione presenza di abbandono di rifiuti e insufficiente cura dell'arrivo tra le suddette piste ciclabili chiedono di sapere quali provvedimenti questa amministrazione intenderà mettere in atto per risolvere le suddette problematiche grazie grazie consigliere Panero e risponde la professore Cravero fa anche rima grazie presidente allora io rispondo in relazione agli abbandoni di rifiuti che sono stati rinvenuti come testimoniato anche dalla documentazione fotografica che ci è stata data sulla pista ciclabile di strada del Bosco nello specifico in questa pertinenza che era tra privato e pubblico nella giornata di sabato 10 febbraio è stato già possibile intervenire con la rimozione e il ripristino dell'area perché l'entità dei rifiuti era modesta e la tipologia dei rifiuti abbandonati non riportava dati sensibili i rifiuti erano di tipo non pericoloso e quindi è stato possibile provvedere tempestivamente a seguito della segnalazione appunto in generale però per ogni abbandono di rifiuti sul territorio comunale si configura un illecito per il quale viene messa in essere una procedura che prevede appunto accertamenti volti all'eventuale identificazione di dati sensibili analisi della tipologia di rifiuti funzionale allo smaltimento e ricerca di eventuali responsabilità di terzi per poi procedere alla rimozione dei rifiuti in linea di principio per affrontare la problematica dell'abbandono di rifiuti sul territorio comunale sia essa area verde o pista ciclabile o suolo pubblico l'amministrazione intende continuare prima di tutto ampliare l'offerta di sensibilizzazione civica per il rispetto e la cura del bene pubblico e dell'ambiente continuare a fornire esempi e stimoli di comportamento virtuosi per i cittadini e continuare ad operare in maniera sempre più efficace sull'identificazione la rimozione degli abbandoni e l'applicazione di sanzioni ove necessario la sanzione ricordo va dalla semplice sanzione amministrativa al reato vero e proprio a seconda dell'entità della pericolosità del rifiuto ai sensi sia dei regolamenti comunali che delle normative vigenti ed in rapporto alla procedura di cui ho parlato prima grazie grazie all'assessore si può replicare se desidera prego va bene presidente l'interrogazione parlava anche delle piste ciclabili aspettavo anche una risposta sullo stato di queste ma non importa allora premetto nessuna amministrazione anche la più efficiente può fare tantissimo in merito purtroppo alla maleducazione di alcuni cittadini o comunque di alcuni utenti di quelle cosiddette aree comuni questa interrogazione è stata fatta però per chiedere maggiore attenzione alle zone periferiche della città in particolare in questo caso per le piste cicabili aria e limitrofe la fotografia che sono state legate che sono solo un esempio adesso non abbiamo legate tantissimo per le difficoltà tecniche nel farlo e nel allegarla alla documentazione e riceverla a tutti i consiglieri comunque è evidente come quest'area limitrofa a una pista ciclabile quest'area esterna sia in uno stato di abbandono e oserei dire non da poco è evidente dalle fotografie allegate che non è da poco che quest'area si trova in queste condizioni non è neanche presente un cestino in questa area questo lo premetto e lo sottolineo e non giustifica l'abbandono di rifiuti perché quando uno non trova un cestino si tiene il rifiuto in tasca o addirittura nella macchina e appena ne trova uno quindi questo non è assolutamente un motivo o una giustificazione sicuramente quest'area era provvista nel passato mi ricordo bene anche di una oltre che di una recinzione come adesso è presente con pali verticali e anche di tutta una recinzione in legno di pali di pali orizzontali che probabilmente avrebbero impedito l'accesso o poter liberare in questo modo i rifiuti per quanto riguarda invece le piste ciclabili citate io come tanti cittadini frequento questa zona a piedi in bici correndo e la cosa che mi ha stupito è vedere come la strada fosse perfettamente pulita o comunque pulita e invece la pista ciclabile al suo fianco sporca per lunghi tratti e non solo in corrispondenza diciamo delle uscite degli appezzamenti agricoli che dico non si dovrebbe lo stesso perché però potrebbe essere giustificata o capibile più che giustificata ma proprio per tutto il tratto della percorrenza della pista ciclabile ed è evidente come probabilmente qualcuno preferisce con dei mezzi sporcare la pista ciclabile e percorrere lungo la pista ciclabile piuttosto che lungo la strada a maggior ragione questo tratto di strada e diciamo di pista ciclabile il prossimo 4 marzo quindi proprio brevissimo giro di posta lungo questa strada ci sarà la 9 miglia che è una manifestazione sportiva podistica che raccoglie fortuna molti partecipanti che proprio passeranno in questa zona quindi io credo che dare un'immagine della nostra città di un certo tipo non solo nella zona di partenza che è poi il centro cittadino quindi sicuramente sarà lindo e pulito ma anche per tutto il percorso comunque per tutto lo sviluppo della competizione potrebbe dare alla città sicuramente un'altra immagine della città un'altra immagine grazie grazie a lei consigliere è esaurito il tempo per le interrogazioni sono oltre le 8 in quarto ci eravamo dati già allargando le maglie questo limite pertanto queste interrogazioni saranno ci sarà la risposta per iscritto se non ci saranno consigli prima dei 30 giorni a far data dalla presentazione dell'interrogazione mi correggono se sbaglio il segretario il vice segretario ma in ogni caso così è la procedura quindi le teniamo in anche queste sospensione passiamo avanti la proposta numero 3 proposta di mozione firmata dal consigliere Amagiu e inviata il 16 ottobre avendo come oggetto conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di immigrati nati in Italia e residenti a Bra prego consigliere grazie presidente quanto tempo un po' del sarò bravissimo comunque non basta in 10 minuti neanche allora questa mozione in realtà l'ho presentata a metà ottobre e da metà ottobre nei mesi successivi poi è cambiato il mondo nel senso che puntava insomma a essere discussa nel consiglio comunale prima dell'arrivo dalla legge al senato ma poi sappiamo com'è andata a finire sappiamo com'è andata a finire dove appunto purtroppo lo voglio dire alcuni partiti politici hanno fatto in modo di non rendere neanche discutibile la proposta non presentandosi in aula uno fra tutti appunto oltre al centro-destra un partito in cui speravo in questo passaggio era il Movimento 5 Stelle che non si è presentato con 30 senatori ma in realtà anche il Partito Democratico con quasi 30 senatori assenti non hanno permesso la discussione anche se in realtà anche se in realtà non avrebbe fatto arrivare insomma il numero legale ma si sono assentati nello stesso insomma numero di senatori io ho voto in realtà ci sono alcuni punti che andrebbero modificati perché parlano insomma al futuro della legge e quindi non sono più non rispettano più l'arco temporale quindi a fine insomma di presentazione cercherò insomma di riportare degli emendamenti e delle modifiche allora le esperienze insomma migratorie e il conseguente mutamento della composizione della società europea italiana e locale in termini di multiculturalità pongono significative sfide al governo non solo nazionale ma anche locale principalmente sul piano della tutela posso dalla tutela dei diritti fondamentali della legalità e dell'integrazione gli italiani e le italiane senza cittadinanza sono quel milione di cittadini di cui 800.000 minori nati in Italia o arrivati in tenere età ma considerati dallo Stato ancora oggi stranieri in questo paese si consuma la loro intera esistenza imparano a camminare e a parlare crescono studiano lavorano proprio come tutti i loro coetanei che hanno ereditato la cittadinanza italiana secondo appunto la legge 91 del 92 il tema dell'integrazione dei cittadini stranieri in particolare rappresenta un impegno sul quale si gioca il futuro del nostro paese e rispetto al quale la politica ha un ruolo determinante tante realtà italiane si stanno mobilitando per questo diritto ricordo uno fra tutti la campagna di un milione di invisibili partita a settembre italiani senza cittadinanza e la campagna ero straniero lanciato dalla braidese Emma Bonino fra l'altro nella convenzione europea sulla nazionalità conclusa tra gli stati membri del consiglio d'europa addirittura nel 97 oltre 20 anni firmata ma ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro governo è previsto che ciascuno stato faciliti insomma nell'ambito del diritto interno l'acquisizione della cittadinanza per le persone nate sul territorio e i vi residenti legalmente e abitualmente l'articolo 6 paragrafo 4 lettera d l'articolo 3 della costituzione italiana garantisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alle legge senza distinzione di sesso di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali il rapporto tra i cittadini italiani e stranieri dovrebbe fondarsi su un patto di cittadinanza di reciproco rispetto basato su regole valori diritti e doveri e urge alla necessità per il nostro comune di lanciare un segnale importante al Parlamento e al governo affinché si arrivi a un voto da parte del Senato considerato che la proposta di legge in discussione nel Senato e a questo punto proporrò nel finale di modificarlo darebbe il via allo iussuoli temperato e allo iussuoli culturale queste sarebbero i nuovi due fatti specie per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri uno tramite iussuoli temperato e l'altro iussuoli culturale il primo si acquisisce la cittadinanza italiana per nascita chi è nato nei territori della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno europeo quindi lungo soggiornante di lungo periodo sappiamo che per avere questo documento ci vuole un reddito bisogna essere in regola con la casa il regolo con il casallare giudiziario soprattutto con tutto il percorso di integrazione e anche di superamento dell'esame di lingua e di cultura italiana per avere questo documento quindi teoricamente sono già persone ben inserite l'altro è lo ius culture per ottenere alla cittadinanza il minore straniero nato in Italia o entrato nel nostro paese entro il compimento del dodicesimo anno d'età che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni del territorio nazionale uno o più cicli di istruzione presso istituti appartenenti al sistema nazionale la camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza la legge di riforma della cittadinanza il 15 ottobre addirittura ma da allora il testo giasce in senato in attesa dalla promulgazione la legge pur nei suoi limiti si riscontrano infatti i profili discriminatori nella non attribuzione della cittadinanza ai bambini i cui genitori non abbiano un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale e a quelli che non concludono positivamente un ciclo di studi costituisce un passo in avanti comunque per il riconoscimento della cittadinanza a persone conosciute cresciute nel nostro paese l'attribuzione della cittadinanza onoraria quindi qui arrivo al punto dove richiamo insomma di più anche una posizione politica della nostra amministrazione l'attribuzione della cittadinanza onoraria può rappresentare un prezioso contributo per un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema anche se tale provvedimento non ha effettivamente un valore giuridico valutato che la legge che disciplina attualmente la cittadinanza italiana risale nel 92 quando all'epoca c'erano meno di 60.000 giovani nati in Italia di figli di genitori stranieri e quindi non rispecchia più le condizioni storiche della situazione è basata prevalentemente sull'uio sanguinis gli stessi presidenti della repubblica hanno più volte incommiato i comuni le province le regioni che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere concretamente le discussioni e la consapevolezza sul tema del conferimento della cittadinanza alle persone straniere in attesa dell'ospicata riforma delle leggi sulla cittadinanza può essere attuato dal nostro comune un importante atto simbolico di grande valore civile per il conferimento della cittadinanza onoraria ai figli nati in Italia dai cittadini stranieri che assumere questa iniziativa è nelle prerogative dell'ente locale in quanto sede dell'anagrafe e detentore di un rapporto diretto con i propri cittadini è necessario affermare il diritto alla non discriminazione dei bambini e degli adolescenti di origine straniera che vivono in Italia promuovendo anche con atti simbolici l'eliminazione di ingiuste limitazioni al godimento di diritti e facoltà nei confronti di persone che sin dalla nascita sono inserite nella vita civile e sociale del paese e qui arrivo all'impegno con questa mozione mi piacerebbe che il sindaco si impegnasse a conferire come atto simbolico la cittadinanza onoraria ai bambini nati nel territorio italiano e figli di immigrati stranieri residenti a Bra quale auspicata premessa di un effettivo riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del legislatore nazionale simili iniziative appunto sono state portate avanti anche dall'UNICEF oltre 280 comuni italiani hanno già concesso la cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia l'ultimo comune è stato il comune di Lecce mi dispiace che oggi non è presente il collega Nino Cornaglia sono vicino per problemi familiari ma l'ultima volta abbiamo discusso che la mozione è arrivata nel comune di Torino e c'era quasi una scommessa che i 5 Stelle avrebbero bocciata invece no il 23 gennaio anche il comune a guida i 5 Stelle ha approvato questa mozione tanti comuni hanno votato sì e a Torino anche l'opposizione di centrodestra ha votato sì tranne la Lega Nord ma prima vi sono stati Milano Bologna Napoli Pordenone Crotone Catanzaro Savona lo stesso Del Rio nel suo comune quando era sindaco ha approvato questo tipo di mozione il terzo punto invece dove chiedevo agli assessori comunali competenti di esporre in una stazione regante la scritta ritiro questo punto lo ritiro ma vorrei giungerne un altro e mi piacerebbe che questa mozione se passasse venisse recapitata a tutte le persone candidate al Parlamento che vivono a Bra so che abbiamo Borrelli prima c'era un'altra signora candidata e abbiamo Carla Di Feo magari sono altre persone inviare loro questa mozione che possa partire dal nostro territorio 10 minuti ancora io vorrei innanzitutto vorrei darle i punti che sono da cambiare da modificare cambiare insomma alcune alcune frasi soprattutto questo ultimo punto non so se rileggo quali sono i punti da cambiare oppure gliela consegno direttamente allora nel premesso va bene tutto insieme tranne l'ultimo punto dove appunto dice urge la necessità per il nostro comune no togliere semplicemente da parte del senato il resto rimane no un voto togliere da parte del senato sul decreto legislativo perché in realtà dovrebbe ripassare anche alla camera nuovamente e poi l'ultimo punto interamente quello dove c'è impegna gli assessori edifici comunali competenti del comune a esporre una striscione ritirare ritirare sì in realtà ho trovato una frase sul momento avvisare o consegnare insomma questa mozione del comune di Bra ai candidati al Parlamento che vivono a Bra esatto grazie 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 a lei consigliere ovviamente i gruppi si possono esprimere grazie a tutti se non interviene nessuno intervengo io a nome della maggioranza stiamo parlando di una questione annosa come è già stato anticipato molto bene dal consigliere Amagiu una questione che investe argomenti di ordine civile giuridico ma anche soprattutto sociale cioè nella storia il conferimento della cittadinanza ha sempre riguardato tutti questi aspetti mi viene in mente nella storia dell'antica Roma quando a mano a mano che le truppe di Roma prima repubblicana poi imperiale allargavano i confini del territorio sotto la giurisdizione dell'urbe si ponevano problemi di conferimento di alcuni tipi di cittadinanza c'era una cittadinanza come dire riservata ai ai cives optimo iure così diceva il latino cittadina pieno diritto che avevano anche in questo modo potevano ottenere una certa esenzione parziale o totale dal pagamento delle tasse oppure potevano fare parte dei gruppi delle tribù che avevano il diritto di eleggere i propri rappresentanti e di partecipare alla difesa armata della città penso per esempio ancora anche all'orgoglio con cui si diceva nell'antica Roma civis romanus sum sono un cittadino romano San Paolo per esempio ebbe la possibilità di evitare il processo sommario e essere trasferito a Roma come prigioniero perché era un cittadino romano lui che era di Tarso era stato insignito di questo titolo qualche anno prima questo per dire che il rapporto tra cittadinanza e stato tra cittadinanza e società è sempre si configura sempre come un rapporto a molte facce tanto più oggi che siamo in un mondo giustamente si dice globalizzato in cui il concetto di cittadino sempre di più differisce dal concetto di suddito perché il suddito è colui che è soggetto alla sovranità di uno Stato e la condizione lo status di suddito di per sé implica come è noto situazioni giuridiche che sono puramente passive doveri soggezioni mentre quella del cittadino implica come è noto la titolarità di diritti e di altre situazioni giuridiche attive seppur accompagnati da doveri ovviamente e da altre situazioni giuridiche passive e nel momento in cui lo Stato riconosce al suddito cosiddetto per virgolette diritti civili e politici questo non è più suddito ma diventa un cittadino e questo mi pare un passaggio molto importante per inquadrare dal punto di vista storico e culturale questa situazione che stiamo vivendo noi in questo scorcio di inizio di millennio dicevo l'avvento della globalizzazione ha poi ulteriormente portato a nuove e differenti esigenze un cittadino che lascia il suo paese per motivi vari ottiene un permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dall'autorità del nuovo Stato in cui va a risiedere un cittadino che soprattutto decide di mantenere la sua residenza nel paese in cui arriva e manda i propri figli nelle scuole di quel paese in cui è immigrato e permette ai propri figli di inquadrarsi inserirsi integrarsi nelle iniziative sociali scolastiche culturali ricreative organizzate dalle scuole ecco questo è il problema che noi abbiamo di fronte nella nostra attualità io devo dire che della mozione del consigliere Amagiù concordo io ma la maggioranza ovviamente concorda in pieno sulle premesse e sulle considerazioni quindi facciamo nostre le sue analisi riguardante le realtà italiane che si stanno mobilitando non da oggi ma da anni associazioni di volontariato gruppi movimenti politici semplici cittadini ricordo come lo stesso Amagiù ha scritto l'iniziativa la campagna un milione di invisibili italiani senza cittadinanza la campagna ero straniero lanciata tra l'altro dalla braidese Emma Bonino al quale mi pare che la giunta abbia aderito con un atto formale nelle scorse settimane negli scorsi mesi insomma negli scorsi mesi concordo sulla bontà e sul significato positivo del testo di legge che si è arenato in senato per motivi che tutti ben sappiamo e non può essere e non è stato approvato nello scorcio di legislatura in particolare mi preme qui sottolineare e riprendo le parole del consigliere Amagiù sulla significativa differenza tra lo IUS soli cosiddetto temperato e lo IUS culture lo IUS soli è in vigore negli Stati Uniti è in vigore in Canada in vigore in quasi tutti i paesi dell'America Latina prevede questa disposizione che ogni persona che nasce sul territorio di quegli Stati ipsofatto è cittadino di quello Stato per la verità anche in Italia c'è una limitatissima forma di IUS soli che riguarda persone bambini non riconosciuti che nascono sul nostro territorio da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza o nel caso di un soggetto che sia figlio di ignoti ed è stato trovato nel territorio italiano questo è un caso limitatissimo però lo IUS soli effettivamente esiste anche in Italia ripeto riguarda una minima parte dei bambini che sono tra noi molto interessante invece ci sembra la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana attraverso lo IUS soli temperato che prevede che la cittadinanza sia data per nascita a chi è nato appunto nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo quindi si escludono i soggiorni brevi saltuari temporani e lo IUS culture che è ancora più interessante perché mette in gioco la competenza e l'implicazione della realtà scolastica e culturale del nostro territorio può ottenere la cittadinanza il minore straniero nato in Italia o entrato nel nostro paese entro il compimento del dodicesimo anno di età a condizione però che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni nel nostro territorio uno o più cicli di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idoni al conseguimento di una qualifica professionale la richiesta va sempre comunque fatta dal genitore a cui è richiesta la residenza legale o dall'interessato qualora abbia raggiunto e superato di due anni la maggiore età un po' di dati possiamo anche conferirli qui cito uno degli studi della fondazione Leone Mores sui dati istat a sua volta citato dal quotidiano della Repubblica qualche mese fa e quindi se non ricordo male nell'ottobre scorso 2017 in Italia c'erano circa un milione e 65 mila minori stranieri moltissimi di questi ragazzi figli di genitori da tempo residenti in Italia oppure hanno già frequentato almeno un ciclo scolastico e a volte le due categorie si sovrappongono l'una all'altra e sempre secondo questi calcoli al momento i minori nati in Italia ripeto ottobre 2017 da madri straniere dal 99 allo scorso ottobre erano 634 mila per quanto invece riguarda le Usculture sono 166 mila i ragazzi stranieri che hanno completato almeno 5 anni di scuola in Italia non tenendo conto però degli iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori perché ovviamente questi sono già maggiorenni ecco per tutta questa serie di premesse e sulla necessità in cui noi crediamo fortemente di far combinare il rispetto delle regole con la possibilità da offrire a queste persone di far parte delle regole noi vogliamo fortemente che il prossimo Parlamento tra le primissime iniziative che vorrà adottare sia quello di completare l'iter di approvazione del disegno di legge che è stato fermo ripeto alla Camera il disegno di legge insomma attraverso qualche parte l'avevo scritto ma adesso non mi ricordo ecco qui disegno di legge S2092 recante titolo modifica la legge del 5 febbraio del 92 numero 91 perché è la legge attualmente in vigore che disciplina il conferimento della cittadinanza sostanzialmente sulla base del cosiddetto ius sanguinis a parte quei rarissimi casi di ius soli che ho citato prima ma che sono poco significativi allora affinché il Senato o la Camera non so quale sei eliter se dovranno ritornare indietro partire da capo o comunque in ogni caso affinché questa legge tanto attesa possa essere approvata ed entrare finalmente in vigore ci deve essere chiaramente una mobilitazione di tipo culturale su questa mobilitazione di tipo culturale devo dire che il Comune di Bra da anni sta lavorando con alcune considerazioni e molto importanti cito due questioni solo Bra con Alba e Cuneo ha mantenuto aperto lo sportello stranieri presso la sede staccata della Questura anzi questo sportello scusate presso il Comune presso il Comune grazie Assessore ha mantenuto aperto lo sportello stranieri presso il Comune ricevendosi addirittura i complimenti del Prefetto e della Prefettura di Cuneo con l'impegno anche di ulteriormente aprirlo alcune ore alla settimana in più non solo ma da anni il Comune si è fatto parte diligente come si dice in questi casi per avviare delle pratiche virtuose di cooperazione e collaborazione con tutti i soggetti quartieri associazioni di genitori docenti direzioni didattiche presidenze e gruppi informali e formali per garantire veramente l'attuazione completa dei progetti su questa tipologia di minori allora proprio partendo da queste considerazioni su quanto il Comune di Bra sta facendo da anni non siamo d'accordo sull'ultima parte della proposta del Consigliere Tamagiu nella quale si dice che impegna il Sindaco e la Giunta come atto simbolico a conferire la cittadinanza onoraria ai bambini nati nel territorio italiano anche qui spero di essere chiaro nella spiegazione non perché siamo contrari a una manifestazione di intenti che vada nella direzione di una equiparazione che sarebbe antistorica negare ma perché riteniamo che arrivati a questo punto della discussione nel Paese nel Parlamento qualunque altra forma di passatemi questo termine di anacquamento sia pure con le maggiori e ottime intenzioni della massima buona fede qualunque forma di anacquamento o di sostituzione di quello che dovrebbe essere un atto formale riconosciuto dalla legge stonerebbe veramente con tutte le premesse della nostra cultura di persone attente alla realtà dei fatti e che non si chiudono dentro improbabili recenti facendo finta di non vedere che il mondo fuori dalla nostra finestra è cambiato a vertiginoso ritmo nel giro di pochi anni quindi il conferimento della cittadinanza sia pure simbolico a nostro avviso suonerebbe come una diminuzione nel senso ci accontentiamo di questo? No noi non possiamo accontentarci di questo noi vogliamo che i nostri parlamentari al più presto una volta eletti quando il Parlamento sia convocato e possa entrare nella pienezza dei suoi poteri delle sue funzioni sia in grado finalmente di mettere la parola fine a questo balletto che rischia addirittura di essere quasi poco anzi non quasi rischia di essere poco rispettoso nei confronti dei soggetti stessi che sono interessati a questi provvedimenti ecco perché il conferimento della cittadinanza onoraria sul quale tra l'alto si aprirebbero anche delle questioni di tipo tecnico burocratico perché come è noto la cittadinanza onoraria almeno per il nostro comune può essere conferita rispettando alcuni criteri i criteri di aver illustrato la città con particolari meriti di ordine storico artistico politico economico di aver portato il nome di Bra in giro per il mondo per iniziative imprenditoriali o comunque per situazioni simboliche senza tenere conto tra l'altro che almeno negli ultimi anni la cittadinanza onoraria è stata conferita a persone che non erano residenti a Bra e pertanto la cittadinanza onoraria di per sé secondo il nostro avviso non potrebbe rispondere anche a queste questioni di ordine tecnico amministrativo burocratico che si potrebbero presentare ma noi vogliamo di più noi vogliamo che effettivamente il Parlamento approvi questo tipo di legge per consentire ai ragazzi ai compagni di scuola di mia figlia ai miei allievi che partecipano in tutto e per tutto alle iniziative sociali culturali e recreative della nostra città non siano più diversi resi diversi da una norma che secondo noi è antistorica perché dal 92 fino ad oggi sono passati 26 anni 26 anni e in 26 anni un quarto di secolo e il mondo sicuramente è cambiato mi pare che abbia detto tutto quello che volevo dire ai fini della comprensione poi delle modifiche che abbiamo apportato a questo testo se trovo il testo emendato lo trovo perché c'è abbiate fede volevo solo consegnarlo perché ci facesse una fotocopia però volevo anche illustrarvi quali sono i punti della differenza rispetto al testo originale eccolo qua quindi io adesso consegno un foglio perché perché siano fatte le fotocopie la parte della mozione di Amajou che noi non riteniamo soddisfare le nostre esigenze l'ho cancellata e mentre ho evidenziato con la biro rossa e quindi nella fotocopia rimarrà comunque un segno di biro non rossa ma ci sarà ho evidenziato le modifiche portate ex novo quindi mi pare che sia di facile di facile comprensione quindi questo è il testo che noi presentiamo alla discussione e mettiamo qui sul banco per ulteriormente proseguire il discorso tenendo presente ripeto che nello spirito della proposta della legge siamo perfettamente favorevoli grazie grazie a tutti grazie a tutti aspettiamo che l'uscire abbia portato almeno il testo in fotocopia per poterlo perché ciascuno di voi lo possa visionare poi ovviamente la discussione è aperta se posso un'iscire 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 Grazie. 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 Scusate, consigliere all'Asia, prego. Grazie, presidente. Allora, sull'argomento avevo fatto un intervento a un modo di comunicazione, non mi ricordo più se l'ultimo consiglio comunale o il penultimo, stigmatizzando quello che era successo nelle aule del Parlamento, riferito a tutte le parti politiche coinvolte, comprese quelle per cui io qui ne rappresento il simbolo, ovvero quello che diceva prima il consigliere Abb, la stensione, o meglio, scusate, la non presenza, per evitare un passaggio nelle aule parlamentari. E questo perché nel 2013, a inizio legislatura, qui almeno dalla provincia di Cuneo, io personalmente con l'attuale consigliere regionale di Cuneo, Mauro Campo ed altri, lavorammo sulla proposta di legge, sulla modifica della cittadinanza che il Movimento 5 Stelle presentò a inizio legislatura. Ora, sono state lette tantissime cose e vorrei essere il più breve possibile e quindi non ripeto tutte le considerazioni fatte, volevo portare un esempio per cui la mancata riforma della cittadinanza porta a una discriminazione vera e propria nei confronti dei minori. E' un esempio particolarmente importante, a mio avviso, perché è un esempio riferito ad un ambiente che dovrebbe essere scuola di vita, totalmente equiparabile alla scuola e dello sport. Ci sono delle federazioni che non ammettono ragazzi o bambini che essendo figli di stranieri ed essendo residenti non da un ciclo scolastico anche ma da parecchi anni sul territorio italiano con stabilità e senza interruzione non possono partecipare a determinate competizioni perché non hanno la cittadinanza italiana. Quindi immaginatevi un ragazzo che gioca in una squadra, fa gli allenamenti, si allena con i propri compagni, li può solo accompagnare alla partita ma non può partecipare e ne condivide con loro non solo i momenti di sport ma anche i momenti di scuola e i momenti di vita sociale. Penso che a me questo esempio è vicino, è vivo perché l'ho vissuto in questi anni, visto che mio figlio fa attualmente a terza media, quindi ho visto dei suoi compagni, un suo compagno in queste condizioni e a parte l'assurdità diciamo della regola della federazione nello specifico, è chiaro che questa regola è possibile assumerla di fronte a una regolamentazione nazionale che ha questa cornice restrittiva nei confronti del diritto alla cittadinanza. bene, è possibile anche che questa legge la cui discussione si sia interrotta nei rami del Parlamento non sia una legge ancora diciamo correttamente impostata, che abbia dei problemi, è possibile e penso che, almeno così pensavamo e lo continuo a pensare qualche anno fa, che andrebbe accompagnata una riforma della cittadinanza un pochettino più estesa per evitare discriminazioni di fronte a casi di persone straniere che vivono nel nostro territorio e che magari in alcuni casi dovrebbero aspettare più anni, per esempio il genitore dovrebbe aspettare più anni del figlio per ottenere la cittadinanza. E sto parlando ovviamente di casi in cui la residenza e quindi la vita sociale e economica di questa famiglia o di questo nucleo familiare è costantemente, senza interruzioni, svolta nel nostro territorio. Con una battuta poi ci sarebbe da dire anche che ci vorrebbe una riforma della cittadinanza se fosse mai possibile per toglierla a chi non la merita. Ecco, ma lì entriamo in un discorso che è paradossale, ma non così tanto, insomma. Il problema è che non si possono creare apolidi in sostanza. Ma è chiaro che il percorso dello Youth Culture è un percorso, non è semplicemente figlio dei tempi, ma una logica importante, formale, perché io chiedo la partecipazione alla vita economica, sociale, del nucleo familiare, ma non ne riconosco a pieno tutti i diritti. Sono un pochettino più critico per quanto riguarda lo Youth Soli, perché i paesi citati dal Presidente del Consiglio, ma questa diventa una riflessione accademica in questo contesto, però mi permetto di farla, visto che intendo esprimere il mio pensiero, è che lo Youth Soli, se guarda bene ai paesi che ha citato, nasce per un'esigenza di incoraggiare i processi migratori, nel senso dell'entrata. E per dire venite a noi, in sostanza, perché abbiamo spazi, terra, abbiamo bisogno di mano d'opera, di teste, di cervello e di formare dei tessuti sociali. In società e in nazioni, come prevalentemente quelle europee, questa esigenza non c'è e a mio avviso si creerebbero anche, come dicevo prima, delle discriminazioni, perché che differenza ci può essere a questo punto tra un bambino straniero nato in qualunque paese all'esterno della comunità europea e che, ad esempio, beh, lasciamo perdere altre ragioni, ma si trasferisce con la famiglia all'età di sei mesi, o un anno, due anni o tre anni, rispetto a quello che è nato qui. Faranno lo stesso percorso, faranno lo stesso ciclo di studi, faranno tutti quanti la materna, se vorranno, l'elementare, la scuola media, eppure uno avrà un privilegio rispetto all'altro e soprattutto uno avrà magari il privilegio rispetto allo zio che lavora e vive qui da 10-15 anni e che fa domande di cittadinanza e magari deve aspettare, nonostante abbia tutti i diritti per ottenerla, un po' di anni, o deve rivolgersi a un avvocato, per fare in modo che il suo diritto venga assolto. Ma al di là di questi dettagli è chiaro che il passaggio della legge sarebbe un passaggio di natura epocale. E visto che è una questione di diritto fondamentale, come dicevano la comunicazione di qualche tempo fa, il giocare sui diritti, per speculazioni puramente elettorali, parliamoci chiaro, io penso che sia vergognoso, per cui sono contento che il Comune di Torino, che guida la maggioranza del Movimento 5 Stelle, abbia approvato questo tipo di mozione. È vero, il passaggio parlamentare sarà aperto dal 5 marzo in avanti, con tempistiche ignote, perché non sappiamo neanche come partirà e se partirà la prossima legislatura, visto le incognite che ci sono, per questo sinceramente non capisco quanto espresso dal Presidente in rappresentanza della maggioranza, per quanto riguarda la prima parte dell'impegno chiesto nella proposta di mozione, perché è vero che di fronte a un diritto l'assegnazione della cittadinanza un'oraria, scusate, è una diminuzio, giusto? Ma rispetto a niente, che è l'attuale, è il prossimo futuro, ha un valore, ha un valore forte e importante. Per cui non ci sarebbe, a mio avviso non c'è neanche il pericolo che possa sembrare come, passatemi il termine, una presa in giro verso chi magari rivendica quei diritti, no? Cioè non vedo nessuna, non vedo nessun lato negativo nell'appresa, nell'effettuare, nell'attuare un atto simbolico, proprio perché essendo simbolico deve avere un valore, può avere solo un valore simbolico. Per le ragioni che ho espresso, quindi, devo dire che sono favorevole alla mozione presentata dal consigliere Abb, nei termini che l'ha presentata, anche nelle considerazioni, nelle modifiche che ha proposto, e a questo punto sono curioso di ascoltare anche la posizione degli altri consiglieri. Grazie. Grazie al consigliere Allasia. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente. Mi sento un po' in imbarazzo, perché credo che dobbiamo andare un po' controcorrente, insomma, in questo clima un po' di melassa al miele che si sta creando questa sera. La cittadinanza è un istituto che, dalle prime capanne, sorte sul Tevere, vicino a Roma, nella zona che poi sarebbe diventata Roma, ha focalizzato l'attenzione. Lei parlava, Presidente, prima della cittadinanza dell'impero romano. Ricordo che fu l'imperatore Caracalla, con la Costituzio Antoniniana del 212 d.C., a concedere la cittadinanza ai peregrini. Peregrinus era il cittadino straniero che viveva all'interno dei confini dell'impero romano. Ma, ben ricordato lei, era più che altro una questione economica, perché i cittadini romani godevano di esenzioni, nelle province dove vivevano, rispetto a coloro che la cittadinanza non la possedevano. Nel corso del tempo abbiamo assistito a mutamenti dello spirito della cittadinanza. Ricordava prima il consigliere all'Asia alcuni paesi, soprattutto quelli anglosassoni, che attiravano, fino al secolo scorso, cittadini stranieri, proprio perché disponevano innanzitutto di spazio. Gli Stati Uniti erano un terreno vergine da abitare e da ripopolare. E quindi hanno strutturato le loro costituzioni su una praticità, cioè chi nasceva sul territorio statunitense era in automatico cittadino americano. Concordo con quanto diceva il consigliere all'Asia. Per noi europei è diverso, perché in realtà noi europei abbiamo una sovrappopolazione, tant'è vero che sono stati i nostri concittadini fino a pochi anni fa a dover emigrare. E anzi, con la crisi attuale è ricominciata l'emigrazione verso i paesi più ricchi. Io credo che il 5 marzo molti si sveglieranno da un bel sogno e faranno i conti con la realtà, perché se i sondaggi politici parlano di un certo andamento di quello che potranno essere le elezioni, basta vedere il sentiment, cioè il chiacchierare con le persone normali per vedere quali siano le preoccupazioni legate, anche una questione come quella dello Ius e Soli. Perché oggi si fa molta confusione. Io credo che storicamente non ci sia un periodo, non ci sia stato, e non ci sia un periodo peggiore per parlare di un tema come questo. Perché da molti anni il nostro paese è interessato anche da un'immigrazione, diciamolo pure, selvaggia. Sono ormai centinaia di migliaia le persone sparcate in questi anni sul nostro paese. Solo poche, una percentuale minima, riceve poi lo status, un qualche tipo di status di rifugiato. Gli altri no. Ma per ospitare queste persone sono spesi un sacco di soldi. Ricordo che solo con le finanziarie dal 2015 al 2017 sono stati stanziati 10 miliardi per l'accoglienza. Mentre i nostri ragazzi sono costretti ad emigrare per trovare lavoro all'estero. Far passare un concetto simile, in un momento passatemi anche di tensione sociale, ed è innegabile questo. E non mi sto riferendo solo agli ultimi fatti di macerata, purtroppo con l'omicidio, di questa povera ragazza innocente con la tentata strage di quel... Non voglio essere irriverente in una sede come questa, ma di quel cretino che ha perpetuato questo fatto. Però una tensione sociale c'è, e si avverte, ed è innegabile. Credo che parlare di cittadinanza e di ius soli in questo momento storico sia decisamente sbagliato. E c'è un'ipocrisia di fondo, perché alcuni partiti, mi riferisco al primo partito italiano, ancora oggi, che è il PD come numero di deputati e senatori, se da una parte, attraverso i suoi dirigenti, ha sempre ribadito che lo ius soli era una questione di civiltà, beh, ce lo hanno ricordato i consiglieri che hanno parlato prima di me, alla prova dei fatti, hanno fatto sì che molti dei loro rappresentanti non si trovassero in aula per far venire meno il numero legale. E c'era un motivo. Il motivo è che le elezioni si avvicinavano. Quindi è stato un puro e un mero calcolo politico. Quindi da una parte abbiamo un partito che ci dice che lo ius soli è una misura di civiltà, ma dall'altra parte fa di tutto per affossarlo, dando poi magari la colpa agli avversari, dicendo che non c'erano i numeri, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io credo che se una battaglia è una buona battaglia, la si deve condurre anche in minoranza. La si deve combattere anche sapendo di perdere. I nostri governanti ci hanno dimostrato il contrario. Da quando si parla di ius soli sono diventato un po' più sensibile su questa tematica. Voi sapete che per lavoro io seleziono personale e da settembre in avanti sono venuti da me a portare il curriculum, a candidarsi. Molti ragazzi diplomati a giugno, luglio dell'anno scorso. Molti di questi ragazzi sono ragazzi di origine straniera. Non hanno la cittadinanza. E allora così, chiacchierando, ho posto alcune domande. Diciamo, ma hai fatto domanda per la cittadinanza? La tua famiglia l'ha fatta? Ti interessa? Non posso darvi una percentuale e non vuole essere esaustiva questa mia... Perché comunque posso aver parlato con poche decine di ragazzi. Tutti i ragazzi braidesi, tra l'altro. E credo che almeno nell'80% dei casi la risposta sia stata beh, se arriva, bene. Ma se non arriva, tanto ho il permesso di soggiorno. Ho la carta di soggiorno. Quindi non mi cambia molto la vita. Quindi la mia riflessione è noi oggi ci accapigliamo politicamente su tematiche come lo IUS e soli ma probabilmente chi dovrebbe ricevere il frutto di questo lavoro cioè i ragazzi che sono nati in Italia o sono arrivati in Italia da bambini e hanno fatto tutto il percorso scolastico. Lo posso testimoniare. Ci sono dei ragazzi che arrivano da me e mi lasciano il loro curriculum per cui se non vedessi il nome di chiara origine straniera io non farei nessuna fatica a distinguerli da un italiano. Anzi, parlo un italiano perfetto. Però molto spesso mi dicono non sono interessato. Non è questo quello che io voglio. Mi interessa avere la carta di soggiorno e ce l'ho. La cittadinanza è un qualcosa in più. Il percorso deve essere questo. Secondo me. Lo IUS sanguinis non è sbagliato a mio giudizio. Lo IUS sanguinis dà la cittadinanza a chi nasce da genitori italiani non la dà a chi nasce da genitori non italiani anche se soggiornati sul territorio italiano ma fa sì che chi desidera veramente dei ragazzi giovani nati, cresciuti scolarizzati nel nostro paese fa sì che questo percorso sia netto nel momento in cui si prende la decisione di prendere la cittadinanza. Ecco. Devo fare un percorso? Magari anche un percorso ad ostacoli ma questo percorso lo affronto perché ho desiderio di essere parte viva di questo paese che mi ha accolto mi ha dato ai miei genitori il lavoro una casa e a me probabilmente una speranza. ma perché dobbiamo darlo a tutti? Perché deve essere concesso tutto a tutti anche a coloro che in realtà non ne sentono nessuna necessità? La mia domanda è ci stiamo a meglio le nostre forze politiche a livello nazionale si stanno dando così da fare non tutte perché alcune sono nettamente contrarie e io mi riconosco in queste forze politiche anche se non non ho tessere di partito non mi riconosco in nessun partito dell'arco costituzionale del centro-resti però ci si scanna spesso solo a parole perché poi i risultati sono ben visibili sul fatto che questi ragazzi abbiano la necessità di avere gli stessi diritti dei loro dei loro coetanei italiani che la cittadinanza ce l'hanno e mi chiedo quali diritti sono negati a questi ragazzi? la scolarizzazione? assolutamente no vanno a scuola e sono integrati nella scuola esattamente come i ragazzi italiani il welfare? viene negato loro l'assistenza medica? se un ragazzo di origine straniera va in ospedale perché non ha la cittadinanza italiana non viene curato guai l'unica l'unico privilegio perché è un privilegio che non hanno è il voto ma lo Ius Soli viene dato a chiunque allora mi chiedo non è che dietro tutta questa tutto questo ragionamento tutta questa campagna sullo Ius Soli non ci sia poi un interesse ad accappararsi il voto di questi ragazzi? non è che ci sia sempre dietro campagne come questa un secondo fine perché non si vede altrimenti nessun'altra spiegazione al fatto che tutti diano per scontato che i ragazzi che non hanno oggi la cittadinanza italiana sono 800.000 la vogliano la desiderino ma chi l'ha detto? abbiamo chiesto la loro opinione? io ho fatto un esempio è un mio piccolo esempio e come ripeto non vuole essere esaustivo però si sta veramente facendo i conti i conti senza l'oste ma arriviamo a fare questi conti in un momento in cui nel nostro paese stiamo vivendo una crisi economica che dura da anni stiamo veramente spostando il focus delle cose importanti io credo che in questo momento in questo momento storico con un'immigrazione selvaggia lo vediamo con gli sbarchi di questi anni sulle nostre coste con una tensione sociale che si respira sicuramente non è il momento per proporre questo ci deve essere la pazienza eventualmente nel futuro mi auguro di no perché la mia visione sarà sempre quella di un percorso da parte di chi vuole la cittadinanza d'altronde siamo italiani se noi emigriamo in un altro paese nessuno ci regala nulla nessuno ci regala nulla abbiamo fiorfiore di laureati che per la crisi economica devono andare a fare i camerieri in Germania in Australia provate ad andare in Australia a chiedere la cittadinanza provate provate ad entrare in Canada senza avere il permesso di soggiorno vi bloccano l'aeroporto non riuscite neanche a entrare eppure Canada ed Australia mi sembrano due paesi civilissimi provate ad andare in Svizzera e a chiedere alla cittadinanza Svizzera se siete italiani ci vogliono 16 anni di permanenza il permesso di soggiorno ci vuole ovviamente la possibilità di dimostrare di sapersi mantenere di avere una casa di non avere carichi pendenti di dimostrare di sapere inglese chiedo scusa tedesco francese e italiano perché sono le tre lingue della Svizzera dare un esame di storia e di cultura noi qui invece dobbiamo sempre regalare tutto a tutti la cittadinanza è un dono beh noi lo abbiamo ricevuto questo dono alla nascita ma questo dono lo dobbiamo fare regalare agli altri sempre senza nessuna contropartita prima facevo l'esempio di questi ragazzi vi posso assicurare che ho visto e assunto in questi anni ragazzi stranieri signori stranieri risedenti in Italia da più di vent'anni con la cittadinanza e non riuscivano a mettere insieme quattro parole di italiano di senso compiuto allora è possibile che si debba sempre giocare sul sentimento altrui e lo si fa spesso e volentieri per un mero calcolo politico volete sapere come finirà la questione dello Ius Soli in un nulla di fatto perché dal 5 di marzo non ci saranno i numeri per farlo perché io mi auguro il centro-destra avrà una maggioranza e se avrà la maggioranza sicuramente lo Ius Soli non si farà ma se anche così non fosse non ci saranno i numeri perché anche il Movimento 5 Stelle mi spiace per il collega a fianco che ha espresso un'opinione chiara e letta e gliene va dato atto però è sempre stato molto ambiguo in questo non ha mai espresso una posizione chiara io a oggi posso sapere cosa pensa il Movimento 5 Stelle sull'euro cosa pensa sull'Europa non dico cosa pensa sui riborsi perché sarebbero sparare sulla croce rossa bravo bravo però il discorso il discorso è cosa pensa il Movimento 5 Stelle sullo Ius Soli hanno fatto mancare c'erano anche loro che una trentina di tre deputati senatori non mi sembra se non ricordo male che hanno fatto mancare il numero sono quelli che hanno risicuito i soldi ma sono stati cacciati ecco detto questo adesso perdonatemi stiamo parlando di cose serie ma ho voluto fare una battuta per alleggerire anche un po' la tensione siamo anche tutti stanchi questa sera e Presidente qua dentro c'è un caldo africano e anche il caldo africano vorrebbe lo Ius Soli a questo punto ma non posso accogliere questa mozione lo dico francamente ho grande rispetto per il collega Maju probabilmente è la persona più lontana da me come idee politiche credo che non ci sia nulla che ci accomuna politicamente parlando ma conduce le sue battaglie sempre con con convinzione una volta andando anche contro contro i mulini a vento e questo in qualche modo gli fa onore quello stesso onore che dovrebbero aver avuto alcuni partiti politici come ripeto prima avendo più coraggio se questa era la loro vera intenzione e conducendo una battaglia di retroguardia la cittadinanza onoraria per me è sempre stata per me è sempre stata motivo chiudo subito presidente è sempre stato motivo di di disaccordo spesso con questo consiglio perché la cittadinanza onoraria va conferita e centellinata solo a poche persone quelle persone che hanno dato lustro pur non residenti ma hanno dato lustro alla cittadinanza quello che ci viene proposto questa sera è una quasi ammissione di debolezza cerchiamo di dare almeno il contentino senza avere però il risultato maggiore che è lontanissimo dalle mie idee ma il proponente io credo che avesse questa questa intenzione mi riservo ancora quello che lo spazio che il regolamento mi concede però non posso guardare con negatività sia alla mozione del proponente sia agli ammendamenti che la maggioranza ha proposto grazie grazie ecco a proposito degli ammendamenti che la maggioranza ha proposto nel frattempo sono arrivati sui vostri banchi le fotocopie e allora ovviamente come ho già detto prima la parte cancellata con un tratto è quella da modificare quindi l'intestazione il sottoscritto ovviamente era lui e diventa il consiglio comunale e poi a metà pagina c'è un ricordiamo invece di un ricordo perché parliamo in prima persona plurale nella pagina 2 è considerato che al terzo punto la camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza la legge di riforma della tessadinanza non è il 15 ma il 13 ottobre ma è soltanto un refuso numerico 2015 ma da allora il testo giace in senato in attesa della promulgazione definitiva e la nostra correzione è che non ha potuto avere luogo prima dello scioglimento del Parlamento questa è la parte aggiunta nella pagina 3 dove c'è scritto valutato che dopo il primo punto lo stesso presidente della Repubblica eccetera noi aggiungeremmo questo emendamento il nostro comune aderisce da alcuni anni in modo attivo e propositivo all'associazione città della fraternità che vede molti suoi aderenti favorevoli al riconoscimento della cittadinanza secondo il TDL S2092 cosiddetto Iussoli recante titolo modifica la legge 5 febbraio 92 numero 91 eccetera e il cui impegno ha tra le il cui cioè impegno dell'associazione ha tra le meritorie iniziative contribuito all'inserimento nello statuto della città di Bra in riferimento al virgolette valore della fraternità con le condizioni dell'agire politico articolo 12 comma 2 dello statuto la parte invece che comincia con impegna e giungiamo impegna il sindaco e la giunta il punto 1 viene abolito almeno la nostra proposta il punto 2 a sollecitare i membri del prossimo parlamento affinché si arrivi in tempi rapidi poi manteniamo l'approvazione della legge secondo e aggiungiamo secondo il già citato DDLS 2092 recante il titolo eccetera eccetera e poi aggiungiamo due punti nuovi nell'ultima pagina sempre impegno al sindaco e alla giunta a continuare ad adoperarsi affinché i nuovi italiani siano accompagnati nello sviluppo dell'iter burocratico attraverso la consulenza e l'assistenza negli sportelli comunali in collaborazione con quelli sindacali a continuare a promuovere come integrazione del percorso scolastico in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a favore di tutti i minori iniziative finalizzate alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza questo ci premeva ribadire per quanto anche l'assessore Fogliato in questi anni nella sua deleghe ha operato attivamente perché questo si realizzasse per me mi prendo ancora due minuti spero di non parlare da 21 ore 26 minuti ma non è non è comparsa quella è l'ora non è comparsa il mio conto sono fuori quota va bene no ci mancherebbe ci mancherebbe mi fermo nei 5 minuti lo use sole lo use culture contrariamente a quanto è stato detto prima non è vero che sono completamente automatici e gratuiti lo use sole di temperato così come prevede il disegno di legge prevede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni e se il genitore in possesso di permesso di soggiorno non proviene dall'Unione Europea ci sono altri tre parametri uno deve avere un reddito non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale due deve disporre di un alloggio che risponde ai requisiti di donità previsti dalla legge tre deve superare un test di conoscenza della lingua italiana in ogni caso ulteriormente sia il cosiddetto use sole temperato sia il cosiddetto use culture sono sempre a richiesta del genitore o di chi esercita la patria potestà del minore quindi a maggior ragione non si tratta di un dono ma si tratta di un impegno legato al carattere stesso della cittadinanza cittadinanza vuol dire in qualche modo condivisione di impegni di diritti e di doveri legati al nuovo territorio in cui si abita non si abita per caso ma si abita dopo aver regolarmente seguito questi criteri che sono delle sono dei parametri sine qua non altrimenti non ci sarebbe un'ultimissima cosa lo use sole non riguarda come noto ma a volte nella questione delle polemiche di questi giorni di questi mesi si tende magari a sopprasedere su questo aspetto che non è un aspetto secondario ma è fondamentale lo use sole non riguarda assolutamente la questione dei rifugiati o di quelle che è tutto un altro paio di maniche quindi non si possono mescolare la questione delle emergenze degli sbarchi con la questione degli us sole sono due argomenti che sono completamente diversi e io sì se ci fosse stata un'interrogazione sugli argomenti non l'avrei accomunata perché sono veramente due argomenti completamente diversi questo lo devo dire perché è la verità è la realtà dei fatti lo use sole non c'entra niente con gli sbarchi degli immigrati e dei richiedenti asilo consigliere Tripodi grazie per rispondere per rispondere al presidente io non ho detto assolutamente questo io ho detto che il sentiment in questo momento è di eh no eh no no le parole le parole sono importanti caspita mi mi preto consigliera all'asia mi pento veramente della discussione sulle nostre interrogazioni perché veramente qui mi pento eh ma il pentimento è posto io non ho detto assolutamente questo ho detto che il sentiment in un momento storico come questo no no perché diamo se no ci rivediamo le immagini perché diamo il giusto peso alle parole ci vuole lavare in questo caso il presidente è caduto quindi dobbiamo rivedere se fallo da rigore certo ma io non ho assolutamente detto quello che ha detto lei se sono due cose diverse io l'ho anticipato prima dicendo che però in un momento come questo storico sociale ed economico è ovvio che non si può parlare di un diritto o di un dovere come lo ius soli temperato o meno nel momento in cui ci sono sbarchi selvaggi nel nostro paese perché i nostri concittadini gli italiani non lo capirebbero questo ho detto questo intendevo bravo ma visto le sue parole per carità ma visto che lei deve sempre mettermi in bocca delle parole no 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 lei stava lei stava puntualizzando il fatto che non si possono dire queste cose perché lo ius soli non viene dato ai migranti sbarcati e chi l'ha mai detto l'ho forse detto io ho detto la polemica politica di questi mesi io mi ho detto per il consigliere che mi ha preceduto ma sì però ero solo io ad averlo detto quindi è ovvio presidente va bene stiamo giocando con le parole lei ha fatto una precisazione io faccio una precisazione perché mi sono sentito toccato dalle sue parole mi sono sentito mi sono sentito messo in mezzo e mi sono sentito mettere in bocca parole che io non ho detto né pensieri che ho mai avuto ho semplicemente parlato di un sentiment in questo momento che non giustificherebbe decisioni politiche come questo perché la nostra gente non lo capirebbe punto chiuso non ho finito i miei cinque minuti presidente ne ho ancora tre a disposizione conteggio anche le sue interruzioni però è ovvio che viviamo in un momento e lo ripeto e lo ribadisco e lo ribadirò sempre a costo di essere noioso in cui è molto facile fare spesso della pura demagogia e la sinistra italiana in questo è stata maestra in questi anni maestra pura demagogia perché ci hanno detto che questa era una com'era la parola giusta ah sì un atto di civiltà ma si sono ben guardati da trasformare questo sì benissimo certo ce l'avevate nel programma anche prima avete visto e avevate i numeri avevate i numeri ma santo cielo avevate una maggioranza assoluta la camera di cosa stiamo parlando parlano i programmi ma i programmi poi bisogna ma i programmi poi bisogna attuarli non ho iniziato io presidente anzi crederei di non essere interrotto vorrei solo finire quindi cerchiamo di essere coerenti con le nostre scelte un programma è un pezzo di carta se poi non lo si trasforma in qualcosa di concreto punto adesso ho finito chiedo scusa se mi sono alterato ma ho interpretato le sue parole dirette a me e questa cosa mi ha veramente fatto innervosire se è così se non è così me ne dispiace non tanto per il presidente ma per l'amico perché siamo superiori credo a queste cose decisamente però ribadisco quella che è la posizione mia ma dei colleghi del centro-destra per cui siamo contrari sia alla mozione sia agli emendamenti proposti che sono una foglia di fico vuol dire tutto e non vuol dire niente cosa si chiede al prossimo Parlamento di condividere una legge che doveva già essere stata approvata prima è acqua è un bicchiere d'acqua fresca che non fa male a nessuno ma non risolve nessun problema noi invece avremmo bisogno in questo Paese di avere qualche politico che possa risolvere i problemi non importa che sia di sinistra di destra o del 5 stella ma che abbia una visione chiara sul futuro e non solo sulla prossima tornata elettorale credo che il nostro Paese si meriti qualcosa di meglio lo meritano gli italiani in primis e lo meritano anche tutti quei ragazzi che sono arrivati che crederanno nel nostro Paese e maggiorenni perché io parlavo di cittadini maggiorenni prima quelli che vengono da me sono diplomati quindi sono maggiorenni hanno piena autonomia e possono se vogliono fare domanda per la cittadinanza grazie grazie no voglio chiarire che non mi riferivo affatto a lei quando parlava e non ho assolutamente intenzione di metterle in bocca parola che non ha detto quindi se sono stato poco chiaro chiedo scusa accetto la sua la sua replica consigliere Tripodi poi consigliere Milazzo prego Tripodi grazie presidente abbiamo ascoltato con con forte interesse il dibattito su questa mozione una mozione interessante quasi che appunto è arrivata alla conclusione quasi del suo iter ma poi per questioni politiche tutto si è bloccato ci sono state secondo noi è stata un po' un attimo un po' di confusione diciamo che non voglio assolutamente essere diciamo fare un discorso tanto lungo perché la tematica è complessa diciamo che lo iusso di temperato esiste già in italia esiste già una cittadinanza perché è nato in italia da genitori anche stranieri e risiede interrottamente da fino a 18 anni e già ha già la cittadinanza acquisita quindi esiste già in italia uno iusso di temperato crediamo e condividiamo parte dell'intervento appunto del collega Marengo e per di più crediamo anche che ci sia forse bisogno anche di introdurre questo argomento che è quello della cittadinanza non soltanto a livello nazionale ma anche a livello europeo pensate che uno stato estero che dà la cittadinanza ad un soggetto diventa automaticamente cittadino europeo quindi forse l'Italia oltre ad avere un governo dovrebbe avere anche qualcosa che quello che si chiamava un po' non statista perché continuare a guardare sempre il problema gli argomenti le situazioni solo fino ad un cento punto no? e poi non guardare lontano forse è arrivato il momento per quelle forze politiche che credono in quella che è l'Europa inizino a parlare a condividere qualcosa che fa parte della cultura della civiltà della società europea quindi riteniamo che non sia il momento e non ci sia una necessità urgente per formalizzare una legge che sarebbe una legge appunto diciamo molto 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 ristretta in quello che potrebbero essere gli obiettivi ci servirebbe un governo che guardi un pochettino più avanti e magari introducesse questo argomento nelle istituzioni che sono europee magari intromettendo il Parlamento magari chiedendo qualche parola alla Commissione e anche al Consiglio ma detto ciò è giusto avere delle opinioni assolutamente perché comunque se dobbiamo ampliare e secondo il nostro veramente umile giudizio questo discorso dovrebbe essere portato in ambiti che siano quelli europei è anche vero che comunque ognuno di noi ha il proprio ragionamento ha le proprie credenze come già detto prima lo giulissorio ritemperato esiste già in Italia il discorso che prima si faceva su immigrazione cittadinanza su quelli che sono stati gli sbarchi i profughi e quant'altro secondo me crea confusione anche nel dibattito non vuol dire che se l'Italia ad oggi ha una tipologia di cittadinanza che è basata soprattutto sul sangue sono figlio di rimango sarò italiano se ho un genitore che è italiano ma in questo frangente in questo frangente nel momento in cui stiamo parlando di una mozione e anche io anche io mi complimento col consigliere Abderraman perché comunque mantiene ferma la sua linea dando l'opportunità di poter parlare e discutere di temi secondo me importanti ma importanti non solo ed esclusivamente a fine elettorale a fine elettorale perché la cittadinanza dare o non dare la cittadinanza a chi nasce semplicemente qui o a chi semplicemente non ha un padre o una madre con un permesso di soggiorno o cittadini italiani eccetera non vuol dire che l'Italia sia chiusa che non sia solidale che non sia aperta tutt'altro credo però e crediamo però che il tema della cittadinanza è un tema alto diciamo che è il punto di partenza non è un arrivo la cittadinanza crediamo che appunto perché sia una cosa veramente importante sia un punto di partenza e su questa questione ci sono delle forze politiche che hanno delle idee molto chiare ma anche noi senza avere il simbolo di questo di quel partito ma consapevoli del fatto che siamo rappresentanti di una lista civica che fa riferimento a quello che vuole essere oggi la casa appunto dei moderati del centro-destra abbiamo delle semplici idee crediamo innanzitutto che ci sia una legge se questa dovrà essere se ce ne sarà il caso crediamo che sia importante innanzitutto che colui quale decidesse di essere cittadino italiano sia almeno da dieci anni presidente in Italia che avvenga un test di naturalizzazione che si accertino le conoscenze della lingua almeno nella scuola secondaria e sia gli usi e i costumi e tradizioni delle comunità in cui vive è il punto richiedente che abbia un reddito che possa sostenere le proprie famiglie e poi abbia una cosa fondamentale una gran voglia di diventare italiano perché la cosa che ci preme è evitare di concedere la cittadinanza a coloro i quali appunto vengono nel nostro paese ma in modo superficiale in modo poco rigoroso riteniamo che questa legge se si è bloccata così in Parlamento forse perché un po' come tutte le leggi di questo governo guardiamo quella elettorale sono state tutte fatte fruttelosamente con zero condivisione ma con la fermezza parliamo della nostra posizione che personalmente ma credo di poter parlare anzi non credo parlo anche a nome del mio del mio collega siamo contrari a allo giusso ma una questione ma una questione in questo caso oltre che a parlare di appunto legge sulla cittadinanza in questo caso c'è davanti una mozione questa mozione che vuole dare per simbolo appunto almeno dare una onoreficenza simbolica ai figli degli immigrati la riteniamo non necessaria ma non necessaria per il fatto che non si meritino rispetto tali soggetti anzi rispetto uguale a tutti quanti gli altri figli ragazzi giovani di qualsiasi famiglia e di qualsiasi nazionalità ma per il semplice fatto proprio in maniera di definizione proprio per la definizione in sé della cittadinanza onoraria perché è una è una onoreficenza concessa ad un soggetto che è ritenuto legato alla città per il suo impegno per le sue opere soggetto che deve essersi distinto particolarmente nel campo delle scienze delle lettere delle arti o dell'industria o dell'assistenziale o in opere o in imprese o in realizzazioni o in prestazioni in favore degli abitanti del comune o eccetera 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 quindi direi che quasi in questo modo andremmo a tra virgolette creare una differenzazione tra ragazzi di giovane età perché diciamocela tutta io ho anche dei nipoti conosco tante famiglie ma qua si tratta di dare di origine di conosco anche tante famiglie di origine straniera con la quale appunto abbiamo rapporti condividiamo tante cose ma in questo caso dare la cittadinanza onoraria perché sono più contento e vedo di buon occhio positivamente il fatto che il consigliere Abderraman ponga la questione in maniera dura perché se è la cittadinanza e con tutto quello che è la sua legge la proposta che è afferma su questa mozione è il suo obiettivo lì deve puntare e lì è giusto si potranno avere delle posizioni diverse degli intendimenti diversi ok però sarebbe un accontentarsi diceva benissimo anche il presidente e per il semplice fatto che non penso che ci siano dei bambini che richiedano o che vogliono o che si sentano meno italiani rispetto ad altri bambini io penso che nella propria classe i bambini hanno tutt'altro che pensare di essere o meno cittadini italiani tutt'altro hanno pensiero di avere alle spalle un ambiente accogliente pulito dove poter crescere serenamente sia dal punto di vista familiare che dal punto di vista scolastico tutto il resto mi sembra tanta demagogia io veramente in alcuni momenti dico forse serve un attimo di serietà e che mi ci debba essere proprio qualcuno che mi convinca a dire per quale motivo io devo in questo momento proprio così nella mia città per la prima volta differenziare quello che sono i bambini che come ho detto prima tutto hanno a che pensare tranne che pensare alla cittadinanza o quant'altro anche dopo quello che abbiamo sentito dal consigliere da Marengo che quelle lì sono esperienze personali dove molti giovani molti giovani hanno l'opportunità la possibilità di poter diventare di poter avere ottenere la cittadinanza italiana ma che alla fine a tanti poco importa ma ritengo veramente che debba passare e non debba anzi che non debba passare l'idea che la cittadinanza venga tra virgolette donata e non invece meritata perché è veramente un qualcosa di importante perché prima quando ascoltavo l'intervento di qualche altro collega non ricordo più sentiva ma chi è cittadino italiano può votare è la parte più alta l'espressione di votare l'espressione del voto lì è la parte fondamentale ma è anche fondamentale è necessario il fatto che coloro i quali che vivono nel nostro paese siano consapevoli del fatto che all'interno del nostro paese si debba sapere la nostra lingua si debbano conoscere le nostre culture ma non significa né essere ottusi non significa né essere razzisti significa essere consapevoli del fatto che è giusto che sia così le politiche sulla cittadinanza molto più aperte sono state appunto ma queste cose qui sono state già dette da altri colleghi in momenti storici diversi abbiamo detto che negli altri paesi europei c'è da tutte le parti una sorta di giussoli temperato con ma è anche vero che in altri paesi molto meno rispetto a come può essere il nostro stato diciamo danno la possibilità a coloro i quali ne hanno veramente bisogno e necessità e si è visto in tutto questo periodo hanno dato prova di essere veramente aperti solidali riconoscenti verso coloro i quali hanno una cultura diversa e provengono da paesi esteri quindi voteremo contrariamente a questa mozione e quindi non so comunque non so se il mio collega panero vorrà dire ulteriormente qualcosa quindi posso? grazie grazie consigliere Milazzo e poi consigliere Maggiù sì grazie presidente sarò brevissima era solo una precisazione anche perché condivido in pieno quanto lei ha espresso a nome anche della maggioranza sia sulle motivazioni che ci spingono a non dare la cittadinanza onoraria sia le motivazioni che ci hanno invece spinto a formulare questo tipo di tipologia di mozione allora la mia precisazione è tipo matematico perché la matematica non è un'opinione è stato detto che il partito che ha proposto la legge sullo Iusole ha poi fatto mancare di fatto i voti con i 30 assenti a perché questa legge passasse quindi si concretizzasse anzi è stato usato la parola concretizzarsi questo non è assolutamente vero perché fossimo stati fossero stati perché non c'erano fossero stati anche tutti presenti io personalmente avrei preferito non andare a fare lo shopping natalizio o essere presente da altre parti sarei stata lì a costo di non alzare di farmi venire un icos cerebrale come succede qui stare tutte queste ore sedute scusatemi ogni tanto mi alzo non ho dei tic ma vengo veramente dei problemi agli arti inferiori allora dicevo quindi che non sarebbe passato ugualmente perché il numero della maggioranza era relativa e quindi non sarebbe passato scusate la precisazione grazie grazie per la precisazione consigliere maggiù prego grazie presidente sono abituato insomma io ho fatto parte per tanti anni di Amnesty International in tema di diritti c'è sempre chi considera i diritti non prioritari oppure non importanti oppure che ci siano altre cose più importanti se puoi battersi per cui è normale vorrei aprire solo dicendo che non è un cretino ma un terrorista e fascista che ha offeso tutti noi portando la bandiera sulle spalle commettendo un crimine contro innocenti quindi non lo definirei un cretino ma un terrorista fascista perché è spinto da un motivo politico è spinto da un odio e non è un cretino una persona di Macerata e poi grazie per avermi detto insomma sia i due colleghi che sono insomma coerenti sulle mie posizioni è vero lo sono e non mi importa in realtà di parlare dalla pancia dei cittadini ho una visione politica e la porto avanti anzi a volte quella pancia dei cittadini è sfruttata dai più vorrei in realtà non difendere il partito democratico perché abbia cambiato posizione ma in realtà tutti i partiti hanno cambiato posizione non so chi andranno a votare i colleghi di centrodestra se voteranno Lega ok ma se voteranno centrodestra sappiano che nel 2013 il PDL Fini hanno presentato uno dei soli più aperti di questo addirittura prevedeva il diritto di cittadinanza dopo solo un anno della nascita del bambino qualora si iscrivesse alla scuola elementare alla scuola elementare il primo anno di scuola elementare poteva acquisire la cittadinanza qualora i genitori fossero in Italia da almeno un anno regolari quindi erano ancora più aperte di queste qua e sono loro che giocano sulla pancia dei cittadini sono loro che hanno cambiato posizione perché fa comodo prendere i voti dei cittadini che oggi dichiarano che la colpa è degli ultimi arrivati anche se qui non stiamo parlando degli ultimi arrivati ma stiamo parlando di futuro dell'Italia perché sono il futuro dell'Italia si è detto poi che appunto l'Italia c'è uno ius soli dove appunto chi nasce senza genitori può essere considerato italiano questo in realtà è il quindicesimo articolo della dichiarazione universale dei diritti umani e c'erano tutti i paesi ONU sia in Zimbabwe in Ghana in Marocco Italia Francia ovunque chi nasce senza genitori ha il diritto alla cittadinanza del luogo ho sentito parlare davvero tanto di Europa ma un cenno lo vorrei fare prima sugli Stati Uniti d'America sappiamo tutti che al governo c'è un presidente non pro immigrazione basterebbe un giorno e cambierebbe lo iusolo americano ma non lo cambia perché quello è uno spirito nazionale diverso e piuttosto di cambiare una cosa simile piuttosto sta costruendo muri con miliardi di dollari per cui non c'è più quell'emergenza di aver bisogno di lavoratori di aver bisogno di persone che possano arrivare nel paese il diritto della cittadinanza loro lo leggono come un atto di rendere le persone che nascono sul territorio al pari però io ho presentato la mozione perché credo che sia veramente importante non solo dal punto di vista legale ma anche culturale di far sentire queste persone appartenere alla comunità un riconoscimento dei nuovi italiani era un messaggio forte che poteva essere mandato in primis ai nostri cittadini perché bisogna smettere anche di alimentare queste contrapposizioni sono tutti cittadini dando questa cittadinanza onoraria era un messaggio importante a queste persone per dire ok se lo Stato non si muove noi come comune vi consideriamo cittadini onorari cittadini a tutti gli effetti come gli altri e magari prevedere anche un incontro dove si consegnava la Costituzione si trasmettevano i valori della Costituzione e fare un evento cittadino con italiani nuovi italiani genitori bambini in nome della Costituzione in nome della partecipazione e della cittadinanza questo mi aspettavo ma serve coraggio purtroppo serve coraggio e qui manca molto manca molto anche nelle modifiche che sono state proposte e manca molto soprattutto in questa fase perché penso che proprio in questa fase quelle persone che credono insomma di portare avanti determinati valori debbano avere coraggio perché più si indietreggia e più altre posizioni vanno avanti e in queste situazioni bisogna andare avanti andare avanti perché bisogna portare avanti i temi dei diritti della cittadinanza della partecipazione della pace e anche della fratellanza e fare un passo indietro perché qualcuno cresce elettoralmente penso che sia molto grave questo riconoscimento legale ho sentito parlare tanto in maniera non informata perché non hanno vissuta sulla prima pelle perché non conoscono in realtà bene la situazione come se non servisse un riconoscimento legale se ci fosse diventa ulteriormente indispensabile quando inizia a formarsi maggiormente il bambino perché la personalità inizia a formarsi con la scuola elementare poi le medie e poi nella scelta delle scuole superiori dove questi ragazzi hanno già acquisito una base importante che gli indichi la strada da percorrere e quindi la scelta della propria carriera anche lavorativa scolastica universitaria eccetera eccetera probabilmente se ci fosse stato lui soli io non sarei qui oggi a discutere con voi assolutamente qui lo dico e qui lo chiudo non vorrei aprire questa questa fase personale anche intima ma se ci fosse stato lui soli all'epoca io sarei stato cittadino italiano e avrei costruito i miei sogni da piccolo il mio sogno da piccolo era di fare la carriera nelle forze dell'ordine ma quando sai di non avere il prerequisito abbandoni quel sogno per sempre e non ci pensi più e inizi a costruire altre basi per un futuro diverso ecco la cittadinanza per me era importantissimo quella lì non avere la cittadinanza non ti permette di fare delle scelte importanti della tua vita pensate che chi ha semplicemente permesso di soggiorno non può andare via dall'Italia per più di sei mesi non può per legge non si può la legge Bossefini vieta l'uscita dall'Italia per più di sei mesi si parla molto di sport come strumento di integrazione ma un giovane che anche se è nato in Italia con il semplice permesso di soggiorno deve aspettare mesi affinché la FIGC e questo lo racconto sulla mia propria pelle la FIGC regionale ti dia l'ok per giocare calcio e a volte ci mettono tre quattro mesi e l'andata del campionato ormai l'hai saltata consigliere le inviterei a concludere inoltre non poter partecipare ai campionati sportivi per il numero limitato di posti io posso incorporare anche il mio inoltre non poter partecipare ai campionati sportivi e ci abbiamo avuto tantissimi casi di ragazzi che sono grandi nel loro sport ma non possono andare a rappresentare l'Italia perché non sono italiani e assistiamo grazie anche insomma alle leggi stupide della Bossifini ragazzi che si sposano con cittadini italiane senza spiaccicare una parola dopo tre anni sono italiani i ragazzi che ci sono nati e cresciuti non hanno questo diritto chiedo scusa ha esattamente 15 minuti per la replicata grazie mille non potersi iscrivere a corsi statali o bandi pubblici in alcuni casi non si può anche se c'è stata l'apertura per coloro che hanno la carta di soggiorno in alcuni ambiti non si può partecipare e quindi lo Stato investe sull'istruzione sulla formazione soldi e contributi pubblici di tutti noi ma poi non diamo la possibilità a questi ragazzi di andare verso i loro sogni questo è lo Ius Soli che vorremmo noi temporale perché assolutamente si parla di donne gravide che sui barconi per alimentare la rabbia della gente ma non è questo non è questo si parla di dare cittadinanza ai ragazzi atti in che possano competere e rendere grande il nostro paese non possono andare in gite scolastiche fuori dai paesi Schengen attualmente o se sono Schengen e hanno la ricevuta del permesso di soggiorno non possono andare con i loro compagni di scuola e a me è successo personalmente che ti prepari mesi e mesi affinché vai a giocare un campionato internazionale con la Cheraschese giocavo nel Cherasco qualche settimana prima ti accorgi che ops non posso andare ho il permesso di soggiorno e mi serve il visto turistico tutti i miei colleghi tutti i miei compagni partivano e io giovane piccolo inizio a vedere ops veramente sono molto diverso è un documento che ti rende completamente diverso l'impossibilità di iscriversi a corsi conservatori di arte dedicati ai cittadini italiani purtroppo ci sono ancora tantissimi corsi del genere che permettono solo ai cittadini italiani di entrarvi la possibilità come ho detto prima di non andare a fare Erasmus non poter fare Erasmus studi per poter avere esperienze europee ma non lo puoi fare e poi qualcuno ha accennato anche sul fatto politico io sono attivo in politica dal 2005 ma poi ero attivo anche in altre associazioni sui diritti umani dell'ambiente e fra tutte le associazioni l'attivismo politico era quello che più mi dava soddisfazione e felicità nell'essere partecipe nelle attività cittadine non ho mai avuto ruoli istituzionali ma era comunque bello poter ascoltare i problemi della gente e condividerle con il partito o i superiori che poi li portavano nelle amministrazioni o nei governi oppure nelle varie assemblee e la partecipazione è libertà e io aggiungerei che la partecipazione è responsabilizzazione anche politica e partecipare attivamente alla vita politica sia come elettore che come eletto è un elemento fondamentale della democrazia e anche nel nostro piccolo e l'idea è che persone nate cresciute in Italia non possono esprimersi democraticamente con il loro voto alle elezioni mentre altre persone che hanno antenati italiani che vivono in Svizzera o in Brasile da 40 anni che non parlano neanche più la lingua hanno il diritto di voto e di eleggere a distanza a me questo sembra assurdo personalmente assurdo ed è una legge che c'è anche per il Marocco come sapete io la doppia cittadinanza e vengono fatte le elezioni anche in Marocco e in Italia io mai e mai e poi mai parteciperò a certe elezioni non condivido molto la politica dei cittadini all'estero penso che sia giusto che voti chi quelle leggi le subisce chi le vive tutti i giorni e poi c'è uno slogan che è sempre stato molto a cuore ai liberali e a molte persone di destra che è il no taxation without representation della Virginia per sancire l'illegittimità delle tasse nelle situazioni in cui era assente la rappresentatività parlamentare dei cittadini è stato usato molto dai liberali anche da Berlusconi in questo termine e vi vorrei far notare che noi qua abbiamo nel nostro testo unico negli enti locali l'articolo 37 che parla della composizione dei consigli comunali noi sappiamo che fino a 30.000 abitanti i comuni devono avere 20 membri in comune a rappresentare i cittadini sopra i 30.000 abitanti 30 membri se questo fosse coerente città come Alba dovrebbe ritornare a 20 e come Bra perché dovreste togliere quel numero di persone che non possono votare che non possono scegliere chi li rappresenta eppure il consiglio comunale cresce e diminuisce grazie anche a quei numeri quindi forse sarebbe da modificare anche al testo unico perché si dovrebbe parlare della rappresentatività degli eventi diritto e non dei cittadini che non possono essere rappresentati e non è un tema di sinistra perché secondo me è un tema di giustizia e voglio ribadire che prima di iniziare a fomentare molto questo discorso a fine elettorali il centro-destra era per lui soli grazie grazie al consigliere Amagiù allora se su questo argomento non ci sono più interventi bisogna procedere con ordine rispetto alla discussione degli emendamenti all'approvazione degli emendamenti comunque consigliere Allasia finisco dopo il concetto mi scusi mi scusi presidente ma devo dire che devo fare i miei complimenti al consigliere Ab perché è stato efficace ha controreplicato punto per punto sia con una sintesi sul merito che anche con una partecipazione emotiva importante e ha detto alcune cose che in parte pensavo di dire e quindi alcune cose non le dirò ma c'è un punto centrale che che ha colto anche prima il presidente in una sua replica e che la cittadinanza non è automatica un altro punto importante che è stato toccato anche dall'intervento del consigliere Abbe è la questione di discriminazione cioè si creano situazioni o si possono creare situazioni in cui c'è discriminazione di trattamento tra persone che seguono percorsi completamente differenti e la cittadinanza non viene assegnata in base al percorso si parlava di merito della cittadinanza ma in base ad acquisizioni questi sì a doni dovuti a passaggi o scorciatoie concesse dalla legge ora è vero che la cittadinanza è un dono qualcuno ha detto che la cittadinanza è un dono e che non va regalata i primi a cui è stato dato questo dono siamo noi a noi è stata donata questa cittadinanza e io non sono neanche tenuto a dimostrare se merito questa cittadinanza o meno quindi nei miei confronti la cittadinanza italiana è totalmente gratuita aperta non me la toglie nessuno stiamo parlando di persone che la cittadinanza se la devono conquistare perché fuori dal loro paese devono costruirsi una vita in modo stabile devono costituire un nucleo familiare e devono avere non l'automatismo ma la possibilità di fare in modo che anche i loro figli possano entrare a tutti gli effetti nel sistema sociale in cui loro vivono nella modifica proposta dalla maggioranza c'è un punto molto molto importante che è quello dell'integrazione del percorso scolastico ecco io devo dire che di nuovo per esperienza personale visto che mi trovo ad affrontare questa fase della vita in cui un figlio che frequenta la scuola il problema è molto serio il problema dell'integrazione dei ragazzi stranieri nella scuola essenzialmente per due motivi uno per l'impreparazione dei genitori e l'altra per l'impreparazione delle istituzioni inteso come istituzione scolastica e anche le istituzioni come enti locali perché io non ho partecipato di persona mia moglie per esempio era nel consiglio di classe e ha partecipato a riunioni in cui si poneva il problema degli stranieri nella scuola e la definizione di straniero era basata semplicemente sul cognome ignorando di fatto ad esempio figli di coppie miste in cui c'era un genitore che dava il cognome straniero al figlio oppure figlio di coppie straniere che avevano già la cittadinanza italiana o figli come nel mio caso personale che acquisivano un cognome italiano ma erano figli di coppie miste tutte situazioni differenti c'è un problema a livello di adulti c'è un problema a livello di istituzioni scolastiche perché non siamo in grado di affrontare ad esempio la doppia lingua non siamo in grado non c'è la preparazione siamo molto indietro da questo punto di vista e purtroppo non mi ricordo gli atti né il nome specifico del ruolo della persona che adesso va a citare mi ricordo solo il cognome professor Cabo che è un un cileno almeno dall'accento mi è sembrato di capire che è cileno uruguayano ed è responsabile dell'educazione in qualche ambito in Uruguay ma anche all'interno di un ente dell'ONU ebbene vedevo recentemente un suo intervento e bisognerebbe far capire ai genitori ai genitori dei figli che frequentano le scuole in cui c'è un'alta percentuale di figli stranieri di bambini figli di famiglie stranieri che questi studi affermano che i ragazzi che partecipano in classi dove c'è diversità etnica e culturale risultano avere alla fine del loro corso accademico maggiori capacità in termini di relazione con gli altri quindi in termini di capacità di lavorare in team e di creatività perché sono costretti ad affrontare problemi cioè sono costretti ad affrontare diversità la diversità dal punto di vista anche biologico è l'elemento fondante dell'evoluzione dove c'è omologazione dove c'è una sola via c'è la morte biologica e non c'è evoluzione il tumore è questo il tumore è esattamente questo il nostro sistema immunitario si basa sulla diversità questo per dire che chiedo scusa questo per dire chiedo scusa finisco il concetto questo per dire che l'accoglienza intesa come attribuzione della cittadinanza è certo accoglienza come diverso ma di un diversi ma questo non deve spaventare e non si deve neanche chiedere assimilazione l'integrazione non è assimilazione in un solo senso ma è bionivoca perché solo così la nostra società ne può trarre ne può trarre giovamento in questo senso la cittadinanza ha un senso anche simbolico fortissimo grazie grazie a lei consigliere consigliere Isu prego ma pensavo di non intervenire perché la discussione si è allungata ma credo che posso aggiungere un pensiero velocemente ritengo che estendere i diritti non faccia perdere nulla a chi i diritti li ha già ma ci permetta di vivere meglio tutti insieme e questo è il il primo concetto che mi sento di esprimere a favore di questa mozione per esperienza lavorativa conosco molti ragazzi che sono nati cresciuti nelle nostre scuole nella nostra nella nostra città e che lavorano in sinergia con gli altri quindi assolutamente si lavora molto bene nelle classi in cui non c'è omologazione e io utilizzerei la parola contaminazione nel senso che proprio anche per la disciplina che svolgo dove lo sviluppo della creatività è alla base avere idee diverse arrivare da culture diverse arricchisce sicuramente il patrimonio culturale che ciascuno può portare avanti e lavorare in sinergia con chi ha idee diverse è sempre un vantaggio proprio perché ci si mette in gioco quindi il mio intervento è assolutamente a favore di questa mozione proprio perché il lavoro che svolgiamo oggi è per portare sempre più diritti e sempre più apertura nel nostro pensiero in un progetto di un'Italia che sarà sicuramente diversa da quella che hanno vissuto le nostre generazioni la mia in particolare ma io stessa proprio perché ho vissuto in una situazione di spostamento sostanzialmente culturale ma che poi ho trovato nell'accoglienza e nella scuola e nella formazione una assoluta comprensione di valori nuovi e diversi e quindi mi sono arricchita non ho perso assolutamente nulla di quello che potevo aver portato nella mia situazione iniziale per cui credo che questo arricchimento sia assolutamente reciproco e mi fanno tenerezza i ragazzi che appunto non hanno la cittadinanza ma che quando ritornano nei paesi d'origine dei loro genitori non conoscono neanche la lingua a volte quindi hanno difficoltà a confrontarsi con i loro coetanei quindi credo che sia veramente assurdo non procedere in questa direzione antistorico e credo appunto che bisognerà fare di tutto per portare questo per l'attuazione di questo momento mi veniva in mente una piccolissima proposta che possiamo muoverci noi come istituzioni scolastiche visto che siamo state portate in questione che è quella di ricordare ogni anno il 20 di novembre la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza proprio per proclamare l'identità di essere semplicemente degli adolescenti e cittadini nel mondo ecco e non tutte queste distinzioni di radici e di cose che non insomma ci costruiamo noi delle barriere intellettuali ma i ragazzi non le hanno grazie grazie a lei consigliere Isu consigliere Elena grazie presidente ma ho ascoltato interventi dei colleghi devo dire che su questo argomento ho preso qualche appunto adesso non mi ero preparato non mi sono preparato molto però le mie idee mi ero confrontato con il mio capogruppo che stemperare un po' spero che non prenda la cittadinanza dove è andato perché veramente comunque a parte stemperare un attimo anche la cosa sei 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 mesi no la mozione che ha presentato il consigliere Amagiu anche io gli faccio i complimenti dal punto di vista di come l'ha fatta che esprime le sue idee su questo argomento io dal mio punto di vista per quanto mi riguarda condivido e sposo appieno le considerazioni che ha fatto il consigliere Marengo in toto secondo me lo Iussoli è una legge sbagliata forse in un momento sbagliato proprio come ha specificato bene il consigliere Marengo in questo momento poi c'è stata un po' col presidente però effettivamente le tensioni ci sono in questo momento i cittadini non credo che capirebbero questa cosa secondo il mio punto di vista poi per carità di Dio c'è una questione importante però penso che le problematiche l'assessore Borrelli ha detto che nel programma elettorale del PD c'è questo punto ma penso che i punti più importanti dal punto di vista della nostra nazione siano altri cioè ci sono i poveri italiani che sono aumentati a dismisura il lavoro la disoccupazione aziende che chiudano e tutto di più questo non voglio non voglio non vuol dire che questo non sia il problema dell'immigrazione questo sì l'immigrazione secondo me è un problema che bisogna mettere mano in qualche maniera io dico diventare cittadini italiani poi qualcuno l'ha detto qualcuno ha detto ma non è proprio così però non può secondo me essere un automatismo così cioè bisogna in qualche modo fare dei passaggi e secondo me la legge attuale secondo il mio punto di vista sono sufficienti perché garantiscono i giusti tempi e le corrette modalità di conseguimento per arrivare a questo traguardo per me è un traguardo il consigliere dei tribuni ha detto che non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza secondo me invece deve essere un punto di arrivo cioè anche la considerazione per quanto riguarda il riconoscimento dei valori della cultura della nostra storia quindi cioè da questo punto di vista il discorso della cioè prendere con superficialità e con i buoni sentimenti un argomento come questo secondo me non può essere accettato così come un problema cioè sia il problema dei problemi poi ancora due piccole considerazioni vorrei ricordare come ha già specificato bene il collega Marengo che in Italia non viene violato alcun principio di uguaglianza tutti i minori a prescindere dalla città di ordinanza godono degli stessi diritti dall'istruzione dalle cure sanitarie fino anche all'iscrizione società sportive associazioni poi come ha detto il consigliere all'Asia e anche lo stesso consigliere se ci sono questi passaggi che invece in qualcosa ci sono delle tempistiche invece diverse questo in effetti si può eventualmente mettere mano in qualche maniera poi dico ho guardato un attimo il presidente diceva che in alcuni paesi lo Ussoli Nord America però da quello che mi risulta ci sono 160 paesi nel mondo che non applicano lo Ussoli vogliamo definire tutti questi paesi che sono paesi xenofobi non credo proprio anche i paesi anglosassoni anche la Gran Bretagna l'Ede perché l'hanno abolito uno nel 1983 uno nel 2005 anche in Germania si applicano gli Ussoli però ha messo dei paletti molto rigidi quindi se molti paesi non lo adottano penso che sia anche per tutelare la cultura l'identità della popolazione di ogni paese questo non vuol dire non arrivare a un compromesso io questo non voglio dirlo però così come è presentato secondo me come un automatismo semplice non mi può andare bene un'ultima cosa voglio dire il consigliere a Maju ha detto che e io condivido dei fatti di macerata che questo quello che ha sparato sia un terrorista fascista però mi piacerebbe anche dire vorrei magari che anche i quattro che hanno fatto quell'efferrato del delitto cioè dire che anche quelli sono dei peggio dei terroristi fascisti sono non so nemmeno come definirli cioè bisogna anche mettere tutti i puntini sulle i quindi dal mio breve intervento di chi faccio già la mia dichiarazione di voto che voterò contrario a questa mozione grazie a proposito di chi vota come bisogna poi chiaramente no qualcuno ha prima detto sarò favorevole però ci sono emendamenti bisogna fare tutta quanta no no questo non è una ci mancherebbe è un promemoria per tutti aspettiamo ancora eventuali interventi altrimenti se non ci sono interventi passiamo allora alla alla parte della votazione divisa come poi mi diranno il segretario e il vice segretario ma dovrebbe essere abbastanza chiara la la trafila prima si dunque mi pare di poter capire che né il consigliere Maggiù voglia ritirare i suoi emendamenti d'altra parte neanche la maggioranza ritira i propri quindi si va a votare per adesso poi mi correga il segretario se sbaglio sull'accoglimento o meno degli emendamenti del consigliere Maggiù degli o del insomma nella formulazione che ha consegnato prego consigliere voleva dire qualcosa prego ho 5 minuti no? facciamo dichiarazione di voto ma prima di farla volevo solo riprendere insomma quello che avevo detto all'inizio aprendo la sesura della mozione volevo solo ribadire che la convenzione europea sulla nazionalità è del 97 e qui ho sentito nominare alcuni paesi europei e visto che stiamo concludendo insomma a questo momento vorrei che ce ne andassimo tutti almeno anche se abbiamo idee diverse con informazioni più corrette possibile uno la Germania e il cittadino tedesco automaticamente chi nasce in Germania se il genitore vive da 8 anni quindi è al di là dell'attuale legge italiana quindi è già molto più aperta per cui non è rigida ma apertissima regno unito alla cittadinanza chi nasce da un genitore con il permesso di soggiorno di lungo periodo cioè quindi se è arrivato ad avere il permesso di soggiorno di lungo periodo in Germania è nascito figlio è inglese Spagna acquisisce la cittadinanza per l'acquisizione della cittadinanza per le seconde generazioni è piuttosto semplice se il soggetto nasce in Spagna e i genitori sono nati all'estero è sufficiente un anno di residenza nel paese la procedura di naturalizzazione per tutti gli altri soggetti comporta la residenza di un periodo di dieci anni e la rinuncia della cittadinanza precedente il tempo di residenza poi si riduce a cinque anni qualora fossero dei richiedenti asilo dei rifugiati ma questo è anche in Italia e due anni qualora fossero di origine di un paese latinoamericano Belgio la cittadinanza è automatica se si è nata sul territorio nazionale ma quando si compiono 18 anni o 12 se i genitori sono residenti da almeno dieci anni quindi se i genitori vivono da dieci anni anche senza cittadinanza tedesca e nasce un figlio tuo figlio è se pergio Danimarca per la naturalizzazione servono nove anni di residenza e bisogna superare certo esami di lingua storia struttura sociale e politica del paese ma nove anni Grecia i figli di immigrati acquisiscono la cittadinanza se i genitori sono residenti da almeno cinque anni Portogallo Ius Soli è automatico alla terza generazione di immigrati la seconda generazione può accedere alla cittadinanza dalla nascita su richiesta cioè qui stiamo parlando di paesi europei cioè non stiamo parlando bene Ius Soli americano Canada Australia ma i nostri paesi qui vicini sono completamente molto molto più aperti dell'Italia vorrei concludere Svezia la legge si basa sullo Ius Sanguinis ma la riforma del 2006 prevede la cittadinanza svedese per minori scusi ho finito in Svezia la legge si basa sullo Ius Sanguinis ma la riforma del 2006 prevede la cittadinanza svedese ma va bene anche prevede la cittadinanza svedese per i minori che hanno aspetto penso di no no qui nessuno va a casa semplicemente c'è un consigliere che sta parlando e si chiede con grande umiltà al personale tecnico di non parlare più forte del consigliere che sta parlando è molto evidente spero io aspetto volentieri prego no per dire gli ultimi paesi la Svezia ha una legge che si basa sullo Ius Sanguinis ma dal 2006 prevede la cittadinanza svedese per i minori che hanno vissuto per 5 anni in Svezia Austria la neutralizzazione richiede 10 anni di residenza perché viene considerata come un riconoscimento di integrazione riuscita e poi Francia ogni bambino nato in Francia dai genitori stranieri diventa francese al complimento 18 anni si è vissuto stabilmente nel paese per almeno 5 anni mentre la legge italiana prevede 18 anni continuativi per cui se tu vai un anno via per i tuoi genitori che sta male un nonno e ritorna nel paese di origine per la residenza non hai più accesso ai 18 anni della cittadinanza italiana quindi l'Italia in Europa è il paese più rigido su questo mettiamolo chiaro poi ognuno può avere le sue opinioni e lei posso difendere perché sono opinioni ma almeno che si basino su informazioni reali grazie e sulla mozione proprio perché non mi accontento delle briciole e io non credo che sia una briciole considerare i cittadini onorari e dire insomma ai nuovi cittadini che Bra li considera tutti gli effetti cittadini italiani e onorari della città non ho ancora deciso se voto contro mi estengo datemi due minuti ma non voterò a favore assolutamente alla mozione della maggioranza molto bene grazie va bene aspetto il microfono perfetto allora ricapitoliamo modalità di votazione nel frattempo il consigliere Amagiu pensa prima si vota l'emendamento del consigliere Amagiu che ha presentato sulla sua mozione d'origine prego parli pure nel microfono chiedo scusa solo una domanda tecnica possiamo fare quindi due dichiarazioni di voto ricordatemi solo cioè possiamo fare la dichiarazione di voto sull'emendamento della maggioranza oppure e poi successivamente sul voto globale o sì solo per sapere quindi possiamo fare la dichiarazione di voto sia sull'emendamento del consigliere Amagiu sia sull'emendamento della maggioranza massimo poi la dichiarazione di voto finale poi ci sarà anche la dichiarazione ci sarà anche la presentazione degli emendamenti della maggioranza questo vale per tutti dicevo 5 minuti per sulla sull'emendamento del consigliere Amagiu quindi una dichiarazione di voto si può fare una seconda dichiarazione di voto sull'emendamento della maggioranza e poi una dichiarazione di voto alla fine complessiva uno per gruppo sì 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 no no sto dicendo uno per gruppo e qualora qualcuno dissentisse del gruppo lo imbavagliate no ha possibilità di parlare secondo il regolamento però è così sì sì è così è così prego quindi siamo sugli emendamenti presentati dal consigliere Amagiu quindi si votano tutti insieme chiaramente in un unico c'è bisogno di rileggerlo lo devo rileggere è stato chiaro per tutti altrimenti siamo qui a posto allora pongo in votazione la ricezione o meno dell'emendamento presentato dal consigliere Amagiu segnaliamo la presenza quindi dovremmo essere in 15 15 a la 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 Grazie. Gli scrutatori mi aiutino. Siamo in 15 votanti, giusto? 7-2 è 15, perfetto. Allora, votiamo la ricezione o meno dell'emendamento del consigliere Maggiù. Chi è favorevole all'emendamento del consigliere Maggiù è pregato di alzare la mano? Chi è contrario è pregato di alzare la mano? Chi è contrario è pregato di alzare la mano? Nessuno, il contrario. Chi si astiene è pregato di alzare la mano? 13 più 2 è 15. Quindi l'esito dell'emendamento del consigliere Maggiù è approvato. Non l'esito dell'emendamento, l'emendamento è approvato con due voti favorevoli da parte del consigliere Maggiù e all'Asia e tutti gli altri astenuti. No, no, giusto. Perfetto. Anzi, grazie. No, no, giusto. Suppliamo alla tecnica. Quando l'uomo prende il sopravvento sulla tecnica. Che bei tempi che è. Allora, l'emendamento è stato approvato. Quindi, prego. Digitale. Adesso chiedo l'Umi al segretario. Mettiamo in votazione la mozione così come è emendata? Benissimo. Allora. Chi è favorevole alla mozione così come è uscita dall'emendamento? È pregato di alzare la mano. Chi è favorevole alla mozione così come è uscita dall'emendamento? È pregato di alzare la mano. Però, tecnicamente, poi voteremo anche l'emendamento della maggioranza. Certo, certo. Sì, andiamo con ordine. Quindi, ripeto. Chi è favorevole al testo così come risulta modificato dall'emendamento? Testè approvato. Due favorevoli. Chi è contrario? Consiglieri. Consiglieri. Elena. Allora, sì, è vero. Io stavo questionando, va bene, va bene, siamo contrari. Siamo contrari, certo. Abbiate pazienza, qui sto dando i numeri. E chi si astiene? Non c'è più nessuno. Quindi. Dichiaro che la mozione, così come è emendata del consigliere Maju, è stata respinta con due voti favorevoli e tredici contrari. I favorevoli sono a Maju e all'Asia. Adesso passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dalla maggioranza. Sulla originaria mozione abbiamo modificato alcuni passaggi, ne avete lì la copia che vi ho fatto distribuire. Allora, chi è favorevole agli emendamenti della maggioranza? Nove favorevoli. Chi è contrario agli emendamenti della maggioranza? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Facciamo la controprova. Chi si astiene? Nessuno. Quindi, gli emendamenti da parte della maggioranza sono approvati con nove voti a favore e sei voti contrari. I nove a favore sono Conterno, Sibille, Gemma, Ferrero, Ambrogio, Bergesio, Milazzo, Isu, Astegiano. Adesso votiamo la mozione emendata appena adesso con l'ultima votazione. Quindi rifacciamo. Chi è favorevole all'approvazione della mozione così come è emendata è pregato di alzare la mano. Chi è contrario è pregato di alzare la mano. E chi si astiene non alza la mano perché non c'è. Quindi la mozione emendata dalla maggioranza è approvata con i voti a favore di Conterno, Sibille, Gemma, Ferrero, Ambrogio, Bergesio, Milazzo, Isu e Astegiano. E dunque è passata la mozione della maggioranza. Scusate questo tono di da scalico però ci deve essere. Passiamo avanti. Siamo al quarto punto. La proposta di mozione presentata dai consiglieri all'Asia e a Maju sul tema garantire a tutti i minori frequentanti servizi educativi di concludere il corrente anno scolastico. Prego uno dei due proponenti di illustrarla. Consigliere all'Asia. Prego. Grazie Presidente. Le premesse di questa mozione sono ovviamente il decreto poi convertito in legge, il decreto 73 del 2017, su disposizione urgente in materia di prevenzione vaccinale, che disciplina l'obbligo per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, le vaccinazioni dell'antipoliomolite, l'antidifterite, l'antitetanica, l'antipatite B, l'antipertosse, l'antemofilos influenzae tipo B, l'antimorbillo, l'antirosolia, l'antiparotite e per quanto riguarda quei nati nel 2017 l'antivaricello. E sempre in base alla legge che recepisce il decreto, che converte il decreto, l'assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Considerato che sul tema sono state pubblicate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione più circolari, non sto a ricordare i numeri ma ci sono almeno tre circolari del Ministero della Salute più un'ultima recentissima risposta a una richiesta specifica dell'Anci e circolari anche del Ministero dell'Istruzione. Considerando inoltre che la legge è stata varata a ridosso dell'inizio del nuovo anno scolastico a iscrizioni affettuate da parte delle famiglie per la fascia d'età dell'obbligo da 0-16 anni considerando inoltre che l'articolo 34 della Costituzione sancisce testualmente che la scuola è aperta a tutti e l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita poi questo testo è stato modificato e che l'articolo 5 della Convenzione di Oviedo che è il primo trattato internazionale sui diritti umani e sulla biomedicina afferma che nessun intervento sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informato e fermo restando l'utilità delle vaccinazioni quale strumento di prevenzione di alcune patologie infettive ritenendo che stabilire obblighi sanitari sia un atto che richiede da parte del legislatore la massima cautela ed il massimo equilibrio giuridico in quanto occorre cercare di realizzare il giusto bilanciamento tra la libertà delle scelte personali e la necessità di salvaguardia della sicurezza sanitaria del resto della popolazione e ritenendo che l'approccio più rispettoso ed equilibrato a tale questione dovrebbe essere quindi quello della condivisione tra medico e paziente all'interno di un percorso di alleanza terapeutica un provvedimento così impegnativo come la legge a cui facciamo riferimento finalizzata a far fronte al calo recente a livello nazionale delle vaccinazioni avrebbe dovuto essere coniugato con un approfondito confronto con i cittadini e le famiglie in una prospettiva di fiducia e di comunicazione efficace, aperta e con un'adeguata campagna di informazione in grado di fornire ai genitori gli strumenti per una scelta consapevole invece che un mero obbligo coercitivo e che le disposizioni previste dalla suddetta legge considerando che queste disposizioni in tema di frequenza scolastica dell'infanzia non siano lo strumento idoneo per seguire le finalità che la legge si propone ovvero l'aumento della copertura vaccinale poiché la scelta di procludere la frequenza della scuola dell'infanzia ai minori non vaccinati per decisione consapevole delle famiglie non riteniamo che sia il metodo corretto per affrontare una questione non solo di carattere sanitaria ma anche di natura socioculturale e considerando ancora che la legge comporta il rischio così come interpretato dalle circolari ministeriali di esclusione dall'inserimento precoce nel sistema di istruzione per una fascia consistente di bambini che va dai 3 ai 6 anni presupponendo la mancata conclusione dell'anno educativo e scolastico in corso potendo così costituire un danno al minore sia a livello psicologico che educativo e didattico e considerando anche che a proposito dell'equilibrio tra libertà individuali e precauzione sanitaria i livelli di copertura vaccinale attuali non sono tali da destare alcun allarme o emergenza sanitaria soprattutto tra l'altro nella nostra regione dove ai dati del 2016 e la provincia di Cuneo con valori più alti dell'altra provincia del Piemonte mi pare la seconda in Piemonte e al di sopra dei limiti indicati per la cosiddetta immunità di greggia cioè il 95% di copertura e ritenendo che sia necessario garantire a tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati che possono concludere regolarmente l'anno scolastico in corso senza alcuna interruzione di servizio e di continuità educativa così come peraltro è previsto perché altrimenti sarebbe anticostituzionale per i minori che frequentano la scuola dell'obbligo fatte tutte queste premesse e considerazioni impegna il sindaco e l'amministrazione comunale ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possono giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017-2018 in continuità educativa e socioculturale e ad adottare ogni altro provvedimento utile e necessario all'attuazione del presente proposito a tal fine impegna a chiedere al governo e a tutti i livelli istituzionali di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-2018 transitorio per dare priorità alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali e le famiglie rispetto alle azioni meramente coercitive nei confronti dei minori da 0 a 6 anni di età questa mozione riprende alcuni concetti già espressi in un'interrogazione che con il consigliere Abba abbiamo presentato nei consigli comunali scorsi e riprende alcune mozioni e ordini del giorno che sono stati proposti e approvati nell'ambito di alcune regioni e di alcuni comuni cito la regione Friuli-Venezia-Giulia la regione Liguria la Toscana la Puglia recentemente e alcuni comuni come Trento Firenze e Torino ora il senso della proposta di mozione non è quella di iniziare un dibattito sull'efficacia vaccinale o meno e sugli obiettivi dal punto di vista tecnico e sanitario che la copertura vaccinale presuppone uno perché non saremmo in grado di affrontarlo il tema in questi termini e due perché non è sicuramente nostro compito ma il tema della proposta di mozione è quello di eliminare una stupida discriminazione all'interno della legge che altri elementi di stupidità nel senso letterale del termine stupido vuol dire che ignora per cui un un minore da sei anni a sedici anni potrebbe continuare anche se non in regola con gli obblighi vaccinali può continuare a frequentare gli istituti scolastici ma sarebbe sottoposto semplicemente a una sanzione amministrativa mentre un minore che non frequenta la scuola dell'obbligo questo passaggio non se lo potrebbe permettere questo però sempre ai sensi delle interpretazioni della circolare ministeriale perché dal punto di vista legale ci sono anche dei dubbi sul fatto che sia possibile l'esclusione a chi già sta frequentando asili nido e scuole materne questo perché l'esclusione ai sensi letterali della legge interverrebbe solo a partire dal nuovo anno scolastico e avrebbe anche un senso analogico perché per chi non è in regola con gli obblighi vaccinali entro la data del 10 marzo dovrebbe partire un percorso di confronto e dialogo con l'asla che ovviamente richiede del tempo in prospettiva dell'accesso ai servizi scolastici del prossimo anno e anche sempre dal punto di vista logico non avrebbe non è partito il tempo quindi non so non so a che punto sono grazie grazie presidente e dicevo anche perché che senso avrebbe l'esclusione dopo aver dall'accesso al servizio alla frequentazione del servizio dopo aver permesso questa frequenza nei sette mesi precedenti ricordo ancora un altro fatto importante di discriminazione che introduce questa legge che di fronte alla medesima situazione nei confronti degli obblighi vaccinali ovvero quella del minore che frequenta piuttosto che dell'operatore o dell'educatore che si trova all'interno della stessa struttura e che quotidianamente ha contatto con i ragazzi l'uno dovrebbe essere escluso secondo le circolari ministeriali l'altro no e allora è logico porsi la domanda e chiedersi siamo di fronte a un'emergenza sanitaria perché se siamo di fronte a un'emergenza sanitaria allora il problema non è semplicemente di una categoria di persone che frequenta l'istituto scolastico ma è un problema di chiunque frequenti l'istituto scolastico è un problema di chiunque viva all'interno della nostra comunità dai servizi sanitari ai luoghi pubblici e quindi a tutti gli uffici pubblici e ovviamente alle istituzioni scolastiche se non c'è questa emergenza per cui non è necessario ricorrere questi provvedimenti che senso ha andare ad escludere tra l'altro i soggetti ancora una volta più deboli meno difesi e che non hanno la possibilità di difendersi autonomamente ora quindi ripeto il senso della proposta non è quella certo di intavolare una discussione sull'efficacia o meno dei vaccini se non semplicemente dicendo che dal punto di vista tecnico il problema più grave anche numericamente per quanto riguarda la copertura vaccinale non è ai minori non è riferito ai minori e alla fascia d'età 0-6 anni ma è sugli adulti perché ci sono alcuni obblighi vaccinali per i minori e per la fascia di interesse in questa proposta di emozione 0-6 anni che devono avere un richiamo per rinnovare la loro efficacia un richiamo tra l'altro nominale nel senso che non è stabilito scientificamente quale sia il periodo di validità entro cui fare il richiamo ma di fronte all'obbligo che va andrebbe in capo a circa una popolazione di 300.000 minori dall'altra parte perdiamo di vista milioni di persone adulte che non incorrono in questi obblighi a parte la stortura della legge quello quindi che preme è assicurare innanzitutto una non discriminazione nei termini che ho detto e in assenza di emergenze sanitarie assicurare che il completamento dell'anno scolastico valga per tutti fermo restante agli altri provvedimenti della legge a cui il comune non può certo andare a modificare o su cui non può intervenire che sono la sanzione amministrativa ma anzi quello deve assolutamente partire il confronto con le istituzioni sanitarie e ci tengo ancora proprio a sottolineare questo aspetto che è stato discusso ed è stato approvato da consigli regionali da consigli comunali in varie parti d'Italia la possibilità di consentire a questi soggetti deboli di terminare questo ciclo scolastico riferente all'anno 2017 2018 grazie 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 Sì, è possibile, va bene. Sì, è attivo? Perfetto. È attivo, si sente? Ok. Ok. Allora, non voglio entrare nel merito appunto del dibattito sull'efficacia perché, come ci siamo detti, non siamo degli esperti sanitari per cui non saremo in grado di venirne fuori. Allora, mi soffermo semplicemente sul tema della mozione, quindi il non creare discriminazioni. Intanto partirei da un piccolissimo dato. In seguito alla mozione presentata sulla legge 73.2017, si fa presente che in base ai dati che abbiamo nella nostra città i casi sono veramente molto contenuti. La competenza dell'amministrazione è relativa soltanto al servizio del nido, in cui abbiamo un solo caso al momento inadempiente e si è già contattata la famiglia, l'ASL, affinché provvedano a fissare questo appuntamento per attemperare alle vaccinazioni in tempo utile, secondo le disposizioni della legge 119.2017, per poter accedere al servizio educativo in sicurezza per sé e per gli altri. La famiglia non ha ancora, cioè ha ancora il tempo comunque fino al 10 di marzo per regolarizzare l'appuntamento, la difficoltà è dovuta prevalentemente a una indecisione proprio della famiglia se l'iscrizione può andare avanti o meno. Quindi stanno temporeggiando ma non ci sono pregiudiziali particolari. Per quanto riguarda invece gli istituti comprensivi bra 1 e bra 2, le decisioni sono di esclusiva competenza dei dirigenti scolastici, i quali hanno fornito i dati e i bambini non ancora vaccinati, quindi per quanto riguarda la scuola materna, sono 18 in tutto, 5 nel primo e 13 nel secondo istituto comprensivo. Le segreterie delle scuole si sono attivate per organizzare gli incontri con i genitori, quindi proprio per la divulgazione in tutti questi mesi, all'inizio della scuola se ne è parlato moltissimo in tutti i media e anche all'interno delle riunioni che i genitori hanno fatto con gli insegnanti, quindi la divulgazione credo ci sia stata, almeno da parte degli operatori che conosco. Gli uffici della nostra amministrazione seguono indirettamente all'evolversi della problematica e aggiornano l'amministrazione e l'assessore. Per quanto riguarda il discorso che faceva sulla discriminazione, non ci sono nessun tipo di sospensione della frequenza scolastica. Nessun bambino è al di fuori delle scuole primarie e secondarie, che sono comunque scuole dell'obbligo, quindi non sarebbe assolutamente corretto mettergli fuori dal percorso del diritto allo studio e quindi i dirigenti si sono comportati assolutamente in modo coerente rispetto a questo diritto. La commissione della sanzione amministrativa di fatto non è stata ancora somministrata a nessuno, anche perché intanto il termine ultimo è il 10 di marzo, quindi abbiamo ancora un mese di tempo, quasi un mese di tempo, ma i dirigenti hanno visto che sul territorio nazionale c'erano decisioni e comportamenti diversi, per cui domani sostanzialmente hanno deciso con l'Associazione Nazionale dei Presidi di riunirsi e di in questa riunione cercare di capire quali sono i comportamenti da tenere in tutta la provincia, quantomeno per avere un'applicazione coerente della legge, grazie al supporto di un avvocato che direttamente dal MIUR può procedere ad informarli e uniformare soprattutto le scelte che andranno a fare sul nostro territorio, per salvaguardare sia il diritto allo studio che il diritto alla salute di tutti i minori. L'ultimo elemento che ritenevo opportuno comunicare è che la validità dell'anno scolastico è quindi assicurata, tutto il ciclo di studi sicuramente potrà essere terminato secondo le indicazioni che i dirigenti hanno dato alle segreterie. Per quanto riguarda poi il personale adulto che deve ottemperare comunque al rinnovo dei richiami dei vaccini, gli insegnanti sono stati chiamati a dichiarare quali sono le vaccinazioni in atto e gli eventuali richiami sono stati anche qui messi in calendario per ottemperare le vaccinazioni che possono essere importanti da rinnovare e da richiamare, in modo da essere tutti nella sicurezza sanitaria sia per gli adulti che per i minori che si frequentano. E questo non soltanto per gli insegnanti ma per tutto il personale che attiene alla scuola e al mondo dell'educazione. Questo mi sento di dire, quindi credo di aver concluso il mio intervento. Grazie. A questo punto se ci sono altri interventi Nessun intervento? Lascio il posto. Scusate ma c'è stato il cambio della guardia. Sì, fa un caldo pazzesco qua dentro. Bravo, grazie dottor Fissone. Non si prende però la rugiada della notte? O del... La rugiada di febbraio. Bene, allora, presentato la mozione, è stata presentata giusto dal consigliere all'Asia, ha fatto l'intervento il consigliere Isu, e si aspettano altri interventi. E se non ci sono, si passa a mettere in votazione la mozione. Non mi pare che in ora siano stati presentati emendamente, quindi... Allora, se non ci sono interventi di nessuno, io pongo in votazione questo testo. Signor Marengo, prego. Velocissimo, grazie Presidente. Parlo anche a nome dei colleghi Elena, Tripodi e Panero. Abbiamo letto attentamente la mozione dei colleghi che l'hanno presentata. E una cosa ci ha accumulati tutti fin da subito. Siamo arrivati a una conclusione dicendo dura l'ex sed l'ex, nel senso che può piacere o non piacere, ci sono molte leggi che non piacciono a livello nazionale, però devono essere applicate. A proposito di vaccini con questa corrente, se siamo stati vaccinati per l'influenza ce la prendiamo? Potremmo averne bisogno. È vero che ci sono alcuni bambini che in questo momento possono rischiare la permanenza all'interno della propria classe. Però io credo che si debba rovesciare anche il problema e vedere invece tutte quelle famiglie che hanno fatto, e sono la stragrande maggioranza, che invece hanno adempiuto alla normativa e hanno adempiuto alla legge. Siamo un popolo meraviglioso, ma riusciamo a trovare un escamotage per qualsiasi cosa. Fatta la legge, è trovato l'inghippo. Sarebbe un po', passatemi il termine, come se la Polizia Municipale fermasse un'auto senza bolle, senza assicurazione, e si dicesse sì, però effettivamente chi la conduceva, chi la guidava, è povero, non poteva pagare, e quindi cerchiamo un'aderoga a questa cosa. Mi sembra impossibile. Ora, io non voglio entrare nel merito del perché queste famiglie non abbiano ancora provveduto alla vaccinazione dei figli. Se non ricordo male, entro il 10 marzo basta anche solo presentare la dichiarazione della prenotazione. Quindi credo che se non hanno provveduto a farlo fino ad oggi sia, forse coerentemente, con le loro convinzioni, una scelta. Però non possono condizionare neppure le famiglie, e sono la stragrande maggioranza che invece la scelta l'hanno compiuta in senso inverso. Io credo e spero, traducendo anche qui questa sera e portando quello che è il pensiero dei colleghi della minoranza di centrodestra, che alla fine il buonsenso prevalga sempre. Però non si può sempre lasciare una porta aperta. Tra l'altro, sulla questione vaccini, abbiamo sentito in questi mesi di tutto e di più. Io non sono un medico, non ho le competenze per poter dare giudizi in un senso o nell'altro. Però credo che chi abbia pensato questa legge, chi l'abbia proposta e chi l'abbia votata, abbia avuto anche da parte sua la consulenza di medici e di specialisti, a partire dal Ministero della Salute. Arrivando a questo punto, veramente, il Papa Emerito Benedetto XVI ha sempre parlato, ha sempre combattuto contro un certo relativismo. Cioè, si deve arrivare alla conclusione che c'è una legge, può piacere, non piacere. Però non è tutto relativo. Non è che tutti lo devono fare, ma io no. Non è che a tutti deve essere consentito, ma a me no. Si deve arrivare a una conclusione. Questa conclusione è che il rispetto della legge deve essere sostanziale. Io spero che le famiglie, stiamo parlando, se non ricordo male, di 17 bambini, mi sembra che siano 17 le famiglie che non hanno ancora provveduto alla vaccinazione, abbiano il buon senso, da qui al 10 di marzo, di provvedere. Abbiamo vicino a noi un comune come quello di Benevagenna, dove la decisione è stata drastica. Cioè, alcuni bambini che non erano stati vaccinati sono stati allontanati. Questo è l'estrema razio. Io credo e spero che non si debba arrivare a questa soluzione. Però è anche vero che non si può sempre chiudere un occhio su quello che avviene. Cioè, se la famiglia non ha fatto vaccinare il bambino, assume una responsabilità e questa responsabilità deve essere portata fino alla fine. A volte anche fino alle estreme conseguenze. Si deve sapere che se non si provvede, in qualche modo, il piccolo ne dovrà pagare una cosa. E non è colpa sua. Ci mancherebbe altro. Però non si può neanche ignorare quelli che sono forse i desideri anche di altre famiglie. Magari molte delle mamme e dei papà che hanno fatto vaccinare i figli forse non erano così convinti. Ma si sono adeguati a quella che era la legge. Allo spirito della legge. Non soltanto la legge. I vaccini sono forse una delle più grandi conquiste dell'umanità. Se noi oggi possiamo arrivare a una certa età, possiamo crescere i nostri figli e farlo in relativa salute è perché i vaccini siamo adulti e vaccinati e paghiamo le tasse. Credo che quindi non si possa scherzare su un argomento. Un argomento come questo, a parte la battuta che abbiamo fatto io e il Presidente in questo momento, ma tutta quella che è la teoria Novax e che in questo periodo si sta propagando, anche se per fortuna non trova tutti quegli adepti che vorrebbe, deve essere secondo me combattuta. Tutti i medici dicono che i vaccini non fanno male. E' così. Può darsi che ci sia stato qualche caso per cui il vaccino può aver dato qualche problema al bambino, magari anche grave, ma è la quantità, è una quantità risibile. Parlate con qualsiasi medico, vi dicono che da 200 anni si opera di appendicite, lo fa uno studente di medicina al terzo anno, però c'è sempre una problematica. La casistica dice che ci sarà sempre un'operazione per quanto fatta in tutta sicurezza che può andare male. E allora, a questo punto che cosa ci facciamo? Ci nascondiamo dietro un dito? Per tutelare poche famiglie deve essere fatto a scapito invece della stragrande maggioranza che invece la vaccinazione del figlio ha provveduto? Questo è il pensiero che confrontandomi con i colleghi della minoranza di centrodestra è uscito. E quindi ovviamente annunziamo già la nostra dichiarazione di voto che sarà contraria alla mozione. Grazie. Grazie al consigliere Marengo. C'è il sindaco che ha chiesto la parola. Poi il consigliere Ambrogio e poi Milazzo. Credo che ci sia da tenere presente tra tutti gli elementi dei diritti che emergono nei dati che sono stati prima presentati dal consigliere Marina Isu ci sono i dati totali dei bambini che non hanno fatto la vaccinazione. Ma ne esistono anche quattro che non possono fare la vaccinazione. Ora io credo che si sarebbe del tutto irresponsabile non mantenere un comportamento coerente con la legge rispetto a questi quattro casi. C'è un aspetto di difesa di coloro che magari anche non così convinti hanno accettato la legge perché per un senso di responsabilità collettiva. Ma c'è un problema relativo a chi invece ha delle problematiche come quelle che abbiamo messo in evidenza e credo che essere genitore di un bambino che abbia una problematica di questo tipo sia estremamente complesso da affrontare e credo che su questo aspetto della vaccinazione troppo spesso si è così si è fatta molta demagogia molto un uso dei social assolutamente fuorviante e non ci si è invece affidati a delle questioni scientifiche e a delle condizioni scientifiche ci sono una serie di malattie che con andamento ciclico stanno ritornando bene di fronte qualche anno fa ovviamente si era smesso di vaccinare perché si era scesi sotto certe soglie ma nel momento in cui queste soglie vengono si risale al di sopra credo che sia sarebbe irresponsabile non rispondere in modo chiaro con delle indicazioni molto precise grazie al sindaco prima il consigliere Milazzo va bene prego va bene anche se il mio intervento in realtà è in parte già stato esplicitato dal nostro sindaco perché volevo fare proprio riferimento a quei bambini di cui io tra l'altro permetto non sapevo che fossero numero 4 nella nostra nella nostra città comunque volevo desiderare parlare proprio di questi bambini che per necessità di salute non possono vaccinarsi quindi non per scelta a priori e così per partito preso ma semplicemente perché sono magari in terapia immunosoppressiva perché magari sono delle ocemici e quindi questi hanno il diritto sì di andare a scuola e loro sono tutelati solo se effettivamente l'immunità di gregge è tale da potergli permettere di frequentare la scuola quindi noi abbiamo anche il dovere di preservare e di garantire a questi ragazzi questi bambini di poter frequentare l'asilo nido la scuola materna e così di seguito e per cui penso che la nostra così la nostra visione deve essere veramente più ampia cioè l'immunità di gregge ha significato e ha un'efficacia solo se raggiunge determinati valori preserva in questo caso qui proprio perché esistono queste patologie particolari preserva questi bambini e nello stesso tempo anche chi è vaccinato se eventualmente questi fossero dei portatori rimangono comunque immuni da altre patologie non da quelle di cui sono portatori già i bambini ammalati patologie di tipo infettivo poi per il resto io sono favorevole la vaccinazione al cento per cento perché con la mia preparazione non posso fare altro e non per non sono assolutamente contraria all'applicazione della legge la legge oltretutto dice c'è stata una piccola proroga oltretutto se le asle sono se da parte loro non riescono a soddisfare la richiesta di vaccinazioni quindi oltre al dieci poi è prorogata anche oltre al dieci marzo non è il nostro caso delle nostre asle perché riescono comunque dato che riguarda tutto il territorio italiano chiaramente c'è anche questo per cui quello che il consigliere Marenco ha detto come un'ipotesi così mi è sembrato un'ipotesi in realtà è una certezza cioè è prorogata oltre al dieci marzo per quelle asle che non riescono a vaccinare tutte a far fronte a tutte le richieste grazie grazie a lei la parola adesso al consigliere Ambrogio sì grazie ma semplicemente per esprimere il parere della maggioranza visto anche le precisazioni della consigliera Milazzo che ringrazio per appunto i suoi dati che essendo lei l'esperta in materia ci ha fornito e riferendomi anche all'intervento della consigliera Isu e quello del sindaco esprimo a nome della maggioranza il parere negativo a questa mozione grazie grazie consigliere Ambrogio consigliere Allasia prego grazie presidente io sono sorpreso perché ho capito dagli interventi che ho sentito che non si è capita non si è capita la mozione perché partiamo dal partiamo dalla dalla questione sull'applicazione della legge che troppo spesso si cerca l'escamotage che quindi questo sarebbe un modo per trovare un escamotage e si portava l'esempio molto molto come dire appropriato di dire beh di fronte alla violazione della legge non mi posso aspettare di farla franca giusto? cioè devo accettare che mi sia combinata la multa o il provvedimento che è previsto e il punto della mozione è proprio questo che a me fermato senza patente mi hanno fatto la multa all'altra persona fermata anch'essa senza patente gli hanno tolto la macchina è diverso la stessa legge prevede due trattamenti diversi prevederebbe due trattamenti diversi per due utenti diversi il discrimine è l'età e questo non ha senso l'altro discrimine è che come diceva accennava prima il consigliere parlava del fatto che gli operatori sono stati allora è stata richiesta di dare a disposizione dei dirigenti scolastici e quindi dell'ASL di autocertificare la loro situazione vaccinale per cui tutti alcuni non lo so si apprestano a fare i richiami ma non c'è nessun obbligo se loro non fanno i richiami non sono esclusi dalla stessa istituzione che esclude i bambini 0-6 anni e lo stesso discorso vale per quelle persone che per varie ragioni non possono essere vaccinate perché se per loro costituisce un pericolo ci sono due due dati tecnici da affrontare se per loro costituisce il mancato raggiungimento dell'immunità di gregge un pericolo allora bisognerebbe ragionare sull'effettiva esistenza di questo livello oppure no come dicevo prima dai dati che abbiamo siamo in provincia di Cuneo al 95,8% circa medio tenete presente che quei dati che sono forniti dal Seremi che tra l'altro è un'ottima istituzione in capo alla regione proprio per specificando da dove vengono i dati specifica che la metà circa della mancata copertura quindi circa il 2,5% non risulta come copertura perché c'è una migrazione da un'asola all'altra dei soggetti siccome non abbiamo un sistema informatico che è in grado di portare i dati da un'asola all'altra sia all'interno della regione ma anche fuori regione perdiamo lo storico di soggetti che entrano nel nostro territorio sotto le nostre asola e quindi i rifiuti effettivi di vaccinazione ammontano a circa il 2,5% questo porterebbe effettivamente ci porterebbe ben al di sopra dell'immunità di Gregg quello che chiediamo noi non è un escamotage rivolto a qualcuno per qualcuno che ha deciso per un motivo o per l'altro di non seguire gli obblighi di legge noi chiediamo che per loro si chiuda un occhio noi chiediamo che abbiano lo stesso trattamento degli altri che è una cosa ben diversa ma molto diversa completamente diversa e una piccola nota sulla questione tecnica scientifica in termini generali l'approccio scientifico ha come fondamento sempre il dubbio e la continua ricerca quando si ha un approccio del tipo no vax o si vax cioè un approccio fideistico e acritico in entrambi i casi si ha un approccio irrazionale si diceva prima e qua tra l'altro non si tratta di no vax qua non si discute dell'utilità dei vaccini o meno ma ripeto si discute sulla parità di trattamento mi avvio a chiudere grazie porto solo alcuni esempi sulla bontà della legge in questi termini è velocissimo me ne dì anche di meno perché se non reggo allora il problema ad esempio della scrittura di una legge di questo tipo dagli esperti c'è l'obbligo per la vaccinazione del tetano giusto? giusto? il tetano non è infettivo quindi non porrebbe problemi di sicurezza nei confronti di chi è intorno a chi non è vaccinato l'epatite B in forma virale è trasmissibile per via sessuale o per contatto diretto del sangue diciamo che nei minori da 0 a 6 anni la cosa è alquanto improbabile a meno che non decidiamo che per esempio anche gli ammalati di HIV non debbano frequentare le scuole come dicevo prima in Piemonte c'è c'è un'istituzione che è il Seremi che era andata oltre agli obblighi vaccinali ma aveva stabilito dei criteri che purtroppo sono stati cancellati dalla nuova normativa in cui si dava proprio priorità al dialogo informativo perché se c'è qualcuno che non vuole far vaccinare i propri figli è perché è insicuro del vaccino e quindi ha bisogno di acquisire informazioni autorevoli dall'ASA ha bisogno di un confronto ha bisogno di capire esattamente quali sono i rischi o meno che corre suo figlio e questo è un diritto che ha e infatti il Seremi aveva impostato nella nostra regione aveva eliminato la dicotomia obbligatorio e volontario per dei concetti basati su prioritari e non prioritari e con questi con questo approccio la copertura vaccinale raggiunta ripeto in Piemonte ha dato dei valori altissimi non essendo quindi in presenza di emergenze sanitari il tema qui non è ricorrere a vaccinazione di massimo e semplicemente fare in modo che la legge possa essere applicata allo stesso modo per tutti c'è un obbligo vaccinale non ci deve essere discriminazione di trattamento tra i minori 0-6 anni e i minori che vanno dai 6 ai 16 anni e questo il tema della mozione non è né sull'utilità dei vaccini o né sui presunti danni o meno dei vaccini né sul raggiungimento dei limiti dell'immunità di greggio o meno né su altre questioni del tipo creare degli escamotaggi per qualcuno è esattamente il contrario la ricerca della parità di trattamento e sensi di legge per tutti grazie grazie consigliere all'aria se non ci sono interventi io porrei in votazione la delibera consigliere maggiù prego grazie presidente sarà una bella sfida a livello elettorale dopo il 5 marzo diversi partiti anche di centrodestra anche partiti dati con un punteggio elettorale molto alto verso il 14% prevedono di cancellare questa legge e mi auguro che per tutte le operazioni che verranno fatte ci sia buon senso questa legge l'abbiamo già detto negli scorsi consigli comunali è scritta male ed è applicata malissimo nei tempi è iniziato l'anno scolastico e i genitori si sono trovati in una normativa che li ha travolti come un'onda ma non solo i genitori in realtà ma anche i presidi e ora ci troviamo anche i tempi di espulsione dalle scuole diventare un grave problema per le famiglie che dovranno affrontare si parla molto di pari opportunità ma io so e sappiamo tutti che se c'è da fare un sacrificio purtroppo a subire le conseguenze da marzo a giugno saranno le mamme lavoratrici ed è per questo che chiediamo di fare il possibile affinché i bambini di concludere l'anno scolastico in corso fare in modo che la pausa estiva dia alle famiglie il tempo per organizzarsi da quello che ci risulta in questi giorni e che appunto come ha detto anche prima la consigliera Isu i presidi delle scuole faranno un incontro a Fossano per decidere come comportarsi perché anche per loro è molto difficile prendere decisioni su questo anche perché sono stati espulsi quattro bambini dalle scuole a gennaio altri quattro tra Benevergene e Trinità e sono stati presentati tredici ricorsi al tribunale di Asti e Cugno contro l'ASL di Cugno 1 e Cugno 2 e penso che il grande assento in questo sia stata un po' anche la politica locale che rimbalza la palla agli enti per non prendere una posizione a Savigliano solo qualche settimana fa sei bambini sono stati rilasciati a casa ma poi riammessi con l'intervento dell'avvocato lo stesso avvocato che ha diciamo lavorato su 40 casi simili 40 casi simili costretti a abbandonare le scuole ma poi con l'intervento legale sono stati riammessi la nostra mozione insomma vuole solo essere un'azione di buon senso che cerca di garantire la continuità scolastica per salvaguardare la linearità del percorso del bisogno educativo dei bambini vorrei poi far notare che la legge condanna con molti genitori dei bambini non vaccinati ma a differenza della scuola dell'obbligo in quest'ultima non ci sarà nessun allontanamento come se non ci fosse più il pericolo del contagio e purtroppo per questi 4 bambini che abbiamo detto prima saranno comunque a contatto con maestri non vaccinati genitori al parco con bambini non vaccinati quando andranno alla scuola elementare ci saranno tanti bambini probabilmente non vaccinati ma che non potranno essere espulsi dalla scuola perché il diritto costituzionale allo studio è più forte di questa legge l'unica cosa che chiederei è che qui non stiamo parlando appunto di vaccini chi è contro chi è pro ma mi sentirei di dire di seguire insomma l'esempio di alcuni comuni del partito democratico ma soprattutto la regione dove la serracchiani è presidente e dove fa parte del della segreteria nazionale del partito democratico che ha fatto approvare all'unanimità questa mozione che abbiamo presentato qui oggi che è la stessa grazie grazie a lei consigliere che anche se è statuto speciale è comunque una posizione politica importante sì sì il fatto che sia statuto speciale effettivamente è rilevante se non ci sono più interventi non mi pare io pongo in votazione questo prenotiamo segnaliamo la presenza temo di sì sì ci siamo siamo sempre in 15 vero? va bene possiamo votare deve ancora votare uno va bene così va bene mozione respinta con due voti favorevoli e 13 contrari siamo avanti proposta numero 5 approvazione verbale dal numero 57 al numero 73 del 21 dicembre 2017 se non ci sono interventi passiamo alla votazione prego consigliere Marengo velocissimo solo perché in quell'occasione ho dovuto uscire prima e quindi ho perso gran parte del consiglio quindi nella mia la votazione sarà di astensione ma solamente per questo motivo grazie grazie della precisazione quindi se non ci sono altri interventi possiamo votare il microfono di chi va bene metto in votazione allora la proposta dei verbali va bene votazione chiusa proposta approvata con 14 voti favorevoli e una stennuto proposta numero 6 prima variazione prima variazione nel bilancio di previsione 2018 e 2020 relaziona l'assessore Fogliato sì grazie ritengo che sia una variazione veramente molto importante perché ha come attore protagonista il tema dei contributi contributi sia certi che in richiesta contributi che riguardano le due parti del nostro bilancio sia la parte investimenti che la parte di spesa di spesa corrente vorrei richiamare i passaggi principali partendo dalla parte investimenti e partendo da quello che abbiamo già di certo c'è il contributo di 60.000 euro per quanto riguarda il nuovo impianto elettrico della biblioteca diviso fra 25.000 euro che arrivano dalla fondazione Cassa di Risparmio di Bra e 35.000 euro che arrivano dalla fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo oltre che a un giro un giro conto nei capitoli dei lavori pubblici di 6.000 euro per arrivare alla somma complessiva dell'investimento altro giro fra capitoli sempre di investimenti per quanto riguarda il tema sport c'è lo spostamento di 50.000 euro per quanto riguarda le spese previste per interventi di manutenzione di edifici sportivi a una finalizzazione specifica che riguarda i due investimenti c'è il tema della pista d'atletica e il campo da calcio in ultimo il contributo regionale per la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di 15.000 euro questi contributi o giroconti di capitoli certi dopodiché l'emissione nel nostro bilancio per la partecipazione a un bando riguardante la riqualificazione delle periferie un bando molto importante un bando in cui l'amministrazione crede molto sia per l'importanza della cifra ma soprattutto per l'importanza dell'oggetto dell'investimento che è la riqualificazione del matatoio già presente per una parte nel piano triennale con la copertura di 500.000 euro come contributo regionale in questo caso vi è lo storno di questa richiesta di contributo e vi è l'emissione di una richiesta di contributo di 3 milioni di euro su fondi statali sempre per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo un contributo della regione piemonte di 40.000 euro per la manutenzione e attività politeama ecco è importante segnalare questo passaggio perché per 20 questo permette di liberare per 20.000 euro una parte degli oneri di urbanizzazione per un totale allora presentato nel bilancio previsionale nel mese di dicembre di 250.000 euro liberarne 20.000 euro che ritornano a finanziare la parte investimenti pertanto si è potuto aumentare di 20.000 euro il capitolo che riguarda la manutenzione straordinaria di edifici scolastici questo era un impegno che ci siamo presi nel presentare il bilancio previsionale che inizia con questa variazione di bilancio abbiamo altre operazioni in corso però potremmo iscriverle a bilancio solo nel momento in cui avremo le comunicazioni ufficiali dagli enti pubblici superiori se sarà così continueremo nel diminuire la parte degli oneri di urbanizzazione che finanzia la parte corrente portandole a investimenti aumentando di conseguenza le opere per la nostra per la nostra città termino presentando invece i principali contributi che vanno ad impattare sulla parte corrente abbiamo 14.000 euro che arrivano dalla fondazione Cassia di risparmio di Cuneo ed è l'ultima annualità era un triennale di contributi per quanto riguarda il tema facciamo futuro cioè l'orientamento il tema dell'orientamento scolastico un contributo che arriva dalla in questo caso dalla regione Piemonte di 3.000 euro per quanto riguarda i centri di aggregazione giovanile un contributo di 12.000 euro sempre della regione Piemonte per il capitolo morosità incolpevole vi erano due capitoli morosità incolpevole e l'agentia sociale per la locazione che erano a zero nel nostro bilancio previsionale ma già in quell'occasione nel mese di dicembre avevamo annunciato che era in corso la richiesta e perciò lo stanziamento da parte della regione Piemonte ma avremmo potuto iscriverlo a bilancio solo a fronte della certezza della comunicazione ufficiale della regione Piemonte in questo caso abbiamo le due comunicazioni ufficiali questa per quanto riguarda l'amorosità incolpevole e a seguire quella di 26.085,14 che è quello dell'agenzia sociale per la locazione altro contributo che arriva dalla fondazione cassa di risparmio di Torino di 50.000 euro per la promozione socio-economica del territorio altro di 48.000 euro che arriva dalla fondazione cassa di risparmio di Cugno per quanto riguarda bra labor cioè vale a dire i progetti di pubblica utilità in questo caso nella ripartizione socio-culturale perciò musei e altre attività della ripartizione in ultimo no vi ancora chiedo scusa un contributo di 7.000 euro che arriva dalla fondazione cassa di risparmio di Torino sul tema della disabilità e dicevo in ultimo un giroconto una partita di giro di 87.224 sono soldi che arrivano dall'ASAC 1-2 che vengono gestiti dal Comune per gestire per conto dell'ASAC 1-2 i cantieri lavoro per i soggetti seguiti dall'assistente sociale grazie all'assessore fogliato aspetto paziente ma fino a un certo punto prego consigliere Sì grazie io volevo solo ringraziare il lavoro degli uffici che è stato svolto per la partecipazione a questi bandi che sono molto ambiziosi molto importanti e davvero speriamo di riuscire a portare a casa questi finanziamenti soprattutto quello che riguarda il discorso della riqualificazione delle periferie e il discorso del rifacimento della pista di atletica del campo di calcio che sono due progetti davvero molto importanti per la nostra città quindi il lavoro che c'è dietro a questi bandi è un lavoro importante quindi ci tenevo a ringraziare particolarmente gli uffici e volevo ancora ribadire il concetto che è stato precisato bene dall'assessore del fatto che si sta iniziando a spostare i capitoli dalla spesa corrente di nuovo agli investimenti per gli oneri di urbanizzazione un po' alla volta e quindi era un concetto che era già stato previsto nel nostro bilancio previsionale e che si sta avverando cioè non è un sogno ma è il diciamo il lavoro capillare costante che viene svolto quotidianamente solo questo grazie grazie al consigliere Ambrogio aveva chiesto un momento la parola ancora all'assessore sì mi ricollego a quanto ha detto bene il consigliere Maria Ambrogio per la bravura e con le capacità degli uffici ma a cui va dato atto un altro aspetto cioè il fatto di coinvolgere il territorio associazioni quartieri frazioni associazioni di categoria le scuole ecco il gioco di squadra permette in molti casi di far punteggio e di arrivare ai primi posti se non al primo posto per quanto riguarda un progetto per arrivare per prendere i contributi grazie all'assessore se non ci sono interventi si pone in votazione il testo non ci sono interventi poniamo in votazione ci sono? sì prego allora consigliere prego prego ci sono sicuramente degli elementi positivi penso soprattutto la biblioteca il fatto di aver avuto questi contributi potrà in qualche modo risistemare tutto quello che è la parte dell'impianto elettrico quindi è una cosa assolutamente positiva restiamo in fiduciosa attesa invece per quanto riguarda l'ex macello vediamo se appunto i fondi riusciranno ad arrivare siamo tutti fiduciosi ero distratto perché parlando con il collega Elena che è un architetto e quindi ha una visione molto più ampia della mia ha avuto un paio di idee che anche sull'utilizzo poi eventualmente che potrebbero essere interessanti ho un'unica perplessità e riguarda la questione sport ne parlavo prima dell'inizio del consiglio con l'assessore l'amministrazione ha partecipato a un bando per il credito sportivo che però non è andato a buon fine questa cosa avrebbe assicurato che il mutuo imponente anche per qualsiasi amministrazione di 730.000 euro avrebbe potuto avere comunque almeno un tasso di interesse pari allo zero oggi se si vuole realizzare l'opera le opere perché sono due in realtà sia il campo da calcio sia la pista di atletica ricorrendo al mutuo occorrerà invece preventivare un interesse che può anche essere un interesse basso però su una cifra così imponente è una cifra non da poco e non da sottovalutare tant'è vero che proprio con questa situazione ha fatto sì che in me ci fosse una qualche remora a votare questa soluzione e mi sono confrontato proprio con la dirigenza per esempio del bracalcio perché avevo piacere anche di confrontarmi con loro e hanno anche loro convenuto che purtroppo non potendo avere salutando favorevolmente la possibilità di avere il campo nuovo è ovvio che c'è il dispiacere di dover comunque pagare un interesse che se si fosse aderito se si fosse riusciti ad avere questo bando del credito sportivo sicuramente sarebbe stato nullo e quindi siccome ogni anno ci sono questi bandi la mia idea era ma abbiamo aspettato fino ad oggi si poteva magari pensare di arrivare a fine anno aderire a un nuovo bando e poi magari realizzarlo l'anno prossimo mi rendo conto che la squadra aspetta questa soluzione da molti anni è anche vero però che come amministratori dobbiamo ragionare col denaro pubblico quindi avere un risparmio che possono essere 10 12 15 mila euro di interesse avrebbe fatto sì che questo denaro potesse essere destinato ad altri interventi quindi se nel complesso non posso che essere favorevole a quello che è stato proposto sia sulla parte certa cioè la biblioteca sia sulla parte infieri che è quello della parte relativa all'ex macello ho questo dubbio per quanto riguarda la questione sportiva mi riservo ovviamente di fare le mie valutazioni nel corso del dibattito se ci sarà e di e di modificare eventualmente poi la mia la mia decisione e vedere come come votare grazie grazie a lei c'era soltanto un vociare perché dovevo capire chi voleva intervenire interviene il prima il sindaco poi l'assessore se si pone il caso allora esiste una interventi a correnti alternate probabilmente il fatto che in questo momento il consigliere Somalia Seychelles ha permesso al consigliere Marengo un'uscita in libertà per quanto riguarda i mutui dal primo bilancio presentato da questa amministrazione siamo stati ridarguiti perché non facevamo degli interventi con mutui perché non avevamo coraggio perché non eccetera abbiamo avuto questo coraggio perché è necessario rimettere a posto la pista di atletica è necessario dotare la città di un il bra calcio ma insieme al bra calcio lo useranno altre squadre e quindi io credo che sia un elemento importante ad un tasso dell'1% la partecipazione al bando dell'anno scorso è stata una partecipazione che abbiamo forzato sperando nella quantità di fondi che c'erano ma sapevamo già che c'erano delle problematiche connesse con la questione dello stare all'interno del patto di stabilità e quindi quello è il motivo per cui non siamo stati finanziati in generale quando partecipiamo ai bandi li vinciamo stiamo incorciando tutte le dita tutte le dita rispetto a via solferino anche quelle dei piedi sappiamo essere molto complicato ma anche qui credo che sia stato un lavoro e un intervento coraggioso che di questa stagione mettere in campo sia una scelta molto importante ha detto benissimo il sindaco volevo ricordare che era l'argomento delle discussioni nel bilancio previsionale in cui veniva detto proprio da quella parte ma con molto rispetto ecco dove di fare tenuto conto che i tassi sono bassi che la cassa deposite presti fa dei tassi bassi in questo momento ma li fanno tutti i tassi i tassi bassi perciò siamo nell'ordine dell'1% di fare nei limiti permessi dal patto di stabilità perché noi arriviamo la somma degli strumenti è circa 1.5 milione 1.80 milione che è il limite a cui ci permette le regole del patto di stabilità oltre saremmo splafonati su questo aspetto qui a tasso che è di mercato da parte della cassa depositi presti proprio come richiesto nei vostri interventi durante i bilanci provisionali consigliere Marengo poi Ambrogio sì prego Marengo prego questione personale visto che il sindaco mi ha citato io vorrei solo invitare a non pensare che siccome non c'è il consigliere Somaglia parli sempre a lui per nome a nome di tutti e possa parlare solo lui come un non siamo un greggio probabilmente qualcun altro è abituato a tenere tutti sotto controllo ad avere il greggio che segue fedelmente non siamo tutti così il discorso è questo ben vengano i mutui nessuno nega questo io non sto partendo dal presupposto che è sbagliato sto dicendo è opportuno però ve lo chiedono da tanti anni ve lo chiedono da tanti anni l'associazione è stata da voi ricevuta e gli avete sempre risposto trovate i soldi noi vi appoggiamo ma dovete trovare voi i soldi e rifate il campo questa è stata la risposta che l'amministrazione ha dato alla dirigenza del bracaccio no 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 semplicemente ma il rifare il campo siamo intorno al mezzo milione di euro posso presidente finire un attimo senza essere interrotto dall'assessore stiamo parlando di soldi pubblici stiamo dicendo abbiamo pazientato fino ad oggi siete all'amministrazione di questa città da nove anni da anni l'associazione vi sta chiedendo di rifare il campo per motivi prettamente economici sicuramente perché se aveste avuto i soldi si sarebbe rifatto prima e mi chiedo è opportuno intervenire adesso? magari aspettare l'anno prossimo cercare di ripartecipare un bando cercare di poter essere inseriti in questo bando di vincerlo il sindaco dice gli vinciamo sempre benissimo avremo risparmiato questa cifra è vero che la cifra non è enorme ma sono sempre soldi pubblici si poteva pensare magari di risparmiarli siamo tutti d'accordo ben venga questo lavoro ben venga il fatto che si possa riqualificare quella zona sia la pista di atletica sia il campo però è anche vero che una maggiore oculatezza nella gestione dei soldi quindi cercare di poter risparmiare questa cifra a mio giudizio sarebbe stata positiva non voterò contro perché non mi sento di votare contro però tendenzialmente non si poteva arrivare a questo ragionamento visto che si è aspettato fino ad oggi provare magari ragionando con le parti in causa dire proviamo con l'anno prossimo vediamo faremo lo stesso il mutuo ma magari risparmieremo l'interesse ecco era così fuori luogo era così fuori dal mondo è un atto coraggioso per carità ma allora il coraggio lo si poteva avere l'anno scorso quando ve lo chiedevano due anni fa tre anni fa non avremmo rispettato il patto di stabilità non potevamo fare quel mutuo lì perché l'anno scorso è uno dei motivi per cui non abbiamo potuto essere vincitori al bando perché ci mancava il rispetto del patto di stabilità ecco pertanto non potevamo fare il bando anche chiedo scusa il mutuo anche se volevamo però non si poteva adesso si è liberato lo spazio perfetto assessore prendo atto delle sue benissimo allora rispettando l'aspetto tecnico contabile aspettare un anno e vedere se si poteva fare lo stesso discorso lo stesso ragionamento l'anno prossimo non sarebbe stata la stessa cosa probabilmente saremmo rientrati nel patto di stabilità esattamente come quest'anno lo si sarebbe potuto fare risparmiando i soldi dell'interesse punto qui non si tratta più solo di un escamotage contabile si tratta anche di una visione politica sul futuro benvenga l'opera siamo tutti d'accordo nessuno qui sta negando l'importanza dell'opera benvenga il coraggio dell'amministrazione sono io il primo a riconoscerlo però si poteva agire con un po' più di prudenza pensando di posticipare semplicemente all'anno prossimo si sarebbe potuto trovare le stesse condizioni che ci sono quest'anno magari si sarebbe potuto aderire al bando vincerlo non lo so lo sa di per certo? se non dicevamo non è detto che si possono ai tassi di quest'anno con le tassi del potere può darsi può darsi perché i tassi le sue previsioni non sono così però visto che la palla di cristallo non ce l'ha nessuno non accetto il discorso della prudenza o del dissipare denaro pubblico questo come lei prima non accettava non accetto questo aspetto qui perché è stato sempre una caratteristica del nostro interpretazione dell'aspetto finanziare dei nostri bilanci perfetto visto che tanto ormai è diventato un dialogo non è più una questione ma va bene così va bene va bene così va bene così ho finito anch'io finito quindi la mia perplessità era solo in capo alla opportunità ecco non sulla realizzazione dell'opera sull'opportunità di poter aderendo ad un bando l'anno prossimo eventualmente di poter portare a casa un risultato che per la città sarebbe stato senz'altro positivo doppiamente positivo la realizzazione dell'opera e il risparmio del tasso di interesse punto tutto qui grazie grazie la parola al consigliere Ambrogio sarò telegrafica anche perché quello che volevo dire l'ha già anticipato l'assessore l'amministrazione si sta comportando come un buon padre di famiglia i tassi stanno aumentando e quindi è meglio farlo quest'anno che posticiparlo al futuro o al prossimo anno solo quello grazie signor Tripodi prego grazie presidente siamo qui appunto per parlare di questa variazione prima variazione al bilancio vi sono temi interessanti e anche da accogliere positivamente in primis il rifacimento appunto della pista di atletica il rifacimento del campo sportivo la l'investimento che verrà fatto riguardante la biblioteca con la realizzazione di un aula studi e quindi questi soldi appunto servono per il rifacimento dell'impianto elettrico e quant'altro alcune perplessità perplessità che in un certo qual modo ha evidenziato il consigliere collega Marengo ma perplessità che però derivano da altre argomentazioni altre motivazioni come ho detto un applauso per questa tipologia di investimento la conoscenza appunto anche noi e la società è da molti anni che richiede tale tale opera tale tali lavori credo che non sia il momento neanche dire chi ha coraggio chi non ha coraggio semplicemente sono il momento in cui si valutano le scelte politiche questo intervento che appunto il rifacimento del campo è di quasi 500 mila euro magari il mutuo sarebbe stato un pochettino più basso se avessimo speso magari non avessimo lì sì mi dispiace dirlo perché senza utilità il progetto di strada orti magari il ha avuto la stessa lo stesso risultato ma con scelte diverse visto che parliamo di sport e mi volevate persino convincere che a strada orti andavano in bicicletta preferivo fare il campo sportivo con gli stessi soldi o aggiungendone poco più e l'obiettivo era ugualmente raggiunto magari avremmo fatto qualcosa che veramente sarebbe servito magari con costi minori per la collettività intera a la società e a tutti coloro che vorranno utilizzare determinate strutture altra questione ciò che il sindaco funziona ok altra questione molto anche qui sintetico il rifacimento dell'ex matatoio e appunto dell'edificio dove c'era diciamo l'ex leone via Solferino via Ballerini il sindaco dice ci incrociamo le dita delle mani dei piedi io anche su questa questione è semplicemente una scelta di nuovo politica si tratta di nuovo di coraggio o quantomeno giusto sbagliato che sia visto e considerato che sono è una partecipazione ad un bando ad un bando statale per la quale appunto non toccherebbe nulla per quanto riguarda le casse comunali è un bando importante di di un progetto importante ambizioso da 3 milioni di euro e io e noi come gruppo ci siamo posti semplicemente alcune domande che per noi sono comunque cose importanti innanzitutto visto e considerato che quella struttura sarà una cultura una struttura diciamo multiutilizzo una zona ristorativa una sala una zona congressi multiuso ricordiamo come semplice gruppo civico che nella nostra città sono presenti delle strutture quali polifunzionale polifunzionale piccolo chiamiamolo così per capirci movicentro strutture che sono già esistenti che per alcune alcune necessità previste appunto in quel progetto potrebbero essere utilizzate senza alcun consumo di suolo o senza anche come prevede il bando perché il bando parla di periferie noi riteniamo come gruppo civico che agli occhi di tanti ci stiamo rendendo conto che tante periferie non sono solo ed esclusivamente periferie perché mantenute a lato di quello che è la zona centrale ma crediamo che ci siano dei posti periferici anche nella parte centrale della nostra città perché periferia è intesa come posto e luogo di poco passaggio poco utilizzo lasciato lì lasciato a se stesso noi riteniamo che questo bando sia un qualcosa di importante ma questa idea continua di pensare che se i soldi e i progetti arrivano da bandi statali si possono spendere va tutto bene perché non mi sembra o comunque non mi sembrava cosa importante o principale o urgente ma né nello scorso programma elettorale e né in questo in questa tornata in questa ultima tornata elettorale come programma di governo il fare di quella struttura determinate cose cosa che ci preoccupa più di tanto è che sembra che questa amministrazione esce un bando quel bando è importante dobbiamo farlo tutti i costi chi manterrà quella struttura conclusa come oggi chi mantiene il movicentro come oggi chi mantiene il polifunzionale come varrà utilizzato il polifunzionale piccolo come e per quale motivo proprio quella zona ricordo che appunto in una parte di quella zona lì di quella struttura ricordo che che vi era un privato che la utilizzava momenti di vacche grasse cioè nel senso momenti in cui l'economia girava nel momento in cui l'economia girava quello era un posto che veniva occupato di per sé da aziende private e chi lo sa se un giorno questa cosa qui magari potrà essere nuovamente tale a quanto a quanto ammonta il progetto preliminare di un di una di una struttura o comunque di un'opera di 3 milioni di euro chi l'anticipa e se è vero che dobbiamo incrociare le dita sia delle maniche dei piedi è essenziale spendere tutti quei soldi e per quale motivo abbiamo dovuto affidarci ad un incarico esterno i nostri uffici non erano capaci magari di svolgere internamente un qualcosa del genere sono tutte domande che veramente ci pongono delle questioni che magari possono essere secondo il vostro punto di vista superficiali con del pregiudizio ma sono semplici domande che vogliono porre l'attenzione ad una questione che è importante perché sono scelte politiche perché vi ricordo che anche a noi non fa piacere mettere delle perplessità in un qualcosa che guardando le cose come stanno alla fine sono soldi che arrivano da fuori ma arrivano da fuori anche spesso e volentieri opere che oggi sono lì lasciate a se stesse e inutilizzate che ogni volta che le accendiamo ci costano migliaia di euro quindi un po' un po' di visione servirebbe un po' di visione servirebbe spero veramente che a queste domande che io che noi come gruppo abbiamo voluto porre all'amministrazione già in questo momento ci venga data risposta perché anche per fare questo progetto preliminare un po' come quello che è stato per quanto riguardante il passaggio interrato comunque dovremmo anticipare dei soldi e lì sul passaggio di livello interrato il passaggio è lì in altro che incrociare le dita le mani i piedi la gamba la testa e tutto il resto però sono soldi che abbiamo anticipato quindi attendo una risposta da parte della giunta grazie grazie a lei la parola al consigliere Ellen sì grazie presidente mi sono collegato via skype con Somaglio prima di parlare da bollettura Somaglio non mi ha mai messo nessun veto a parlare ci fa parlare sempre no volevo fare una considerazione anch'io su questa variazione di bilancio sul discorso bene e il discorso degli interventi sull'impianto elettrico c'è bene su tutti e tre gli interventi poi sul discorso dei tassi io non ci entro in questo discorso è già stato fatto prima volevo fare un discorso invece c'è solo una richiesta abbiamo visto martedì in commissione lavori pubblici congiunta con la commissione finanze bilancio il progetto collegandomi all'interrogazione che abbiamo fatto prima sul chip visto che lo spazio è enorme e anche sull'archivio storico del comune magari vedere dato che quello è un progetto preliminare quindi si può ancora vedere capire se c'è la possibilità magari di essendo uno spazio se ho capito bene che per tutta la città quindi potrebbe essere eventualmente anche uno spazio da poter ricavare perché c'è l'interparrocchiale d'accordo che è parrocchiale adesso non so bene però i pensionati sono una risorsa anche per la città quindi è anche l'archivio storico secondo me da una vita che si parla dell'archivio storico magari pensare anche a livello di progettazione di vedere magari eventualmente se c'è la possibilità visto che sono servizi polivalenti che servono a tutta la cittadinanza di vedere se c'è la possibilità magari a livello di progettazione di poter anche inserire queste due destinazioni grazie grazie a lei tutto tace quindi se nessuno chiede più la parola prego consigliere Tripodi della serie bisogna comunque chiedere no scherzo ci mancherebbe della serie noi parliamo e nessuno ci ascolta discorso è questo abbiamo fatto delle domande alla quale avremmo avuto il piacere che la giunta rispondesse in questo momento poi se questo non questo nostro desiderio non può essere verato esaudito mi spiace però noi abbiamo fatto una domanda delle domande e quindi in questo momento avremmo piacere di avere delle risposte anche perché non mi sembra non mi sembra che non abbiamo espresso voti cioè quindi magari ci potrebbe ancora stare la dichiarazione di voto per quello ah ok dovete scusarmi è arrivata questa tarda ora quindi per quanto mi riguarda se possiamo fare la dichiarazione di voto adesso possiamo farla dopo attendiamo ancora un attimo c'era il consigliere Milazzo che voleva intervenire prego sì volevo solo precisare si vede che sono solo per le precisazioni che l'altra sera quando sono stati presentati tre progetti riunione congiunta delle due commissioni queste risposte qui in buona parte sono già state date per cui io sinceramente stare seduta tutte queste ore per sentire delle cose che già a cui si è stato risposto mi sembra veramente controproducente cioè non so in commissione sono state dette forse ognuno di noi dovrebbe anche informarsi su che cosa si dice in commissione e scusami non voglio non faccio nomi perché non voglio altre risposte sui nomi non implicare nessuno vorrei andare apprezzo lo sforzo ormai mattutino è passata mezzanotte è mattino bene bene allora mettiamola così bravo mettiamola così non dico più chi vuole parlare alzate la mano e siamo a posto consigliere Tripodi e poi consigliere Allasia passatemi una battuta ma per il semplice fatto che in questo momento qui nessuno di noi è costretto a rimanere qua ok quindi noi abbiamo le commissioni nella quale il mio gruppo era presente con Sergio Panero con la quale con il mio intervento ha visto o avrà notato consigliere Milazzo ma eravamo semplicemente a conoscenza di tutto abbiamo posto delle domande di indirizzo politico ricordo sempre che il consesso più alto e più importante rimane il consiglio comunale quindi per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda sia in commissione tutti noi possiamo porre le domande possiamo dare il contributo ma non è detto che a ritornare in consiglio comunale io non possa riporre le stesse domande e ribadire il mio contributo anzi benvenga benvenga tutti i colleghi che lo fanno perché forse magari una volta lo si dice la seconda magari incomincia ad ascoltare l'altra persona io ritengo che questo qui è la massima assemblea e quindi mi dispiace non me ne vogliate ma lo so è tarda ora ma è così abbiamo l'onore e l'onere di stare qualche ora qui a discutere di cose importanti della nostra città e quindi magari è giusto farlo quindi questo era il suo terzo intervento ma gli anticipo io era una questione di personale quindi si riserva l'intervento finale perfetto consigliere all'Asia prego grazie presidente allora il mio intervento sarà lungo e complesso no scherzo scherzo ho visto un abbattimento no scherzo volevo dire sicuramente nella variazione di bilancio è una variazione che ha tutti aspetti legati a nuove entrate finanziamenti contributi eccetera beh ma d'accordo certo non è che non dobbiamo fare profitto diciamo e il punto della questione è se se e come spendere i soldi con che tempistiche perché alla fine le decisioni sono politiche in questo senso decidere le priorità degli interventi in linea di massima a mio avviso gli interventi sull'impiantistica sportiva gli interventi per il recupero di edilizia pubblica non utilizzata sono sempre interventi positivi non mi soffermo sulla questione del coraggio non coraggio mutuo non mutuo certo i finanziamenti in conto interessi sono molto meglio che i finanziamenti attraverso un mutuo normale cassa depositi e prestiti quello che quello che voglio dire però al riguardo è potremmo anche discutere fino a quando la consigliere Milazzo debba andare al lavoro fino a domani mattina alle 6 per stabilire se la priorità è fare un intervento sulla pista di atletica i campi da calcio le tribune del campo da hockey il palazzetto dello sport che è una struttura estremamente energivora e che è frequentata da centinaia di persone ogni giorno soprattutto nel periodo invernale quando ci sono anche determinate attività sportive che si debbono svolgere lì all'interno e e quindi si tratta di cogliere priorità e possibilità sicuramente la spesa per il campo sportivo per il campo della calcio in sintetica è una spesa molto importante mezzo milione di euro e nell'ambito di un quadro positivo ne parlavo qualche tempo fa il problema che ha proprio come strutturata non Brian ma proprio la società in cui viviamo è che l'attività sportiva è molto legata alle associazioni sportive cioè sono spazi che sono gestiti da associazioni utilizzati da associazioni sportive dove purtroppo c'è sempre il concetto sta diventando sempre più alto il concetto dell'agonismo che è un concetto positivo la competizione sì però si arriva al punto di escludere dei ragazzi dalla frequentazione di uno sport perché si fa una selezione agonistica già a partire dalle scuole elementari su questo per esempio il calcio è terribile soprattutto dopo che le società professionistiche hanno cominciato a organizzarsi in società satellite nelle varie zone ad esempio che rasco è su società di Torino e bra mi pare sulla Juventus ora questo lo dico perché nell'ambito di una progettazione di interventi sull'impiantistica sportiva quello che io chiederei e quindi se ci sono dei risparmi all'interno degli investimenti previsti per l'impiantistica sportiva per questo per questo anno è quello di pensare prioritariamente a spazi che siano accessibili il più possibile in forma libera a spazi di gioco e di attività sportiva mi vengono in mente mi viene in mente un esempio banale nell'area di cui stiamo parlando da un lato e dall'altra vi porto una piccola esperienza personale che ho vissuto recentemente dal punto di vista pratico io quando sono venuto a vivere qui a Bra mi ricordo nel parco a Tiglio Bravi che c'era un percorso atletico di educazione fisica che già allora era ammalorato ed è completamente scomparso ecco questo tipo di attrezzature per attività a corpo libero all'aperto secondo me servono e sono necessarie servono per vivere i luoghi per abbinare attrezzature liberi accessibili a tutti a chi vuole fare dell'attività sportiva a qualunque età abbia l'altro aspetto che volevo portare e su questo e questo lo abbino invece all'intervento molto importante sul il recupero dell'ex macello e questo mi è capitato di andare a visitare una città della Spagna nelle vacanze natalizie una città che si chiama Vittoria nei paesi baschi Vittoria Gasteiz nel borgo vecchio della città anche lì collinare passo davanti a un enorme passo di fianco un enorme vitrata e vedo la classica palestra con campo da basket le linee del calcetto del basket eccetera e vedevo dei ragazzi che giocavano in quello spazio chiedo ai miei amici tra l'altro questa persona lavora nel comune e quindi aveva diciamo notizie serie e chiedo ma com'è che dei ragazzi stanno giocando liberamente dentro una palestra quella che io vedevo una palestra bene in quella città una città da circa 240.000 abitanti siccome ha un clima più o meno come il nostro nel senso per sfinimento l'accesso alle palestre è libero cioè è un luogo di gioco è un luogo di attività sportiva libera non regolamentare non per forza all'interno di una struttura squadre società eccetera è chiaro che parliamo di Spagna Europa vabbè poi i paesi baschi hanno una tradizione sociale importantissima no? ma questo diciamo che tendere ad aspirazioni importanti è una scelta politica anche dico questo perché non è che sto dicendo il palazzetto dello sport lo lasciamo aperto lo capisco che in questo momento non è fattibile farlo però riconducendomi invece alla questione del macello adesso abbiamo dato un'occhiata nella commissione al primo avamprogetto e ci sono delle costruzioni di spazi la struttura non è un bel quadrato libero dove non ci sono pareti ma c'è una struttura L una piccola corte quello che voglio dire è nel pensare al progetto che adesso è in firi pensiamo a spazi facilmente liberamente accessibili sia dentro che fuori cioè nell'area dove c'è adesso quel parcheggio marciapiede alberato c'è un concetto del genere nel progetto ma la libertà di accesso cioè avere spazi con libertà di accesso per gioco per attività sportiva gioco per incontro in modo ripeto libero non mediato secondo me sarebbe un fatto molto importante uno perché ci toglie anche dalla questione delle critiche non critiche perché lì piuttosto che là perché allarga naturalmente l'area di influenza dell'intervento e basta prima basta era questo appunto un altro aspetto che volevo mettere e che si potrebbe cogliere con l'occasione è che qualche mese fa era passo i giornali e l'assessore aveva risposto un gruppo di ragazzi chiedeva uno spazio per praticare lo skate che è un'esigenza sempre più sentita per un buon numero di ragazzi che non hanno spazi specifici per praticarlo e quindi cosa fanno girano per la città in mezzo via abilità ordinaria via principi esatto via principi ponendo dei problemi anche di sicurezza ecco se sull'esterno di questo intervento ci fosse anche un pensiero riferito a questa esigenza verificando spazi non lo capisco che mi volete zittire il problema è che tutte le volte il timer si a zero così ho perso il conto del menu sto dicendo apposta e quindi 4 minuti e quindi e quindi dico siccome c'è un'esigenza recente calda diciamo che ha anche una certa storicità non è non è giovane e visto che l'assessore aveva dato no aveva risposto anche a mezzo stampa dicendo stiamo cercando soluzioni ecco questo potrebbe essere un punto è chiaro che l'intervento sull'ex macelle è un intervento critico perché è vero che non sono soldi della comunità braidese o della regione eccetera sono un intervento a fondo perduto e quindi non ci caricano di oneri ma giustamente ci possono caricare di oneri per il futuro per il mantenimento della struttura e visto che il limite di spesa dell'intervento è molto ampio all'interno della progettazione visto che noi non abbiamo le spese di investimento converrà pensare anche a fare in modo che dal punto di vista energetico parlo di tutti i servizi illuminazione riscaldamento e condizionamento in generale ci siano soluzioni impiantistiche che ci permettano uno il soddisfacimento dei CAM dei criteri minimi ambientali richiesti e due magari anche qualcosa di più avanzato perché tutto quello che adesso faremo spendere lo spenderemo in impiantistica se casomai il progetto vada a buon fine ce lo ritroveremo come risparmio poi di gestione nostra diretta e allora sì che quella spesa assume ancora più la faccia di un investimento ora adesso mi sono chiarito col segretario nel vecchio bando nel vecchio bando nel bando che era riservato ai capoluoghi di provincia c'erano degli aspetti ben precisi che erano indicati c'erano 6-7 interventi adesso purtroppo ho capito che mi pare di aver capito che non sono previsti in questo bando è un peccato perché c'erano gli interventi legati alla mobilità sostenibile e legare dal punto di vista della mobilità sostenibile zone periferiche della città con il centro quindi piste ciclabili eccetera sarebbe stato veramente tra l'altro con spese limitate a mio avviso sarebbe stato la ciliegina sulla torta è vero che ci sono strutture che non sono un altro aspetto importante e non ne abbiamo parlato in commissione lavori pubblici è vera è giusta e sensata l'osservazione che facevano alcuni consiglieri sulla questione che abbiamo già altre strutture che fanno attività diciamo legate a eventi a incontri eccetera e magari non sono pienamente utilizzate se qua facciamo un grosso investimento su una struttura che assume dei compiti che si possono sovrapporre allora bisognerebbe già pensare a qualcosa io ad esempio penserei che tutta la sala conferenza del polifunzionale o la sala piccola come vogliamo chiamarla diventi parte integrante della biblioteca con gli spazi richiesti da tanti anni in sala gioco non ne abbiamo parlato in commissione però è chiaro è chiaro per me quel passaggio e mi auguro che sia così e nel caso lo suggerisco questo perché gli interventi diventano a questo punto investimento e gli investimenti che faccio fare tramite i contributi di terzi raggiungono più obiettivi con un solo con un solo investimento grazie scusate grazie consigliere all'Asia poniamo in votazione sarà anche immediatamente esecutiva quindi facciamo due votazioni vuole parlare? prego mi scuso cliccavo per aprire ma in realtà era già partita la votazione sarò super veloce abbiamo visto i progetti com'è? ah sì ho visto i progetti insomma nella commissione personalmente mi sono mi sono mi sono insomma piaciuti molto una cosa che chiederei soprattutto nel progetto insomma in via Piuscurone di rendere tutto questo passaggio il più possibile diciamo anche un po' partecipato perché è un quartiere molto difficile interessante su cui lavorare e quindi non sia un progetto realizzato e vi portiamo questa struttura ma che possa essere insomma un po' comunicato è un po' reso partecipi insomma i cittadini del posto in questa riqualificazione insomma periferica l'altro punto importante è quello che ha detto Claudio è inerente insomma agli spazi aperti e io chiederei anche in questo caso nel campo insomma che si voglia realizzare di anche in questo caso fare molta attenzione a rendere il più possibile questi spazi aperti e pubblici e molto spesso non sembra tantissimi ragazzi pensano che siano campi completamente privati in realtà sono pubblici fondi pubblici e potrebbe essere molto importante insomma anche su questo punto renderlo il più possibile agibile accessibile ai cittadini spesso vanno a giocare in campi dove pagano e anche in questo caso siccome si potrebbe rivedere insomma anche la tariffa per alcune categorie di ragazzi giovani so che tantissime case delle case popolari vanno a giocare a volte per strada a volte scavalcando i muri dell'Edoardo Brizio nella scuola per giocare a pallone e quindi per tutte queste aree insomma anche un po' vicine al campo e che in un certo senso hanno anche difficoltà economica di poter giocare in un campo reale sintetico come può essere la Sporgente o quelli della Wisp potrebbe essere importante insomma vedere con un occhio di riguardo anche queste popolazioni che vivono lì vicino grazie allora conto fino a tre se non vedo mani alzate metto in votazione la delibera uno due tre va bene mettiamo in votazione ripeto ci saranno due votazioni siamo sempre quindici vero va bene come c'è la presenza per forza la presenza perché nove voti a favore sei astenuti quindi è vero compare astegiana negli astenuti sì sì poi prima della D e facciamo la dichiarazione prego consigliastegiano faccia pure la dichiarazione di voto sull'errore adesso dobbiamo prenotarci per la D attenzione alla manina bisogna schiacciare quando arriva la manina ancora uno benissimo c'è stato l'aiutino del vicino di banco molto bene possiamo votare sì possiamo votare ha fatto il pianista sull'oceano benissimo evviva come volete c'è ancora una delibera dopo pur di andare a caso allora prenotiamo la immediata eseguibilità adesso prenotiamo la si segnaliamo la presenza ancora due va bene si può votare sempre che arrivi sempre che arrivi la videata va bene bene votazione chiusa l'immediata eseguibilità è approvata con con se tanto mi da tanto sì ma finché non si vede dieci a cinque dieci favorevoli cinque astenuti passiamo all'ultima proposta all'ordine del giorno approvazione variante semplificata numero uno nel piano regolatore generale comunale articolo diecisette biscoma quattro legge regionale cinquantasei del settantasette successiva parola al sindaco allora credo che sia una delibera che mi dispiace passi così tardi però è molto importante è la prima variante semplificata che adottiamo con un meccanismo che la nuova legge regionale urbanistica regionale permette per quanto riguarda le attività produttive permette delle varianti semplificate che proprio per la metodologia che seguono hanno dei tempi che ovviamente permettono una risposta più agevole in questo caso è un intervento che valuto molto importante e molto positivo e cioè la possibilità da parte di un imprenditore agricolo di poter ampliare la sua la sua attività per permettere di accogliere un numero di capi mantenendo il problema del benessere animale che è una delle richieste che oggi da tempo ma nell'ambito delle richieste che vengono fatte dall'Unione Europea e più in generale del mantenimento della qualità e della resa dei capi la parte del benessere animale è molto importante questa ringrazio gli uffici per il lavoro svolto soprattutto per aver sperimentato questa prima a questa prima variante e ne seguiranno ne seguiranno altre credo che sia un importante risultato dal punto di vista urbanistico è un'importante risultato un'importante risposta che si dà dal punto di vista economico grazie al sindaco è uscito il consigliere Panero ok va bene consigliere all'Asia prego volevo volevo dire a riguardo di questa variante che chiedo scusa non della variante ma della proposta di delibera avevo lo voglio esplicitare in modo che diciamo rimanga verbalizzato la mia preoccupazione era di tipo di tipo formale nel senso che non avevo visto presenti gli allegati oggetto dell'approvazione della richiesta di approvazione della delibera che sono poi la relazione tecnica con la variazione dell'NTA le modifiche cartografiche eccetera allegate alla proposta di delibera questi documenti almeno io personalmente prima di andare in commissione urbanistica li ho visualizzati scaricandoli dal sito e indicato appunto dalla segretaria della commissione urbanistica e non ho visto tutte le parti riportate quindi tutti i documenti riportati e quindi ha avuto rassicurazioni che quello che stiamo votando perché quello che stiamo votando sono non tanto la delibera in sé ma sono gli allegati della delibera corrispondono a quanto sia stato pubblicato a partire dalla data del 4 dicembre 2017 sul sito amministrazione sulla parte del sito dell'amministrazione trasparente posso dire che voto favorevolmente la proposta di delibera grazie grazie a lei consigliere non vedo mani alzate e quindi se non ci sono interventi vorrei in votazione la delibera procedura prenotiamo sono 14 esatto presenti non c'è die no non c'è ditemi voi mettiamola così va bene ancora due ancora uno va bene allora approvato con 13 voti favorevoli e un astenuto quindi su richiesta della dirigente votiamo l'immediata eseguibilità 14 presenti va bene si vota va bene votazione chiusa stesso risultato 13 favorevoli e un astenuto prima di andar via vi voglio anticipare che domani o al massimo lunedì per quanto di competenza mia ma penso anche del consigliere Tripodi presidenti ambiente rispettivamente servizi appaltati ci sarà una convocazione delle due commissioni per il giorno lunedì 26 febbraio alle ore 17 e 30 grazie a tutti buonanotte